Scusate, signori consiglieri, per cortesia volete accomodarvi? Controllate per cortesia che le tessere siano inserite correttamente. Grazie. Bene, grazie. Signori, possiamo iniziare i lavori. Buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. C'è il numero legale. Dichiero aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori per la seduta i consiglieri. Giulia Bevilacqua, Walter Manzon, Mauro Tavella. Arriveranno in ritardo i consiglieri, no, non si preoccupi, non c'è molto da lavorare. Arriveranno in ritardo i consiglieri, Salvador e Colloni, mentre è assente il consigliere Maria Bonato. Comunico che, essenzio dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri. Qualora, entro la fine della seduta, non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Do la parola al sindaco. Prego. Signori, buonasera. Prima di iniziare le mie comunicazioni, come anticipato quando ci siamo incontrati con i capigruppo, vorrei ricordare due persone e far sì che il Consiglio Comunale sia vicino alle famiglie di queste due persone. La prima è Carlotta Meneghel, dipendente comunale, lavorava al Museo di Scienze Naturali di 40 anni, morta improvvisamente la scorsa settimana e penso che abbia lasciato la famiglia veramente in uno stato di prostrazione, visto l'incomprensibilità di questa morte. L'altro passaggio che volevo fare, e la vicinanza è, penso, anche dai nostri cuori, al ragazzo e la famiglia del ragazzo, Lorenzo Luca, morto qualche giorno fa in un incidente stradale a Pordenone. Avremo agio di condividere le informazioni quando le indagini saranno terminate, però questa sera, visto che il funerale è stato oggi pomeriggio, penso che come Consiglio fosse giusto e come città essere vicini alla famiglia di questo ragazzo di 19 anni. Passerei alle comunicazioni che riguardano due argomenti che sono stati al centro della nostra attenzione come città. La seconda, quando parlerò di Electrolux, negli ultimi mesi, evidentemente, non certo negli ultimi settimane. La prima, che vorrei affrontare subito, è quanto è successo, quanto è accaduto tra alcuni personaggi dipendenti del circo che era qui attendato, e alcuni degli animalisti. Vi dico prima la cronologia dei fatti e poi aggiungo dei commenti. Il tutto è avvenuto domenica 30 marzo. Era da alcuni giorni, c'è una precisa nota, diciamo, della questura che era stata informata delle manifestazioni che ci sarebbero state di fronte al circo da parte dell'organizzazione degli animalisti, ma il fatto è accaduto domenica 30 marzo, quando ormai, durante l'ultimo spettacolo della giornata, le cose si stavano di fatto ultimando. Alle 18.40, dopo un pomeriggio che aveva visto al solito gli animalisti far valere e dire le loro ragioni e alcune persone del circo rispondere, ma questo da lontano, senza arrivare a una vicinanza reale, alle 18.40, quando appunto gli aderenti alle associazioni animaliste si sono allontanati, alcune persone del circo Millennium le hanno raggiunte, c'è stato un violento tafferuglio, alcune persone sono state tirate fuori di fatto dalle macchine, quindi c'è stata una violenza particolarmente intensa, la polizia è intervenuta per cercare di derimere questo tafferuglio, prendendole anche, alla fine cinque animalisti sono finiti all'ospedale con prognosi varie, ma diciamo al massimo di sette giorni. Così quanto è stato comunicato in modo ufficiale dalla Questura a noi, facendo la cronologia, la Polizia di Stato ha proceduto a identificare alcuni circensi che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per lesioni personali e danneggiamento. Quindi questo dal punto di vista del normale giudizio è in corso, è in fase di istruttoria. Io voglio aggiungere e ripetere i commenti che avevo fatto, diciamo, a caldo. Noi come città, gli atti di violenza a noi come città non piacciono. Questi sono stati atti straordinariamente violenti, di tipo squadristico, tra l'altro in un'ora, in un momento in cui ormai le cose erano assolutamente sfumate, ho capito che è stato sottolineato una certa, come si dice, durante la settimana si era maturato da parte delle persone che lavoravano nel circo un senso di frustrazione sentendo continuamente questi slogan, ma questo non giustifica affatto la violenza che è stata manifestata da questi signori. e aggiungo che non ritengo che sia da stigmatizzare lo stesso tipo di violenza che nei social network è stata dedicata alle varie associazioni animaliste. Quindi di fatto c'è una doppia solidarietà perché c'è una violenza forte fisica che penso sia stata anche ampiamente documentata dalla Questura, ma ce n'è stata un'altra sulle pagine e sulle videate di Facebook che andava secondo me molto molto al di là di un dibattito civile. Bisogna dirsi le cose fino in fondo, durante le settimane di presidio degli animalisti sono state segnalate dei comportamenti anche da parte di alcune di queste persone, di diciamo fisiche o almeno abbastanza fisiche nei confronti di famiglie che volevano portare i bambini a vedere lo spettacolo. Ecco, io so che questo non fa parte dello stile delle associazioni, però sarà meglio che le associazioni stesse, nel momento in cui desiderano manifestare le loro opinioni, che peraltro erano state ben, diciamo, descritte con la Questura, era stato fatto un vero e proprio protocollo, come si fa sempre nelle manifestazioni, l'invito è che se le ragioni devono essere sostenute e devono essere discusse, devono essere discusse rimanendo sempre e comunque di dentro di norme di comportamento civile adottate da tutti. Certo, insisto e concludo, su questo fronte non può essere paragonata la violenza fisica che alla fine si è manifestata quella domenica con il fatto di lanciarsi slogan verbali da una parte dall'altra, ma non penso che possiamo accettare che fisicamente poi si blocchino le persone se alla fine questi spettacoli dal punto di vista della legge sono autorizzati e noi come Comune abbiamo fatto tutte le verifiche possibili con gli organismi competenti per stabilire che queste norme fossero seguite fino in fondo oppure no. Questa era la prima comunicazione, quindi i fatti con i commenti. Passerei anche alla seconda, che riguarda l'Electrolux. Allora, l'Electrolux ha... Scusate perché voglio usare costantemente il telefonino durante il nostro consiglio. Posso continuare? Grazie. Dunque, esattamente in questo momento è in corso il primo incontro ufficiale tra tutte le parti che sono attorno al tavolo per la discussione di Electrolux. Dico il primo perché alla fine, quelli precedenti, avevano avuto dei momenti, sì, di presenza, ma solamente di alcune delle parti. Quello, per intenderci, il primo che il nuovo governo ha fatto con i due ministri sull'argomento hanno riguardato semplicemente le regioni e il governo stesso. Da lì sono emerse delle indicazioni, ma di fatto non tutte le parti sono state chiamate per condividere lo stesso livello di informazione e lo stesso livello di proposta da parte di Electrolux. Lo sottolineo questo perché è vero che le anticipazioni ci sono state. Ci sono stati dei momenti in cui l'azienda ha incontrato le organizzazioni sindacali, ha, quindi ancora prima del 19 marzo, ha spiegato questo nuovo piano industriale che ha superato quello inizialmente presentato, il nuovo piano industriale riguarda anche Porcia e ne prevede il mantenimento, ma con un decurtamento della produzione significativa e quindi delle persone che ci lavorano significativo. Quindi finalmente oggi l'incontro rappresenta una specie di pietra miliare nella discussione perché al termine di questo incontro un preciso modo di svolgere i passi successivi verrà definito durante questo incontro. Intendo dire che tutti riceveranno in base alla nuova illustrazione del piano industriale di Electrolux sia alla parte sindacale che alle regioni, che al governo, si stabilirà una serie di compiti che poi le varie parti dovranno svolgere a casa. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare? Il tempo non è che sia passato in vano perché alcune indicazioni da parte del governo o da parte della nostra regione sono già state date. Quindi il governo ha rimesso in campo la decontribuzione dei contratti di solidarietà. Vi ricordo che questo era dal 2005 che non veniva di nuovo finanziato. Non è stata, questo bisogna anche che ce lo diciamo chiaramente, non è stata stanziata una cifra imponente, sono solo 15 milioni di euro a livello nazionale, anche se sono stati fissati dei criteri estremamente stringenti con cui questa decontribuzione dei contratti di solidarietà verrà poi erogata nei vari casi che verranno esaminati. Questo è il governo. In campo regionale voi sapete che con il decreto la regione si è impegnata sul fronte dello sviluppo e ha questo pacchetto che di fatto mira ad una decontribuzione dell'IRAP ma è importante ad un rilancio delle attività di ricerca e sviluppo. Questo non solo per Electrolux, questo è stato fatto in generale per rilanciare l'economia e dare una mano alle nostre imprese. Mi fermo un attimo sulla parte dell'innovazione, della ricerca e sviluppo perché questa è un'arma che ha anche a disposizione il governo che quindi tra le cose che ha annunciato è l'intenzione di sovvenzionare e di aiutare la ricerca e sviluppo purché, attenzione, questo vale sia per il governo che per la regione e questo sia basato su progetti reali e concreti che possano essere condivisi tra aziende, in questo caso azienda, Electrolux e lo Stato piuttosto che la regione. E' questo un nuovo strato di aiuti che è stato messo in campo che è particolarmente attrattivo perché la somma dei contributi per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo governo e regioni può portare anche di fatto alla copertura completa degli investimenti necessari per nuovi prodotti. Allora, qual è la parte positiva del messaggio? Che effettivamente dal punto di vista del impegno del governo e impegno almeno della nostra regione sul fronte Electrolux di cose ne sono state fatte. Certo che adesso è l'incontro di oggi che stabilisce esattamente il percorso con cui questi aiuti verranno impiegati le modalità con cui verranno messi in campo e soprattutto ci si attende da Electrolux nella esplicitazione del piano industriale una chiarezza sia in termini di durata nel tempo di questo piano che di investimenti nei nuovi prodotti consistente su cui potersi effettivamente impegnare da entrambe le parti. Contrattazioni cosiddette di secondo livello cioè che riguardano orari turni eccetera saranno sicuramente parte della discussione nei momenti successivi a questo incontro di governo e saranno molto specifici questo è un peccato non ve lo nascondo saranno molto specifici perché i piani industriali Electrolux sono diversi stabilimento per stabilimento quindi è chiaro che non sempre le stesse soluzioni da un punto di vista industriale da un punto di vista operativo sono generalizzabili ad altri quindi esigeranno comunque una contrattazione più fine diciamo a livello locale. Incrociamo le dita lo so che dice una frase generica no bisogna farlo sul serio io penso che l'impegno da parte di tutti ci sia sono costantemente in contatto per capire ovviamente hanno cominciato in ritardo l'incontro per cui ci sarà un accavallamento delle nostre discussioni con quello che ci arriverà da Roma questo è al momento quindi lo stato della nostra discussione io credo che non saremmo comunque arrivati ve l'ho ripetuto già nei precedenti consigli non saremmo arrivati a questo punto di discussione per quello che ci riguarda se la compattezza di tutti quelli che sono coinvolti nella vicenda Electrolux qui nel nostro territorio non fosse stata all'altezza e non avesse mostrato questa solidità che è nei fatti insomma è quello che è accaduto come altresì e questo credo che ci faccia onore come regioni nonostante qualche passaggio un po' alimentata da qualche battuta sui giornali di fatto la compattezza e l'allineamento tra le regioni c'è stato voi sapete che insomma nella dicenda dell'idea standard non si può dire che questo si fosse manifestato allo stesso livello ecco sono questi due ingredienti che hanno e questo lo si può cogliere leggendo un po' qualche stampa specializzata internazionale che ha lasciato molto stupiti la compattezza e la reazione per far capire che questo era un problema non di livello locale non di livello Electrolux ma un problema più generale di paese ed è il motivo e qua concludo per cui alla fine la manifestazione nazionale del primo maggio del lavoro sarà a Pordenone perché si è colto il fatto che questa istanza sia diventata così simbolica dal punto di vista del confronto tra maestranze e azienda quindi tra noi e l'azienda parliamoci chiaro da far sì che questo diventasse il luogo simbolico scelto per la manifestazione nazionale del primo maggio nel 2014 grazie grazie signor sindaco bene vedo iscritto il consiglio Giannelli prego da 5 minuti di tempo per l'intervento signor sindaco avevo deciso di non intervenire un po' perché in qualche modo gli amici sanno che la questione animalista mi è molto cara però lei ha detto due cose dal mio punto di vista gravi e non corrette la prima che è quella che gli animalisti hanno toccato hanno fatto delle azioni fisiche nei confronti di questa gente del cerco e la seconda sì sì io ho sentito così dopo e la seconda comunque che ha rivolto un invito a questi animalisti io richiamo così diciamo ai rappresentanti delle associazioni animaliste un invito a comportarsi bene sbagliato hanno gli uomini del cerco però anche voi dovete comportarli bene che è totalmente fuori dalle righe e le spiego perché e lei l'ha anche detto perché nessuna forma di violenza neanche proprio quella tirata per i capelli è giustificabile ora sembra una stupidaggine però io ho avuto modo nella mia recente esperienza di trovarmi chiuso in una stanza con un ordine dei medici caro signore lei deve camminare avanti e indietro non può stare disteso a letto se no muore allora passavo ore e ore a camminare avanti e indietro in una stanza e chi non ha cuore con forza alla questione del povero animale lo invito a passare dieci minuti non di più non tutta la vita a fare venti passi avanti e venti passi indietro esiste una situazione dopo questi dieci minuti che uno dice io preferisco morire che non passare la vita certo arrivava un momento in cui mi dicevano e c'è anche il corridoio dell'ospedale cioè l'arena del circo wow e allora andavo in corridoio e al posto di essere venti i passi erano cento li contavo posso dirvi che un corridoio che conosco bene è lungo centocinquanto un passi proprio ecco allora prima di dire quello che mi è venuto in mente dopo l'uscita degli animalisti non volevo intervenire vorrei farvi riflettere su questo voi provate a passare cinque minuti della vostra vita andando avanti indietro in uno spazio chiuso anche le donne alla fine dell'ottocento ai primi del novecento le donne che lottavano perché potessero avere il voto perché potessero avere una dignità uguale agli uomini venivano derise le prime femministe non quelle che non sopportavo le prime dell'ottocento primi del novecento i primi che si sono messi a rendere partecipe la gente dei diritti dei diritti dei neri dei neri degli uomini di colore anche quelli venivano derisi e se qualche volta succedeva un incidente è però anche voi avete provocato e anche gli ambientalisti stessi quelli che lottano che vanno a fermare le azioni dell'uomo sui mari lungo le coste che lavorano e si impegnano anche quelli erano dei pionieri così come questa gente oggi rappresenta i pionieri rispetto a un problema che non è secondario perché un essere vivente è sempre un essere vivente allora io sindaco mi aspettavo da lei mi scusi lei sa che io la stimo molto e mi è anche simpatico però in questo momento io mi aspettavo una sola parola comprensione sostegno solidarietà per quello che è successo questa gente disinteressata 3 cosa vuol dire comprensione sostegno solidarietà questa gente che è totalmente disinteressata quello che fa lo fa solo e soltanto perché ama queste povere bestie grazie consigliere tu sì non vedo nessun altro iscritto io no non è possibile consigliere Dalmas un intervento per gruppo no 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 l'intervento abbiamo l'intervento è uno solo sulla lettera Lux Presidente ma scherza ma cosa sta dicendo Presidente ma scherza due argomenti comunicazioni del sindaco plurale ma sta scherzando la commissione Capigruppo no no l'abbiamo neanche verbalizzato non ricordo più la mia parola contro la sua ma sta scherzando ma non lo siamo consigliere Giannelli la regola è questa la regola è questa sulle comunicazioni del sindaco c'è la possibilità di un intervento per gruppo di 5 minuti non un intervento per comunicazione questa è la regola se alla Capigruppo abbiamo deciso questo faccelo che io il segretario mi dice che abbiamo deciso questo no no sì va bene allora scusi basta perfetto allora allora scusi dal momento che il globale non era scritto mi ero dimenticato ma va bene allora possiamo intendere due interventi sui due argomenti allora lei ha esaurito il primo il primo argomento il secondo argomento chi lo deve affrontare Dalmas consigliere Dalmas prego vero sempre queste questioni salvo poi a fermare il contrario consigliere Dalmas io sono severo perché le regole sono a tutela della minoranza soprattutto come lei ben sa sì ma ecco e allora stia tranquillo che fichero lei è una botta di ferro sull'intervento del sindaco io non non ruberò 5 minuti starà molto meno e caro sindaco lei indubbiamente in tutta questa vicenda retro lux è sempre stato in prima linea ha dimostrato la presenza dell'istituzione nel Comune di Pordenone la solidarietà della città che abbiamo manifestato poi tutti in diversi ordini del giorno da quando è nata insomma questa crisi che in realtà ha delle origini origini ben più più antiche ben più antiche e probabilmente c'è un'intera classe dirigente un'intera classe dirigente che poi è stata dentro questa città occupato diversi livelli che sembrava non fosse parte di quel sistema di governo che non capisse dove si stava orientando quel tipo di mercato e dove probabilmente sarebbero andate le produzioni non è che la delocalizzazione nasce nell'ottobre del 2013 probabilmente è una questione che nasce ben prima cioè noi discutiamo di questo quando in Polonia sono già eretti gli stabilimenti quando probabilmente la questione del costo del lavoro e la questione del costo dell'energia sono questioni che conosciamo e sono una delle difficoltà che è il nostro sistema paese per essere competitivo ma io non entro in questioni che sono più grandi di me però una cosa mi preme dire la Solerzia con la quale lei scientificamente viene qui a raccontarci che da Roma a Trieste il governo amico produce dei risultati concreti che non ci sono spiegatelo ai vari dirigenti nazionali di partito di sindacato che sono venuti qui in questi giorni i quali danno una lettura della vicenda e non è che loro signori non siano informati sulla vicenda Electrolux e non la conoscono qui è venuta la commissione parlamentare lavoro presieduta da un ex ministro del lavoro Damiano in città ed erano presenti tutti i gruppi nazionali e rispetto a questo non mi pare sia seguito qualcosa che va proprio nella direzione che lei dice ci sono interrogazioni depositate da tempo alla Camera al Senato trasversali dove il ministro di turno si rifiuta di rispondere sulla questione Electrolux allora io posso capire che lei avesse un atteggiamento come dire tiepido nei confronti dell'ex presidente Letta quando allora si diceva che la questione era del governo e provocatoriamente dicevamo deve essere il presidente del consiglio che vola e va a trovare la famiglia proprietaria affinché si definiscano delle condizioni per poter salvare se ci sono queste condizioni in Electrolux questo non è stato fatto la reazione a questo è un piano piaccia o no che è stato presentato dall'Unione Industriale e credo con firme non dico trasversali ma proprio unilaterale dove dentro ci sono giuslavoristi ci sono imprenditori di successo qualcuno che ha anche governato questa regione che ha dato delle indicazioni si è bocciata subito quella soluzione dicendo no non funziona salvo poi scoprire che il nuovo ministro presidente della lega delle cooperative invece propone una soluzione che va in quella direzione per la vicenda di idea standard sulla vicenda di idea standard il vice presidente di questa regione aveva annunciato da tempo che praticamente avevamo il cosiddetto investitore il quale è apparso e riapparso nella stampa locale salvo poi scoprire che si è dileguato non ci sta più ma allora qual è il livello dove si decide qual è il livello e la qualità delle trattative che state facendo ecco perché vede al di là di quello che lei ha detto l'elettroluso non si risolve con i 10 milioni di euro che mette a disposizione la regione in qualche modo in qualche forma non si risolve immaginando che il vincolo dei cosiddetti aiuti di stato venga superato attraverso una normativa complicatissima e cioè attraverso il cosiddetto richiamo al principio delle innovazioni ci sono questioni strutturali molto pesanti sulle quali la responsabilità e probabilmente la responsabilità di tutti perché io non l'attribuisco solo finisco presidente ad una parte politica però oggi voi avete il governo da trieste e da roma noi vogliamo capire al di là degli annunci e dei richiami alla compattezza che lei ha fatto come stanno esattamente le cose perché non ce l'avete detto grazie consigliere consigliere tomasello prego grazie presidente grazie signor sindaco ringrazio a nome anche del mio gruppo per averci informato sui fatti di violenza avvenuti nei giorni scorsi appunto nei pressi della fiera campionare dove appunto era attendato il circo anche noi del partito democratico esprimiamo la nostra solidarietà se questo può far contento il consigliere Giannelli a tutti quei ragazzi che sono stati picchiati respingiamo ogni forma di violenza signor sindaco e certamente ancora di più quando gli atti squadriti sono compiuti contro chi sta esercitando il proprio diritto di manifestare e di esprimere la propria opinione voglio ribadirlo perché non ci siano frantendimenti ogni forma di violenza va sempre condannata gli atti squadristi che ci sono stati nei giorni scorsi non possono essere tollerati in questa nostra città ritengo però corretto estendere anche a nome del mio gruppo la solidarietà anche a quei genitori che mentre si recavano al circo con i propri figli così mi è stato riferito da più persone sono stati offesi e screditati palesemente davanti ai propri figli circa la loro capacità genitoriale dell'impartire un'idonea educazione e vorrei esprimere la mia solidarietà a tutti quei bambini che a seguito dei fatti accaduti e i fatti di violenza accaduti non sono potuti andare neanche al circo non sono stati portati al circo potrà sembrare una validità ma è successo anche questo ritengo che anche questi fatti devono essere stigmatizzati in quanto le condotte tenute da alcuni cittadini nei confronti dei cittadini che legittimamente andavano a vedere uno spettacolo non possono trovare giustificazione alcuna per conseguenza di una legittima manifestazione per quanto concerne il comportamento dell'amministrazione mi è sembrato più che corretto signor sindaco la posizione della politica della giunta mi è sembrata ben chiara però dinanza di una sentenza del tar certamente questa non poteva essere ignorata e lo spettacolo del circo come ho letto non poteva certamente essere fermato ritengo che in ogni caso la giunta l'amministrazione ha cercato in tutti i modi di mediare tra le posizioni confliggenti confermando così Pordenone città aperta ed accogliente poi per quanto riguarda faccio insieme anche la per quanto riguarda la comunicazione dell'Electrolux noi la ringraziamo come sempre lei signor sindaco è sempre puntuale cerchiamo di non perdere tempo allora la ringraziamo perché lei sempre in modo puntuale ci ha informato della situazione per quanto riguarda l'andamento delle trattative della fabbrica di Porcia l'incontro di oggi a Roma sicuramente servirà a verificare le intenzioni dell'azienda e soprattutto le disponibilità anche economiche del governo sugli sgravi dei contratti di solidarietà vede sappiamo noi del Partito Democratico che il governo si è impegnato e ha lavorato bene in queste settimane la proposta sulla decontribuzione dei contratti di solidarietà è un primo passo rispetto alle richieste dell'azienda siamo consapevoli che ancora è sufficiente ma credo che sia il tavolo giusto per fare il punto della situazione e definire il tutto domani comunque speriamo di avere notizie più precise speriamo ancora più rassicuranti una cosa vorrei ribadire ma anche lei signor sindaco l'ha detto alla fine della sua comunicazione ha anche tenuto conto di quello che è successo ultimamente nella vicenda di Astandar è un appello che ho già fatto in precedenza ma che ho avuto l'impressione sia poco stato seguito dai vari livelli istituzionali che ci rappresentano io vorrei che si evitasse l'errore più grande che potrebbe essere fatto in questo momento per fronteggiare la crisi economica e del lavoro cioè l'errore più grave che potrebbe essere fatto è quello di rompere il fronte unitario quindi quello di andare in ordine sparso come è successo ultimamente anche per il caso per ideal standard a combattere per vincere una battaglia contro la crisi del lavoro che già uniti sarà molto difficile è una sconfitta secondo me sicura guai a muoversi su tavoli separati secondo me sarebbe una catastrofe quindi auspichiamo e così come ha detto lei signor sindaco che è un fronte comune da parte di tutte le istituzioni di qualsiasi livello e anche con un'industria delle forze sindacali per cercare di riuscire così a vincere questa difficile battaglia grazie grazie consigliere consigliere Pedicini prego sì grazie presidente intervengo molto velocemente sui due argomenti che il sindaco ha portato come comunicazione la prima è la questione del circo e di quelli che sono stati gli incidenti che si sono verificati anche qui io vedo molta ipocrisia sul modo di anche da parte di alcuni consiglieri di proporre la questione perché se è vero come è vero che si è arrivati poi a un fatto grave come quello di arrivare alle mani quindi ad una violenza manifesta e prima c'è stata un'altra violenza che era nei confronti di chi andava a vedere liberamente lo spettacolo voi capite che forse un errore nella gestione dell'ordine pubblico c'è stato in questa città chi ha autorizzato quelle manifestazioni in quel luogo in quella posizione sicuramente si deve assumere la responsabilità di quello che è accaduto non possiamo pensare che è giusto che tutti possano liberamente manifestare ma voi capite che c'è modo in modo anche per manifestare le proprie idee in un senso e nell'altro e chi ha il compito di regolamentare l'ordine pubblico queste cose le deve prevedere e deve evitare che accadano perché è proprio il suo compito fare questo se questo non lo ha fatto qualcuno si deve assumere le sue responsabilità oggi far finta che tutto quanto sia passato e che stiamo qui solo a fare delle condanne non mi sembra il caso quindi solidarietà con tutti però anche precisa responsabilità e su questo a mio avviso non possiamo non sottolinearlo per quanto riguarda la vicenda Electrolux molto velocemente io apprezzo signor Sina con le sue comunicazioni non romperemo certo la solidarietà che abbiamo già espresso sul documento si deve sapere che questa città è una città solidale su questo e chiede delle risposte chiare però signor Sindaco noi dobbiamo anche dire con estrema chiarezza che non vorrei che noi ricevessimo delle risposte che servono solo per accontentarci tra virgolette politicamente o per far vedere che risolviamo qualcosa abbiamo tutti la memoria di quello che è stato negli anni la Fiat per esempio e le varie vertenze sindacali che ci sono state e quanto è costato allo Stato tutti ricordate l'avvertenza Seleco per esempio che è proprio interessato questa nostra città come è andata a finire quanti soldi sono stati spesi dalla collettività allora il piano aziendale è fondamentale bisogna capire se effettivamente questa volontà da parte dell'Electus è rilanciare lo stabilimento di Porcia o è solamente un modo per portare a casa dei soldi prima di andarsene e quindi rinviare solamente e su questo non dobbiamo farci prendere da una facile anche qui propaganda politica pensando che basti semplicemente quattro promesse o perché poi la paghiamo chiaramente paghiamo con soldi pubblici quello che non abbiamo noi dobbiamo avere una prospettiva chiara dobbiamo chiedere all'Electus siamo disposti anche a fare dei sacrifici a livello pubblico ma dobbiamo anche avere delle risposte chiare e che vadano con impegni precisi nel tempo perché di aziende che vengono qui a trattare che approfittano della situazione che portano a casa dei benefici economici e poi ci abbandonano ne abbiamo già viste tante non vorrei che anche questa cosa che questa volta Electus Idea Standard e altre siano la solito film già visto e se dobbiamo ancora rivedere questo film non mi sembra proprio il caso ecco su questo non dobbiamo transiggere dobbiamo essere chiari chiedere un piano aziendale che dia garanzie a questo nostro territorio e poi questi soldi e concludo questi soldi pubblici vedete cerco di stare meno dei 5 minuti i soldi pubblici che dobbiamo spendere che siano effettivamente spesi per rilanciare la produttività del nostro territorio e il manufatturiero sul nostro territorio perché abbiamo la possibilità di farlo e se proprio li dobbiamo spendere è inutile regalarli a chi viene qui per approfittare di una situazione grazie grazie consigliere consigliere Piccinato prego grazie presidente intervengo un attimo sulla questione del circo intanto ringraziando l'intervento del consigliere Tomasello che ho condiviso e anche l'intervento del consigliere Pedicini che ho condiviso stiamo veramente andando a livelli intollerabili su determinate questioni nello scontro ideologico che sta avvenendo in diverse questioni l'evento che era sicuramente legale e come tale aveva tutto il diritto di di svolgersi in maniera tranquilla e regolare è chiaro che nel momento in cui si vanno ad alzare i toni in una maniera indecorosa ho avuto anch'io diverse segnalazioni di cittadini che sono stati pesantemente insultati di fronte ai propri figli dove in un luogo nel quale degli animali addestrati che comunque vengono trattati meglio in certi casi che in alcune case di alcuni cittadini assistere a uno spettacolo così indegno è chiaro che qualsiasi atto di violenza deve essere sicuramente represso in maniera adeguata perché non va tollerata la violenza e non può essere tollerata la violenza però arrivare a uno scontro così dove non per il bene degli animali ma a questo punto mi viene da pensare per un non rispetto degli altri esseri umani che popolano il nostro ambiente a questo punto ci si domanda poi quale sia il passo successivo quello di andare a protestare nelle case dei cittadini che educano i propri animali secondo il proprio credo e a quel punto magari anche andare a protestare di come ogni famiglia educa il proprio figlio perché a quel punto qualcuno avrà comunque da ridire qualcosa mentre poi ci troviamo con delle situazioni di disagio estremo di altri cittadini e perché no di disagio estremo degli animali abbandonati in canili dove stanno sicuramente molto più male che al circo io voglio bene agli animali ma qui si sta veramente esagerando cioè siamo andati veramente al di là di qualunque idea di giustizia nei confronti dei cittadini delle libertà dei cittadini ma anche del benessere degli animali perché un conto è volere bene degli animali e un conto è quello di criticare e insultare pesantemente altre persone silenzio per cortesia no scusi no scusi lei non può interrompere per cortesia ripeto che qualsiasi tipo di violenza è sbagliata grazie consigliere Piccinato consigliere Pasutto prego grazie presidente parto dalle dalle ultime parole del consigliere Piccinato per manifestare anche da parte nostra la contrarietà a ogni tipo di violenza volevo ringraziare il signor sindaco per la decisione con la quale è intervenuto su questo tema che ha visto come dire succedere degli eventi insomma che sono stati direi raccapriccianti rispetto a rispetto a un evento che doveva essere in qualche maniera anche di gioco di divertimento chi usa la violenza ha sempre torto comunque io volevo però su questo piano anche porre una riflessione sull'evento del circo e dell'utilizzo degli animali come attrazione e mi domandavo se non fosse da perseguire l'intento di svolgere spettacoli con l'assenza degli animali perché se il circo un tempo aveva valore didattico per le giovani generazioni che non avevano mai visto gli elefanti le giraffe eccetera oggi la tecnologia viene in aiuto a queste esigenze didattiche di conoscenza con immagini documentari eccetera allora senza nulla togliere ai lavoratori di questi spettacoli che hanno diritto di esercitare la loro professione io credo che come società in generale dobbiamo riflettere sull'opportunità di continuare a utilizzare animali tenuti in situazioni come dire di vita costretti a gabbie costretti a movimenti non loro naturali per cui signor sindaco ancora grazie per la precisione con cui è intervenuto su questo fatto e devo ringraziarla anche per per quanto riguarda l'intervento su Electrolux ha detto una frase la compattezza di tutti noi deve essere l'elemento che fa sì che non ci sia abbassi che non si abbassi il tiro sull'attenzione a questo grosso problema territoriale che non riguarda solo i lavoratori di Electrolux ma riguarda i lavoratori di Ideal Standard e di conseguenza le famiglie loro connesse quindi il territorio di Pordenone della provincia di Pordenone e quindi anche qui chiedo che si continui appunto a mantenere compattezza e attenzione che nulla sfuga insomma a queste e chiedere responsabilità a chi deve assolutamente darle per questo territorio che ha dato tanto alle aziende la gente di queste zone qua hanno lavorato sodo per lo sviluppo di questa città grazie consigliere Ribetti prego grazie grazie presidente intervengo intervengo sulle comunicazioni del sindaco cercando cercando un difficile equilibrismo tra quello tra quello che è stato detto perché se mi devo associare a quello che mi sembra di aver colto da tutti i colleghi cioè circa il fatto che la violenza debba andare sempre condannata e credo che su questo nessuno possa avere dei dubbi non posso però restare indifferente quando sento alcune cose io sindaco prendo atto di quello che lei ha detto lei prima ci ha riportato l'informativa della questura io non ero presente ai fatti quindi non ho assolutamente motivo di dubitare della completezza dell'informativa della questura quindi degli accadimenti dei fatti quindi se dei colpevoli se qualche persona si è resa responsabile di atti di violenza è giusto che venga deferita l'autorità giudiziaria e ne paghi le conseguenze in tutte le sedi ecco quindi su quello non voglio spendere tante altre parole ritengo altrettanto però degno degna dimensione e di stigmatizzazione se così si può dire quanto se questo è accaduto ripeto non ero presente il fatto che siano state anche prese a parole insultati chiamiamo usiamo il termine che vogliamo le persone che si recavano a quegli spettacoli spettacoli che qualcuno ha evidenziato ha torto o ha ragione perché io non entro nella diatriba né nella disputa se sia corretto o non corretto la presenza del circo o meno allo Stato si parla di spettacoli che sono autorizzati quindi io ritengo che sia corretto che se questi spettacoli possono svolgersi anche anche la libertà di coloro che vogliono recarsi a vedere questi spettacoli debba essere garantita e quindi qui io mi devo ricollegare a quanto evidenziato dal consigliere Pedicini che mi ha preceduto se delle informative della questura c'erano state che potevano preavvertire il pericolo diciamo così di contatto il pericolo di tensioni forse sarebbe stato sarebbe stato opportuno pensare e magari agire per tempo piuttosto che poi stare qui a contare tra virgolette a leccarsi referite o a raccontarci quello che è successo quindi io ritengo che da questo punto di vista qualcuno delle responsabilità deve avere e quindi dovrà rispondere anche questo qualcuno nel sedi più appropriati ripeto senza voler voler ulteriormente spendere parole perché vede il sindaco lei prima ha detto qualcuno del gruppo di maggioranza ha detto Pordenone è città accogliente ecco a me piacerebbe pensare come Pordenone è città libera dove ognuno è libero di manifestare le proprie idee e di vivere quelle che sono le proprie passioni perché credo che prima di tutto ci sia la libertà di ognuno di noi gli altri possono non condividere gli altri possono legittimamente dissentire protestare per carità non si deve mai arrivare alle mani poi sindaco ecco io volevo giusto aprire un inciso perché stavamo commentando e sono successi fatti gravi è successo un fatto grave quello del circo però io vorrei che mi sarebbe piaciuto come commentavamo prima con il collega Loperfido che magari due parole lo so che non riguardano Pordenone città ma riguardano la nostra provincia la provincia di cui siamo ancora per qualche ora credo per qualche minuto siamo il capoluogo il fatto degli OGM di Vivaro perché io non credo che un fatto sia grave solo se accade a Pordenone ecco io ritengo che quei fatti che sono stati tacciati per avvenimenti squadristi ecco diciamo che sono avvenuti anche in zone non molto lontano da noi con altrettanta violenza e con altrettanta diciamo cattiveria quindi io credo che due parole da parte sua anche su questo forse sarebbero state opportune non fosse altro che vanno in continuum con quello che era successo a Pordenone quindi ritengo che i fatti di violenza devono essere deprecati in qualsiasi parte succedano soprattutto della provincia brevemente su Eletrolux Sindaco io ritengo io ritengo che se abbiamo non posso abbiamo concordato tutti all'inizio sul fatto che forse se qualcosa potevamo fare poteva arrivare dal fatto di essere uniti di dare un'idea di unità come classe chiamiamola classe politica classe dirigente a ogni livello io credo che all'inizio forse le cose veramente erano partite così e più di qualcuno ci credeva ultimamente tanto per quanto riguarda forse di più la questione della standard che la questione dell'Eletrolux mi sembra magari di vedere che ci sono dei tentativi di fuga in avanti di qualcuno magari per tra virgolette accapparrarsi i meriti così si può dire di qualche salvataggio di qualcosa che possa arrivare ecco io quindi non posso fare altro da parte mia qualcuno ha ricordato prima noi siamo semplicemente minoranza quindi avete tutta la filiera del potere noi non possiamo fare altro che cercare di lanciare un ulteriore appello all'unità cioè che anche magari diverse anime dello stesso partito che magari può muovere meglio le pedine rispetto a noi dell'opposizione si ricordi di quanto ce l'avano detto all'inizio niente fuga in avanti cerchiamo di lavorare tutti dalla stessa parte per portare a casa il risultato perché credo che se il risultato arriva il risultato che va a vantaggio di tutta la nostra area tutta la nostra zona e di certo non andrà merito di chi ha fatto sedere qualcuno a un tavolo rispetto a un altro soprattutto quando i meriti poi cadono all'interno dello stesso partito perché è triste vedere due personaggi dello stesso partito che vanno a farsi la guerra perché porta a casa il risultato grazie grazie consigliere Ribetti consigliere Freschi prego grazie grazie presidente intervengo brevemente sulle due comunicazioni che il sindaco ha dato ringrazio il sindaco per l'esposizione dei fatti accaduti al circo ed esprimo anche da parte nostra tutta la solidarietà a coloro i quali sono state vittime di atti e di violenza la violenza va in ogni caso e in ogni momento condannata in quanto non è con la violenza che si costruisce ma si costruisce con il dialogo e pertanto penso che le ragioni degli uni e degli altri debbono essere sempre messe attorno a un tavolo e attorno a quel tavolo si discutono senza trascendere in atti che poi portano a quanto è accaduto e quanto è accaduto ha colpito particolarmente la cittadinanza la nostra città che è una città aperta una città tollerante una città accogliente però dobbiamo anche tenere presente che la libertà di manifestazione delle persone termina dove inizia la libertà di manifestazione degli altri per cui le due cose devono andare avanti di pari passo e non devono assolutamente trascendere non entro nel merito delle posizioni ma entro nel merito del fatto cioè della violenza la violenza deve essere sempre e comunque condannata perché non è un modo e un metodo per agire è un metodo primitivo e come tale rimane per cui anche i fatti a cui faceva riferimento il consigliere Ribetti anche quelli sono stati così particolarmente forti e con questi con questi sentimenti ecco chiudo questo tipo di intervento sulla condanna e sulla solidarietà sulla condanna della violenza e sulla solidarietà a coloro i quali l'hanno subita con la speranza che in questa città non si debbano assolutamente ripetere fatti simili per quanto riguarda il discorso dell'Electrolux beh in questo consiglio comunale ne abbiamo già parlato altre volte e penso che ne condivido le parole del sindaco che se questa sera se quest'oggi c'è un tavolo completo di contrattazione penso che debba essere sottolineato il fatto che il tempo non è passato in vano io capisco che qualcuno può in qualche modo chiedere che ci siano rassicurazioni ma capisco anche che la vicenda è piuttosto è piuttosto complicata io spero che il fronte compatto che invitavamo ad esserci da parte delle regioni quando ne abbiamo parlato mesi fa in questo contesto che questo fronte compatto sia stato quel fronte che in qualche modo ha aiutato a comporre un tavolo abbastanza articolato e penso che il ruolo che ha svolto il sindaco di Pordenone sia sempre stato un ruolo di presenza un ruolo attivo un ruolo anche di stimolo verso coloro i quali erano chiamati ai tavoli istituzionali c'è stato un percorso molto antalenante anche da parte del governo diciamo da parte di chi si è succeduto a ricoprire le cariche che in qualche modo possono andare in qualche modo in aiuto a questo tipo di soluzione noi ci auguriamo tutti che ci sia una soluzione concreta una soluzione che abbia le gambe per poter camminare che non sia solo un tampone ad una situazione momentanea ma che abbia una prospettiva di lungo respiro già lei signor sindaco faceva un passaggio sul fatto che questo fronte potrebbe avere un qualche momento di debolezza se si dovesse passare per cui se si passa vuol dire che qualcosa si è già fatto se si dovesse passare alla contrattazione di secondo livello ecco questo può essere un argomento su cui prestare particolare attenzione perché gli stabilimenti sono in realtà in regioni diverse per cui questo fronte delle regioni potrebbe essere in qualche modo diviso potrebbe comportarsi in maniera diversificata ecco questo è un aspetto sul quale dovremmo stare molto attenti però ci auguriamo che prima venga risolto l'altro cioè quello di definire un percorso credibile un percorso che abbia i numeri che abbia la compattezza che abbia quel fronte comune a cui lei si riferiva e che possa in qualche modo portare a una soluzione questo gravosissimo problema perché non riguarda solo Electrolux ma riguarda anche tutto l'indotto della nostra regione riguarda tutta una serie di altre aziende che con Electrolux collaborano certamente sull'altro fronte c'è l'aspetto di la standard che ci preoccupa ancora e che speriamo possa trovare anche questo una soluzione grazie grazie consigliere freschi consigliere bianchini prego grazie presidente sindaco assessori colleghi due premesse prima dell'intervento una premessa che credo si è conosciuta ormai da tutti insomma questa amministrazione questa maggioranza ma vorrei dire questo consiglio comunale è da diversi anni fa ha fatto una scelta che era quella proprio del circo di accettare solo circhi senza animali la legge il TAR in questo caso ha stravolto questa nostra scelta e decisione e noi ne prendiamo atto proprio perché e passo la seconda premessa perché noi siamo per la difesa del diritto e della legalità e quindi prendiamo atto di quanto la legge il diritto sancisce e di conseguenza ci relazioniamo è vero però che quanto è accaduto è deprecabile io non ho sentito alcuna parola da parte del sindaco su deridere chiunque insomma all'interno di questa vicenda e quindi mi stupisco molto dell'intervento del consiglier del consiglier Giannelli assolutamente io credo che insomma io ho cercato di seguirlo attentamente non è non era questa assolutamente l'intenzione dell'amministrazione perché il sindaco rappresenta la città intera però è vero che quello che è successo è deprecabile non è accettabile che chi manifesta legittimamente venga assalito picchiato brutalmente proprio in virtù della nostra legge fondamentale della Costituzione ma ancora di più della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo però è anche vero che non è accettabile che chi sceglie di partecipare ad un evento discutibile come il circo le famiglie di Pordenone o ne prende le difese un esempio per tutti don Andrea delle Grazie venga insultato e molestato verbalmente è chiaro che questa azione di violenza verbale ha una proporzione condannabilità inferiore alla prima la violenza fisica vera e propria infatti mentre la seconda lo screditamento e l'offesa è da condannare moralmente mi viene da dire la prima quella della violenza fisica oltre che moralmente è da condannare anche da perseguire legalmente ed è quello che sicuramente verrà fatto è vero anche che i rappresentanti coloro che si sono trovati all'interno di questa situazione secondo me non sono nel primo caso da ricondurre al mondo circense ma a quelle 4-5 persone violente che in questo momento purtroppo da giornali mass media e quant'altro vengono identificati come circensi sì loro lo sono ma non l'intero gruppo se non cominciamo a fare degli sbagli che sono ormai storici viceversa dall'altra parte anche chi ha ecceduto con la violenza verbale nei confronti di bambini e famiglie anche esso forse è andato oltre e non è secondo me proprio per rispetto di chi invece manifesta diversamente non è assolutamente riconducibile al gruppo così chiamato insomma animalista o dell'associazione animalista quindi noi siamo per condannare tutte le violenze sicuramente in maniera più forte quella fisica perché ricordo perché non vorrei essere non vorrei che questo questo consiglio comunale venga strumentalizzato perché sono stati i primi adesso non ricordo se in Italia ma comunque i primi che hanno vietato finché si poteva insomma la presenza di un circo con animali nel proprio territorio come ultimo io sono rimasto personalmente dispiaciuto e credo anche gran parte dei consiglieri o delle persone che sono qui all'interno o che domani leggeranno i giornali per l'intervento del consigliere Piedicini io credo che risolvere la questione incolpando le forze dell'ordine o chi ha cercato di mantenere l'ordine pubblico questo modo di operare non dà un buon servizio come rappresentante della cittadinanza non è possibile incolpare di un fatto criminoso chi fa il proprio lavoro ogni giorno e cerca di gestire al meglio situazioni come quelle accadute io credo che sia una infelice uscita da parte del consigliere Piedicini quindi ringrazio l'amministrazione perché subito ha cercato in tutti i modi e anche le forze dell'ordine perché questo purtroppo non accadesse e in più sicuramente col proseguo delle vari atti anche legali avrà un'ottima risoluzione grazie grazie consigliere consigliere del ben prego ho sentito il sindaco che ha preso una posizione netta nei confronti di ciò che riguardava il circo e che ha stigmatizzato alcuni comportamenti io penso di non avere un pensiero molto distante dal suo io posso dire a testa alta di essere amico del circo purché sia un circo senza animali non c'è più bisogno che oggi ci siano gli animali nei circhi e quando ci sono artisti giocoglieri clown eccetera questi possono essere sufficienti e idonei per garantire anche quei posti di lavoro intorno al circo quindi il circo nel 2014 può essere e per quanto avete possibilità di entrare in chi fa le leggi diciamo che sarebbe importante ulteriormente abbassare l'asticella di legittimità dell'uso di animali è vero che chi è intervenuto è intervenuto per difendere una norma però se tutti insieme portassimo questa norma a un livello di maggior rispetto degli animali sicuramente potremmo fare una figura io dico semplicemente più civile ovviamente non cado in problemi di qua di laste robe certo che quando ci sono cose che in qualche modo urtano la sensibilità diffusa delle persone c'è da aspettarsi tensioni come queste allora io dico che l'opera di prevenzione a 360 gradi potrebbe essere sicuramente utile secondo argomento lei ha parlato signor sindaco dell'impegno verso Electrolux ovviamente siamo tutti d'accordo che il posto di lavoro di tante persone ci sta a cuore specialmente nella nostra zona e lei da quello che ho capito ha posto ancora un problema aperto che è quello che forse Electrolux Italia avrà una soluzione ma c'è il problema di dove saranno gli stabilimenti che saranno per dire inseriti in un auspicabile piano di innovazione di ricerca di sviluppo magari anche di garanzia di continuità del posto di lavoro perché intorno all'Electrolux Zanussi c'è tutto un indotto e c'è tutto sommato l'economia sostanziale dell'equilibrio della nostra regione allora se Pordenone e io penso che lo farà desse un forte impegno unitario e di presenza a questo primo maggio che si è scelto di fare a Porcia e a Pordenone proprio nel nostro contesto sicuramente l'immagine che esce di questa zona ne sarebbe migliorata e penso che per dire da Pordenonesi lo dobbiamo a tutti quelli che hanno lavorato all'Azanussi e che hanno sì avuto modo di svilupparsi ma ci hanno anche messo un po' della loro salute perché infortuni sul lavoro e malattie professionali hanno colpito chi lavorava all'Azanussi e perché no abbiamo anche in qualche modo subito per esempio l'inquinamento da cromo questo non vuol dire che l'Azanussi ha fatto male ma ribadisce che abbiamo di per sé dei diritti per la salvaguardia di posti di lavoro da noi e che poi dobbiamo anche fare un'altra cosa ragionevolmente la collettività le istituzioni interverranno e spero anche che potremmo avere la forza di vedere uno le garanzie che il piano di sviluppo sarà fatto ma anche le garanzie che i soldi pubblici impiegati doverosamente per dare continuità dei posti di lavoro possono poi essere mantenuti in questa zona e creare quel volano importante per dare futuro alle nuove generazioni che avranno modo scelta di vivere in questa zona che poi semplificando sono nient'altro che i nostri figli visto l'età che abbiamo allora lei farà delle iniziative sappia sappia che avrà una adesione prima di sapere perché perché la strada che va verso quel senso è una strada sulla quale la sosterremo quello lo dobbiamo alla nostra gente grazie consigliere bevi l'acqua grazie presidente intervengo a nome del fiume sulla comunicazione dell'elettrolux intanto ringraziamo il sindaco per le eventuali informazioni che ci ha dato dello stato dell'arte dal 19 marzo ad oggi bene che alla base dei finanziamenti ci debbano essere progetti reali concreti e soprattutto condivisi quindi governo regione e azienda di più però il sindaco ci ha dato un'informazione importante e cioè quella della contrattazione di secondo livello una questione molto tecnica ma in parte non dico che diventi anche politica ma potrebbe essere l'occasione e mi spiego la trattazione di secondo livello riuscirà sarà efficace se ci saranno le capacità e la lungimiranza delle rispettive parti sindacali e datoriali di renderla efficace e qui sta il punto questo è il punto fondamentale la parte fondamentale per quanto riguarda noi riteniamo che la solidarietà sia un atto dovuto rispetto a questa azienda e non solo rispetto all'Eletlogs ma alla questione dell'occupazione ma a noi è chiesto di fare qualcosa di più dobbiamo spingerci oltre e cioè oltre significa avere una visione per la città futura solo governando i processi potremo difendere le nostre aziende e forse sottolineo forse la contrattazione di secondo livello potrà essere l'occasione senza essere silenti osservatori grazie grazie consigliere beviacqua prego signor signor vuole intervenire scusate solo una volevo se mi sono espresso male mi rivolgo soprattutto al consigliere Giannelli che è un po' irrequieto no non volevo precisare questo nessun animalista o manifestante delle associazioni ha mai alzato le mani su gente del circo se in qualche passaggio io non sono stato chiaro lo ribadisco adesso con estrema chiarezza grazie signor sindaco bene abbiamo terminato gli interventi per quanto riguarda le comunicazioni passiamo adesso all'ordine dei lavori così come è stato deliberato alla riunione dei presidenti dei gruppi consigliari la riunione è stata deliberata di seguente ordine dei lavori dopo le comunicazioni sindaco adesso verrà esaminata e discussa la delibera sulle direttive al piano regolatore generale e fino all'esaurimento della stessa dopodiché se rimarrà tempo si affronteranno le interrogazioni per 30 minuti dopodiché le mozioni i lavori si chiuderanno la 22.30 salvo persecuzione per la delibera bene pertanto passiamo alla deliberazione ricordo ai consiglieri che per quanto riguarda questo tipo di documento i tempi di intervento sono raddoppiati pertanto proposta numero 13 2014 approvazione documento piano regolatore generale comunale le energie della città direttive strategie politiche per il governo del territorio ai sensi dell'articolo 63 bis coma 8 della legge regionale numero 5 2007 e le sue successive modificazioni e integrazioni la parola a sessore Toffolo prego grazie 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 signor presidente silenzio grazie se possiamo abbassare le luci forse bene siamo arrivati all'esame del primo atto politico per il nostro piano regolatore giusto giusto per reinserirci in quello che è il tema alcuni cenni di sunto che cos'è il piano regolatore generale è il piano per eccellenza di governo del territorio ed è l'atto di pianificazione dello stesso si deve basare però su dei principi specifici che sono le caratteristiche di sviluppo della popolazione e dell'economia quindi disciplina l'utilizzo e la trasformazione del territorio però fornisce anche le linee guida delle opere pubbliche e degli interventi dei privati le direttive invece sono uno strumento che si inserisce in un preciso momento dell'iter e non danno il progetto del piano ma è l'atto di indirizzo cioè è l'atto con il quale il consiglio comunale dà mandato ai professionisti rispetto a quello che deve essere e può essere il risultato finale del piano stesso è il mandato che il consiglio comunale esprime e deve formulare l'idea che vogliamo avere della città l'idea politica del futuro della nostra città e quindi deve dare la possibilità poi ai professionisti di individuare gli obiettivi le azioni e le strategie perché questo progetto questa idea venga concretizzata naturalmente ci troviamo quindi di fronte a un atto che dà degli indirizzi che è previsionale perché il piano regolatore stesso è uno strumento previsionale e che immagina di costruire una forma diversa di città da oggi i prossimi vent'anni quindi lo sforzo che noi oggi facciamo con la lettura di questo atto delle direttive è uno sforzo di immaginare quella che vorremmo essere la città per i nostri figli o per i nostri nipoti però per chi verrà dopo di noi a che punto siamo siamo al momento in cui si passa da tutte le analisi che abbiamo svolte in questo periodo al progetto il progetto avrà dei tempi definiti sono dei tempi definiti presenti nel piano nel piano ma anche nel bando di gara che sono chiari ai professionisti che lo dovranno redigere e che vedono da oggi dal momento dell'approvazione della delibera di direttive partire i 60 più 60 giorni per la redazione del piano nella sua componente strutturale e nella sua componente operativa e di conseguenza vede la partenza anche di tutti quegli incontri che si svilupperanno parallelamente e che coinvolgeranno di nuovo i cittadini ma anche gli stakeholder che hanno degli interessi specifichi all'interno della redazione del piano e che porteranno con la loro competenza elementi aggiuntivi nella definizione di quelle che sono che sarà il disegno che però si poggia sulle indicazioni che noi stasera condividiamo come abbiamo costruito e come siamo arrivati a questo punto abbiamo fatto un percorso partecipato porto non è più facile abbiamo fatto uno studio abbiamo fatto redigere da uno studio che aveva vinto un bando lo studio socio-economico territoriale per lo sviluppo della città di Pordenone abbiamo sviluppato delle analisi molto puntuali all'interno degli uffici che avevano la finalità di valutare lo stato di attuazione dell'attuale piano strumento regolatore e abbiamo analizzato e studiato quello che è il rapporto sullo stato dell'ambiente cioè lo stato ambientale del nostro territorio per quelli che sono gli indicatori principali cioè la qualità dell'acqua la qualità dell'aria la qualità del suolo tutto questo è andato a comporre un testo unico che è stato consegnato ai professionisti che hanno vinto il bando di gara e che lo hanno sottoscritto ad agosto dell'anno scorso e da lì è partita una seconda fase di implementazione da parte dei professionisti stessi che aggiungendo analisi letture e valutazioni a scala comunale ma soprattutto a scala sovracomunale hanno composto un documento di sintesi il documento di sintesi insieme a tutto il resto del materiale ha costituito i principi delle direttive strategie e politiche per il governo del territorio con che metodo noi procederemo il metodo con il quale verrà redatto e costruita la proposta di piano progettuale del piano regolatore sarà quello della costruzione di scenari diversificati che dovranno essere alternativi o i complementari tra di loro diciamo che non ci riferiamo più ad una modalità che abbiamo magari conosciuto fino adesso dove il professionista redigeva lo studio sulla base di quelle che erano le analisi oggi noi abbiamo da confrontarci con strumenti molto più precisi che ci vengono richiesti dalla legge che sono ad esempio la componente ambientale cioè la valutazione ambientale strategica che è quello che deve entrare a valutare la sostenibilità di ogni azione noi andremo a prevedere all'interno del piano regolatore perché i piani regolatori ormai si è capito e lo vediamo nella modalità che vengono adottate all'estero e che ormai condizionano la modalità progettuale degli strumenti forse meno in Friuli Venezia Giulia ma già nelle altre regioni d'Italia questo succede i piani dovranno essere dei meccanismi atti ad una verifica completa non si va più con un'immagine rigida che rimane per vent'anni noi dovremmo rimettere in discussione il nostro piano e valutarne la sua realizzabilità ogni cinque anni perché i cinque anni sono quel lasso di tempo che ci permette di settare meglio le azioni dovremmo puntare su un modello sociale diverso e un modello di crescita diverso che non vede più l'espansione come l'unico asse di sviluppo del nostro territorio ma la trasformazione qualitativa del tessuto costruito di ciò che oggi la nostra città è e questo andrà verificato mano a mano per far sì che abbia sempre una valenza ambientale positiva come ci impone la valutazione ambientale strategica e di conseguenza dovremmo agire in questo modo questo lo faremo costruendo appunto degli scenari che andranno a comporsi tra di loro e ci daranno la possibilità di andare a definire la linea verso la quale vogliamo andare ma questa linea la definiamo all'interno delle direttive enucleando alcune questioni le prime sono le invarianti del piano le invarianti del piano per noi sono gli elementi dai quali non si può più prescindere qualsiasi azione noi andremo a fare a Pordenone non potrà più prescindere da questi perché sono gli assi fondamentali sono le questioni che governeranno le nostre scelte e quali sono? Sono quattro sono fondamentali però sono l'aumento della sicurezza del sistema urbano la salvaguardia ambientale il contenimento del consumo del suolo e la cooperazione sovraccomunale quando noi parliamo di un territorio più sicuro non possiamo esimerci dal sapere che Pordenone vede un 52% del suo territorio soggettato a vincoli idrogeologici vincoli che si modulano di diverse entità e di diversa gravità però il 52% del nostro territorio secondo il PAIL è assoggettato a queste attenzioni il PAIL come voi sapete è uno strumento di pianificazione sovracomunale e interregionale coinvolge il Veneto e il Friuli e ci ha indicato quelle che sono le caratteristiche del rischio idrogeologico che noi abbiamo e di conseguenza ha emanato delle normative che già oggi sono cogenti per il nostro territorio e già oggi limitano le nostre possibilità di azione a seconda del grado di pericolosità bene noi con il piano naturalmente dovremmo partire sapendo che questo cioè la sicurezza idraulica deve essere uno degli assi fondamentali dei quali non possiamo più prescindere come non possiamo prescindere dal sapere che anche a nord della nostra città è cambiata la situazione quelle che erano considerate storicamente i territori sicuri dove si potevano anche costruire gli interrati ad oggi ci danno problemi abbiamo un monitoraggio da parte della protezione civile che ci indica questo abbiamo infatti affiancato alla redazione del piano l'incarico per due studi che sono lo studio geologico lo studio idrogeologico che stanno proprio dialogando con coloro che hanno redatto il PAIL per capire quali possono essere gli ambiti nei quali andare a costruire in modo sicuro e quali sono invece gli ambiti nei quali una normativa di tutela dovrà garantire che la sicurezza nei confronti del cittadino venga in ogni caso garantita l'altra questione dalla quale non possiamo prescindere è quella allora mi chiedono di spiegare che cos'è nel dettaglio il PAIL il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume di Venza questo strumento è uno strumento che è stato redatto dall'autorità di bacino del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ha avuto una prima approvazione viene fatto rispetto a un decreto legislativo del 2006 ha avuto una prima approvazione e nel 2011 è stato approvato la variante al piano che è stata direttamente approvata con decreto presidenziale del Consiglio dei Ministri faccio già che sono stata sollecitata faccio un rimando a quella che è la nota del generale del PAIL che recita è importante ribadire e nuovamente sottolineare che il quadro esposto nel piano sicuramente non esaurisce le conoscenze dei problemi di pericolosità o rischio ancora molto elevato e potenzialmente presenti in molti luoghi del territorio ed è in veste di questa frase che chiedono che le amministrazioni locali pianifichino adottando i massimi criteri di sicurezza e di preservazione del territorio finalizzati a non indurre possibili criticità superando la questione PAIL l'altra questione ugualmente fondamentale che caratterizza il nostro territorio è quella della sicurezza sismica noi siamo in un territorio sismico lo sappiamo perfettamente però sappiamo che il patrimonio edilizio che oggi caratterizza il nostro territorio il patrimonio edilizio esistente ha necessità di rivisitazione e di riqualificazione non solo di qualificazione energetica ma proprio di riqualificazione dal punto di vista della sicurezza sismica anche di fronte a questo ci siamo posti e anche questa per noi è un invariante cioè una delle azioni di fronte alle quali non possiamo più permetterci di derogare e per avere maggiore supporto nella fase progettuale del piano grazie ad un duplice finanziamento o un cofinanziamento regione stato abbiamo potuto dare l'incarico per la microzonazione sismica che sarà uno strumento fondamentale perché le nuove normative in materia prevedono che gli edifici vengano progettati con una certa rispondenza al rischio sismico in funzione della capacità dell'importanza che il manufatto architettonico ha e questo specifico livello di progettazione non può che essere corredato dagli elementi di analisi come la microzonazione sismica però come territorio più sicuro non ci limitiamo alla sicurezza fisica del territorio cioè a quello che è la questione idrogeologica e quella che è la questione fisica sismica consideriamo che sia infondamentale che il piano analizzi anche quella che è la sicurezza ingenerata dai rischi del traffico e da quella presente o possibile di attività industriali particolari se sulle seconde noi abbiamo una normativa che già ci sostiene per le prime abbiamo deciso di lavorare in stretto coordinamento con il PUMS cioè col piano della mobilità sostenibile piano urbano della mobilità sostenibile per il quale anche di esso è stato dato in carico con il quale stiamo intavolando tavoli di progettazione che vedono il coinvolgimento diretto dei professionisti che redigono questi altri strumenti di pianificazione con i professionisti e l'ufficio tecnico che redige il piano regolatore comunale e sempre per quanto concerne la questione del territorio più sicuro non di meno importanza e la sensazione che noi viviamo o potremo vivere di insicurezza sociale dei luoghi della socialità e dei luoghi di aggregazione e anche su questo il piano può e deve avere un suo disegno attento andando a tutelare questi ambiti pensandoli come luoghi progettati che però diventino luoghi di socialità e che impediscano l'eggettizzazione che fortunatamente risultano già limitati nel nostro territorio altro elemento per noi fondamentale è quello della salvaguardia ambientale noi sappiamo che oggi il nostro territorio subisce delle forti criticità dovuti ad un e causati da un progressivo aumento degli spazi costruiti per Pordenone il 59% della superficie del comune oggi risulta zonizzata ad una destinazione residenziale o insomma ad attività edilizia questa è una percentuale molto elevata ed è molto elevata anche perché ha perso una sua connotazione ma va a sfrangiarsi l'interno e a intromettersi all'interno del tessuto agricolo d'altro canto però degli indicatori abbiamo degli elementi che sono estremamente interessanti abbiamo un ambiente naturale che si conserva ancora parti con una elevata qualità ambientale soprattutto per quanto riguarda l'asse del noncello abbiamo la possibilità di andare a tutelare le zone oggi non costruite e abbiamo la necessità di attivare delle aree che diventino di valenza che aumentino la loro valenza ambientale questo lo possiamo fare andando a definire quelli che sono le pressioni che la zona antropizzata che le aree antropizzate danno sul circondario e quindi andando a ripensare quelli che sono gli spazi costruiti quelli che possono essere ridotti o rimodulati e limitando quindi come azione l'impatto che le zone antropizzate hanno sull'area agricola e sulle aree ancora valenza ambientale perché l'area ambientale secondo quelle che sono tutte le direttive europee alle quali noi facciamo riferimento come ordine superiore prevedono una potenzialità ecosistemica che oggi non siamo in grado di esprimere completamente ma che dovremmo andare a reintrodurre usando anche degli strumenti che sono già presenti nelle normative europee che ci danno la possibilità di accedere a finanziamenti e quindi rimettendo completamente in moto quello che può essere il rapporto tra città costruita e tessuto agricolo sicuramente in tutti i dibattiti in tutti i dibattiti che si sviluppano a livello locale a livello nazionale da alcuni anni a questa parte il consumo di suolo è uno degli assi più affrontati e sviscerati noi siamo figli di un modello economico che ha visto nell'edificazione nella rendita uno degli elementi fondamentali degli assi economici e non è intenzione dell'amministrazione mettere in dubbio questa che è stata una politica che ha caratterizzato la nostra storia certo che adesso quel modello è un modello che ha mostrato una serie di gravi difficoltà ed è lo stesso sistema bancario il sistema del del credito e del mercato che sta dimostrando quanto oggi questo modello risulti essere superato ebbene quindi per dare una risposta a questo l'azione non può essere quella che di trasformare di modificare il passaggio dall'espansione alla trasformazione perché noi sappiamo di avere una città una città costruita una città che ha una storia che si è stratificata ma è anche una città che per molti aspetti non ci piace e la possibilità di trasformazione deve essere proprio quella che ce la fa tornare che la rende capace di rispondere a quelle che sono e che saranno le nostre esigenze del vivere rimettendo in discussione il tessuto edificato e pensandolo e immaginandolo con delle dinamiche nuove quindi è all'interno della città che noi vogliamo cercare e del tessuto costruito di un tessuto costruito che ad oggi ci risulta anche datato che noi vogliamo andare a rimettere in moto le dinamiche dell'immagine della nostra città di Pordenone ed è quindi all'interno della città che noi vogliamo in modo equilibrato riconoscere i vari servizi in modo che sia equilibrata nelle sue parti pensiamo che sia anche importante andare ad affrontare quelle che sono le criticità dei bordi della definizione che non c'è più tra costruito e campagna ma soprattutto di trovare all'interno del tessuto quelle che sono le possibilità di trasformazione e di riavvio di un'economia ultimo punto di questa prima parte e quindi delle invarianti è quello che consideriamo fondamentale che però questo concetto non si limiti all'interno del nostro ambito noi abbiamo chiesto uno sforzo fin dall'inizio a tutti i professionisti che hanno affrontato le questioni del piano chiedendo che i ragionamenti venissero fatti a scala vasta e quindi che le analisi e le proposte venissero strutturate e verranno strutturate non solo all'interno di Pordenone ma con particolare attenzione ai comuni di Limitrofi di Torcia e di Cordenonce e in ogni caso relazionate con quello che è il sistema dell'intorno e cioè con i comuni di Roveredo in piano Sanquirino Fontana Frezza Zoppole Fiume Veneto perché facciamo parte di un sistema perché se noi ad oggi guardiamo il nostro fotopiano vediamo come ci sia una continuità di territorio perché questa continuità di territorio non può essere solo sulla carta ma deve essere governata perché noi vogliamo confrontarci con i comuni che danno a noi continuità anche su quelle che sono le zonizzazioni non solo di perimetro di limite ma anche su quella che è la distribuzione dei servizi sul territorio in modo che questi risultino equilibratamente distribuiti ma non ci possiamo neanche esimere che delle scelte che vengono fatte a vasta scala non non vengano analizzate su quelle che possono essere le ricadute locali e nel singolo territorio ed è per questo che la cooperazione sovracomunale diventa una delle azioni che per noi risulta essere invariante cioè imprescindibili nella redazione del nostro strumento urbanistico per far questo noi ci orienteremo secondo due macro indirizzi i due macro indirizzi saranno il risparmio delle risorse e la valorizzazione dell'energia della città sicuramente il tema energetico è uno dei temi principali ma non è da considerarsi solo nell'ottica dell'aumento dell'efficienza dei singoli edifici e in un aumento di efficienza complessivo che noi lo vogliamo declinare perché ad oggi quella che è la situazione economica nella quale si trova nei comuni e si trova nei territori ci porta a pensare a dover decidere di razionalizzare la nostra spesa e di trovare un risparmio delle risorse in quella che è l'eliminazione dello spreco l'eliminazione dello spreco noi la facciamo efficientando la nostra città ed efficientandola come distribuzione come sottoservizi come percorsi che il cittadino fa ogni giorno per andare al lavoro a prendere figli adeguando le infrastrutture e i sottoservizi ma anche rimodulando gli oneri di urbanizzazione e anche sviluppando ulteriori fini con un'ottica diversa rispetto a quella con la quale ci siamo confrontati fino ad oggi perché ad oggi le nostre norme le nostre regole di governo del territorio sono delle norme che erano valide quando le sono state scritte ci riferiamo ad esempio al 1978 ma oggi non sono più in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze del vivere e di conseguenza questi devono essere trovati con altre modalità il risparmio delle risorse naturalmente va di stretta relazione con la valorizzazione delle energie perché siamo sicuri che l'asse della trasformazione urbana del ripensamento del luogo pubblico del ripensamento dello spazio di relazione che vada dalla rifunzionalizzazione al mix delle destinazioni debba essere possa essere un volano per lo sviluppo della nostra città cambiare delle regole cambiare dei modi che noi oggi abbiamo di vedere le cose perché siamo abituati a tenerle in quel abituati a vederle così non può essere altro che un sistema per innescare nuovi modelli di sviluppo che sono quelli che oggi dobbiamo cercare obbligatoriamente partendo dal presupposto che quelli che avevamo hanno dimostrato ormai la loro inefficienza l'innovazione delle strutture produttive l'aggregazione sociale il riuso delle spazi dismessi ma anche di brani di città che possono essere ripensati e il nuovo modo di concepire lo spazio urbano questi devono essere i modelli e gli indirizzi che scegliamo per orientare quelle che saranno le scelte puntuali le scelte puntuali le abbiamo organizzate su sei indirizzi i sei indirizzi vengono identificati come il rafforzamento del sistema dei servizi il rafforzamento del sistema produttivo la capacità attrattiva del sistema urbano la rigenerazione urbana la valorizzazione del sistema ambientale e la valorizzazione del potenziale ecosistemico sicuramente noi sappiamo che una città è attrattiva nel momento in cui ha la capacità di offrire servizi ai suoi concittadini e nel momento in cui questi servizi sono distribuiti in un certo modo nel territorio quindi la città andrà verificata nel suo equilibrio di servizi pubblici ma ci dovremmo anche porre un'altra questione ad oggi l'amministrazione fornisce le amministrazioni forniscono dei servizi ma questi non sono più totalmente sufficienti a dare risposte a quelle che sono le esigenze della popolazione che in essa vivono sicuramente oggi noi possiamo pensare che il fornire servizi possa essere una delle azioni anche di innesco di nuove modalità di economia e di sviluppo e di conseguenza su queste ci dovremmo andare a confrontare e questo confronto non lo potremmo fare solo tra territorio e urbanistica ma dovrà coinvolgere anche gli altri settori dell'amministrazione e cioè i settori delle politiche sociali ad esempio che possono diventare propositivi nei confronti della formazione e della produzione appunto di servizi da parte del privato lo spazio pubblico in ogni caso andrà concepito e rafforzato come una rete come una rete distribuita in modo equo in modo che non ci sia più solo un centro riconosciuto ma che i quartieri abbiano tutti una loro autonomia nel fornire servizi puntuali e che questi risultino essere facilmente raggiungibili secondo percorsi ciclopedonali di collegamento ad esempio cosa che stiamo analizzando col PUMS ma anche con le reti delle immateriali che sono fondamentali per permettere di connettere i cittadini con il loro territorio sicuramente ad oggi non possiamo negarlo abbiamo una sovrapproduzione edilizia attualmente a Pordenone sappiamo che circa 2000 alloggi risultano non venduti e che questo è frutto è uno dei frutti della crisi economica che stiamo vivendo questa situazione ha messo seriamente in discussione non solo il settore dell'edilizia ma ha messo anche in discussione e si confronta con quelle che sono le possibilità dei nostri cittadini oggi ci troviamo a dover affrontare una nuova classe di povertà che non è più la classe dell'ater ma è quella media piccola borghesia che una volta era tranquilla dal punto di vista lavorativo e della capacità di affrontare ad esempio la questione della casa e che oggi invece si trova estremamente in difficoltà a queste fasce sociali delle quali noi non possiamo che tener conto con estrema attenzione una delle risposte possibili è quella del social housing social housing che però deve essere visto come una capacità abitativa in affitto a prezzi calmerati a canone calmerate che deve essere distribuita in modo equo nel territorio perché la nostra storia ci racconta che le case popolari che sono altro che si sono sempre identificate in nuclei chiusi possono diventare più un problema sociale che un luogo di aggregazione o un luogo di risposta a delle esigenze ed è quindi con questa attenzione che vogliamo affrontare il problema della residenzialità che naturalmente è uno degli assi fondamentali del nostro piano il sistema produttivo sarà uno delle questioni che più ad oggi ci dobbiamo ci dobbiamo porre Pordenone sta vivendo e lo abbiamo visto nell'introduzione del sindaco ma lo viviamo quotidianamente una crisi profonda la sta vivendo adesso forse un po' in ritardo rispetto ad altre parti d'Italia ma è una crisi strutturale è una crisi che si sta presentando da noi con le stesse caratteristiche che ha visto settori come quello ad esempio di Fabriano per le cartiere o altro e che oggi ci vede interessati da una ad esempio sovrabbondanza di patrimonio edilizio a destinazione industriale che non è più in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze mutate della struttura edilizia della struttura produttiva effettivamente le nostre aree PIP le nostre aree a vocazione monofunzionali nascono da una certa politica industriale che ha fatto sì che oggi che ci sia stato uno sviluppo innegabile ma che oggi non sono più idonee a quelle che sono le necessità del mercato ed è quindi in quest'ottica in quest'ottica di trasformazione che noi dobbiamo cercare di lavorare dobbiamo lavorare cercando che anche le zone industriali abbiano una qualità ambientale elevata e che non nascano più come monofunzionali ma che siano in grado di accogliere al loro interno quei mix di destinazioni che rendono il lavoro coerente con l'abitare con la parte ricreativa e dobbiamo mettere anche in vicinanza con quelle che sono le non c'è Adriano Olivetti appunto proseguo si non c'è Adriano Olivetti ciò non toglie che non ci si debba sedere aspettando che ne arrivi un altro dobbiamo lavorare cercando di dare delle altre prospettive e questo stiamo cercando di fare sapendo che l'apporto di tutti è fondamentale perché queste sono partite che non si giocano da sole si giocano insieme e si vincono insieme sta di fatto che ad oggi i modelli lavorativi che ci vengono richiesti sono diversi sono sistemi lavorativi estremamente mobili che diano la potenzialità di sperimentazione che diano la possibilità di transizione che siano capaci di accogliere rapidamente la domanda e di dare delle risposte e che siano accoglienti nel senso che siano in grado di fare da volano a quella che è un'imprenditoria che altrimenti è costretta ad andare da altre parti noi vogliamo invece essere attrattivi e lo faremo anche trovando nuove destinazioni nuove modalità e nuovo disegno e nuova qualità nelle zone industriali abbiamo degli esempi nel nostro territorio e questi territori questi esempi andranno ripercorsi e alcuni ambiti della nostra città potrebbero diventare secondo un'ottica diversa proprio il laboratorio di questo modo diverso di interpretare l'attività produttiva è logico che nel momento in cui parliamo di sistema produttivo non ci limitiamo alla parte industriale artigianale consideriamo anche quello che il sistema commerciale e in questo senso sappiamo che la rivalutazione e il ridisegno dei rapporti commerciali identificando nel nostro centro storico il centro commerciale per natura e sapendo che però esso può essere arricchito nel momento in cui a fianco alla vocazione prettamente commerciale vengano identificate anche quelle di artigianato di servizio alla persona ad esempio o di artigianato vero e proprio questo mix siamo convinti possa essere uno dei motori di rilancio del nostro centro storico però siamo anche convinti che la stessa attenzione sul commercio quello che si definisce commercio di veccinato vada posta anche nelle aree limitroche alla città in quelle che sono le periferie perché noi oggi ci troviamo con le aree esterne al centro che sono quasi prive di quel commercio che però fa e aiuta a costruire la rete sociale che è la base della matrice di crescita e di sostegno della nostra città d'altro canto sappiamo che il modello del centro commerciale è un modello superato che sta mostrando tutte le sue criticità ed è per questo che vorremmo attivare con i comuni di mitrofi e con termini delle valutazioni serie su quelle che sono le capacità di espansione commerciale ancora sulla carta ma non realizzate consci che queste politiche possono essere di auspicio ad un riequilibrio di quelle che sono dinamiche che oggi presentano delle serie limitazioni siamo una città di 50.000 abitanti abbiamo ormai una dimostrazione che ci siamo attestati su questa dimensione e da 20 anni che Pordenone da più di 20 anni che Pordenone oscilla tra i 49.000 e i 50.000 e gli unici momenti in cui la popolazione di Pordenone è cresciuta e cioè arrivata ai 52 53.000 abitanti è stato quando grazie all'immigrazione e quindi grazie alla possibilità di lavoro che il tessuto produttivo forniva abbiamo avuto massicci rientri di extracomunitari la popolazione di Pordenone però ha trovato più conveniente seguire politiche di uscita dal centro andando a costruire nei paesi di Mitrofi Cordenone Porcia Zanodecimo piuttosto che rimanere in città beh questa dal nostro punto di vista è una politica che vorremmo cambiare come dinamica e quindi quando parliamo di capacità attrattiva la decliniamo su tre aspetti la città attrattiva per i city user chi sono i city user i city user sono coloro che usano la nostra città non per lavorare ma vengono qui perché ci sono i negozi perché abbiamo un'offerta culturale di tutto rispetto perché ebbè vengono questo è positivo perché di conseguenza magari vanno anche in un negozio fanno girare un po' di economia e sono utili all'indotto perché se non venissero neanche per questo forse saremmo messi ancora a peggio bene di fronte a loro noi ci dobbiamo porre nella capacità di essere ancora più attrattivo lo possiamo fare lo possiamo attuare attraverso la riqualificazione degli spazi urbani ma riorganizzando anche le modalità di accesso all'area centrale aumentando l'offerta funzionale del mix funzionale delle aree prossime al centro e identificando tutta una rete di servizi che rendano positivo e piacevole venire nella nostra città ma vogliamo essere anche attrattivi per nuovi residenti e partendo dal nostro rapporto sullo studio socio-economico del territorio quelle che sono le proiezioni di crescita di Pordenone sono delle proiezioni che sono per noi abbastanza emblematiche che ci devono far ragionare noi vediamo da quello che è l'analisi demografica della città che abbiamo due fasce che tendono ad aumentare e sono quella dei bambini in età scolare dai 6 ai 14 15 anni e sono gli anziani sopra i 75 anni con un dato estremamente grave dal nostro punto di vista che invece presenta una riduzione di popolazione nella fascia produttiva allora uno dei nostri principi deve essere quello di essere attrattivi per portare di nuovo i giovani a Pordenone e giovani in età lavorativa perché si devono trovare delle modalità per lavorare ma si devono anche trovare delle modalità per vivere bene come possiamo essere attrattivi nei confronti dei nuovi residenti aumentando la qualità dell'abitazione abitando e quindi trasformando il patrimonio edilizio esistente noi a Pordenone abbiamo la gran parte dell'edilizia esistente realizzata tra gli anni 60 e gli anni 80 fine 90 quindi è un patrimonio vetusto è un patrimonio che ha bisogno di essere rinnovato e rinnovato non solo dal punto di vista energetico come dicevamo prima anche verificato dal punto di vista sismico migliorato dal punto di vista energetico e rifunzionalizzato e anche ripensato in forma architettonica perché questa operazione deve migliorare l'aspetto della nostra città che ad oggi per quanto ci sentiamo in tante parti non ci piace perché magari la vediamo ormai rispondente ad un modello superato bene questa è l'attrattività ma l'attrattività la vogliamo giocare anche con la qualità dei servizi che diamo con la rete minuta ad esempio dei servizi alla persona del verde la rete delle piste ciclabili facendo sì che chi viene a Pordenone e sceglie di vivere a Pordenone sappia di vivere in una città quindi non in un modello di tessuto diffuso e sparpagliato che può trovare nei comuni limitrofi viene in una città che però è rinnovata nella sua qualità qualità architettonica qualità energetica qualità strutturale e qualità sociale e quindi per far questo dobbiamo però essere anche attrattivi per le funzioni produttive e dobbiamo quindi rendere piacevole venire a vivere a Pordenone perché c'è lavoro e perché siamo in una posizione eccezionale siamo in una posizione baricentrica dove in 40 minuti siamo al mare e in 40 minuti siamo alla montagna abbiamo una potenzialità se siamo in grado di aggiungere elementi di qualità alla nostra proposta che ci dobbiamo giocare se vogliamo che la nostra città abbia quello sviluppo che ad oggi risente del momento storico pesantemente del momento storico nel quale viviamo una delle azioni per far questo dal nostro punto di vista è ad operare e agire pesantemente sulla rigenerazione urbana come dicevo abbiamo un enorme patrimonio fisico da recuperare e questo patrimonio lo facciamo recuperandolo e ripensandolo rimodulandolo e avendo come obiettivi quelli che sono standard elevati di qualità e di efficienza oggi le nostre città sono degli scola pasta dai quali l'energia esce da ogni foro ed è questo che noi dobbiamo pensare di cambiare perché l'energia diventi un elemento propositivo anche del volano economico che ci stiamo ponendo come obiettivo quindi dovremmo inserire dei concetti diversi che ad oggi noi non abbiamo mai preso in considerazione nelle nostre pianificazioni perché vogliamo vedere la città con un occhio completamente diverso potremmo inserire il concetto dell'ecodesign potremmo pensare che le nostre pareti diventino pareti verdi ma perché in questo modo aumentano anche la loro efficienza energetica e fanno sì di migliorare anche l'ambiente che avranno la capacità di abbattere elementi inquinanti che diminuiranno la bolla di calore e di conseguenza renderanno gradevole stare nelle piazze che non saranno più estremamente assolate e per far questo oltre ad avere un progetto e a cercare attivamente i finanziamenti che rendano possibili queste cose perché l'Europa con i suoi finanziamenti ad oggi punta su questi assi su questi e su quello dell'agricoltura ed è lì che la nostra economia potrà attingere per innescare quel volano virtuoso che ci può servire a rimettere in moto la nostra economia procederemo anche con una semplificazione normativa in modo che all'interno delle procedure chi adotta provvedimenti che sono finalizzati all'ottenimento di questi obiettivi possa procedere molto celermente e quindi possa iniziare rapidamente quelli che sono questi principi di trasformazione naturalmente questo non può essere disgiunto dalla qualità dello spazio urbano e quindi da quello che è il ruolo del pubblico che deve agire in modo che la dimensione ambientale sociale economica ed estetica siano coerenti tra di loro per rendere gradevoli e vivibili gli nostri spazi della nostra città il quinto punto è il sistema ambientale noi abbiamo due livelli su cui agire uno è quello del sistema ambientale e uno è quello degli ecosystem service ovvero degli indicatori ecosistemici che hanno radicalmente modificato quella che è l'approccio che si può avere in urbanistica mettendo a valore a pari valore della potenzialità edificatoria la potenzialità del territorio di fornire gli elementi fondamentali per il sostentamento che vuol dire l'acqua l'aria al cibo cioè quelli che sono gli elementi ecosistemici ad oggi tutta la disciplina pianificatoria ma spinta dalla volontà politica di migliorare quello che è l'ambiente nel quale viviamo ha fatto diventare questi elementi uno dei cardini sui quali basare le visioni future della nostra città e noi fortemente pensiamo che questa sia una delle azioni da seguire per far questo dobbiamo considerare il territorio come una risorsa fondamentale una risorsa che non possiamo più sprecare ma che va valorizzata con l'identificazione di infrastrutture verdi e di valutazione di impronta ecologica che vadano a bilanciare quello che è l'impatto che l'uomo con la sua azione determina costantemente rispetto a quelli che sono le capacità di assorbire tale impatto da parte della natura uno dei temi fondamentali in tutte le politiche europee è quello delle azioni di deimpermeabilizzazione del suolo noi sappiamo ad esempio che va di pari passo a quello del consumo di suolo le direttive prevedono che entro il 2020 ci sia il monitoraggio da parte di tutti gli stati membri e anche questa legge questo protocollo l'Italia l'ha sottoscritto delle superfici impermeabilizzate ma propone anche che entro il 2050 si vada a consumo di suolo zero bene queste azioni noi siccome stiamo facendo un piano regolatore il piano regolatore è uno strumento previsionale uno strumento che guarda in là che cerca di capire dove vogliamo andare lo mette all'interno di quelle che sono le azioni e le possibilità di intervento sul nostro territorio sapendo che deimpermeabilizzare vuol dire rendere il nostro ambiente più equilibrato vuol dire dare risposta effettiva a quelli che oggi sono i problemi di bombe d'acqua come successa recentemente o in altri territori più gravi di continue esondazioni più o meno importanti che però stanno caratterizzando in modo sempre più puntuale massiccio e costantemente il nostro territorio l'altra questione è quella della dispersione urbana è abbastanza impressionante vedere la cartina dell'Italia perché mentre il centro Italia e anche il nord-ovest dell'Italia è caratterizzato dalla presenza di nuclei abitati conclusi in se stessi il territorio a cavallo tra il Veneto il primo Friuli è una continua dispersione del tessuto urbano non c'è una è un tessuto in continuità non c'è un taglio tra un paese e l'altro abbiamo perso il senso del limite del bordo e lo abbiamo perso nei confronti del territorio agricolo ad esempio si chiama dispersione urbana ed è una delle politiche che hanno caratterizzato il nostro territorio e che vedono la commissione tra zone industriali a ridosso di zone edificate senza più un disegno del governo del territorio se noi guardiamo ad esempio il perimetro di una città tedesca e il perimetro di una città italiana vediamo come questi risultano completamente diversi o anche di una città francese magari della Francia noi apprezziamo questi boschi incontaminati e continui a parte ribetti che però dimostrano come ci sia un governo del territorio la città si espande all'interno del suo perimetro e questo perimetro è definito e il perimetro è costruito è tutelato è cinto ed è cinto dal verde da delle fasce di protezione che fanno sì che il terreno agricolo possa vivere con le sue biodiversità con le sue politiche di sviluppo e di produzione di sistemi ecosistemici che servono alla collettività questo è un disegno che noi andiamo a recuperare che secondo noi è fondamentale recuperare è fondamentale ridisegnare questo limite lo vogliamo fare attraverso uno strumento che si chiama carta della qualità del suolo la carta della qualità del suolo è una cartografia che ci indicherà la qualità del potenziale dei suoli tra agricolo edificato o compromesso o più o meno compromesso e quindi ci aiuterà nel capire dove traslare ad esempio o spostare previsioni che oggi incidono in zone vergini e che invece possono trovare perfetta collocazione in ambiti già potenzialmente compromessi che in una loro trasformazione possono trovare una nuova vocazione perché non è intenzione di nessuna amministrazione mortificare un settore o qualcuno finalità dell'amministrazione è quella di individuare insieme dinamiche diverse rispetto a quelle che hanno governato fino ad oggi il mercato e la pianificazione e che ad oggi hanno dimostrato tutte le loro ormai carenze e i loro limiti e quindi chiedono in modo pressante di cambiare la mentalità e la modalità anche queste azioni noi le vogliamo fare in sinergia col piano urbano della mobilità sostenibile perché naturalmente andranno ad incidere tutti quelli che sono i sistemi di accessibilità ai servizi territoriali sovracomunali che andranno governati in modo da non definire ulteriormente incrementare questa frammentazione territoriale il potenziale ecosistemico invece è prendersi carico nel piano di quelle che possono essere le azioni da svolgere sul terreno agricolo perché il territorio agricolo è un territorio che va pianificato come gli altri ed è la parte di territorio che di più può dare risposte di sostenibilità alle nostre azioni sul territorio le zone agricole quindi sono zone fondamentali tant'è vero che l'Europa definisce come accennavo prima il 40% del suo bilancio anche nel prossimo settennio di finanziamenti rivolte all'agricoltura è logico il comune di Pordenone lo dicevamo prima non ha un gran territorio agricolo ed è per questo che su questo argomento dovremo lavorare a livello di area vasta dovremo coinvolgere i territori limitrofi e circostanti perché ad oggi è superata la mentalità che l'edificato il territorio che ha un vincolo di edificazione è un territorio economicamente o socialmente importante anche il territorio agricolo che fornisce alla collettività tutto ciò che ci serve per vivere ha pari se non più importanza ed è in quest'ottica che per noi il potenziale ecosistemico andrà valutato con attenzione e con l'individuazione di nuove azioni di strategie facendo sì che si vada a definire nel tempo un'alleanza tra città e campagna e che la campagna diventi paesaggio e che questo paesaggio diventi un bene collettivo perché grazie a patti sottoscritti tra amministrazione e privati agricoltori questo patrimonio possa essere percorribile possa anche essere patrimonio appunto della collettività si potranno identificare azioni come gli eco account che sono azioni finalizzate al potenziamento dei sistemi degli interventi ecosistemici e azioni definite o finalizzate alla limitazione alla matigazione o alla compensazione di quelle che sono superfici impermeabilizzate passo ora all'ultimo punto della delibera di direttive all'interno della delibera di direttive la legge 5 del 2007 regionale prevede che ci possano essere delle salvaguardie le salvaguardie sono delle azioni che l'amministrazione può decidere di seguire o meno quindi può mettere in atto ma in ogni caso sono figlie di quelle che sono i contenuti delle direttive e vengono poste in essere per dare diciamo libertà alla progettazione di individuare azioni per l'attuazione del piano quindi non sono anticipazione del piano regolatore che deve essere disegnato e che partiremo a disegnare con la modalità degli scenari dal momento in cui approveremo la delibera di direttive ma sono delle sospensioni che vengono previste per non vanificare quelle che possono essere i margini di manovra e di modificazione che il piano metterà in atto per far questo la legge prevede che siano di durata definita ed infatti la normativa stessa dice che non possono durare più di due anni in ogni caso durano dal momento della approvazione della delibera di direttive quella che stiamo discutendo stasera fino all'adozione del piano regolatore saranno le salvaguardie al piano del regolatore che diventeranno le vere salvaguardie perché quelle saranno fatte sulla norma quelle che noi oggi proponiamo sono fatte su delle linee di indirizzo quindi non normano definitivamente sospendono per far sì che si possano prendere delle decisioni che partono da dei presupposti diversi che quindi devono rimettere in movimento il nostro territorio e si fanno sugli indirizzi politici indicati all'interno delle direttive stesse quindi non mettono in discussione il diritto il valore mettono però in discussione l'allocazione e la potenzialità in quella veste perché non è intenzione dell'amministrazione andare a bloccare anzi l'intenzione dell'amministrazione è ritrovare le modalità per cui quello che è uno dei volani principali dell'economia italiana e che è l'edilizia parta sapendo che però un modello il modello che fino ad ora la governata ha dimostrato una serie di criticità e che questo modello deve essere rimesso in discussione e quello che cerchiamo di fare è trovare delle modalità all'interno del piano per rimettere in attivazione il comparto anche dell'edilizia per costruire una città nuova una città che risponda a quelle che sono le nostre esigenze di adesso e in ottica del futuro rimettendo in discussione quelli che sono dei modelli che oggi risultano superati per costruire la parte delle salvaguardie noi ci siamo basati su due principi ed erano due principi che per noi nascono dalle invarianti cioè da quelli che sono gli elementi dai quali non vogliamo più prescindere una delle invarianti sta nelle zone esondabili noi abbiamo dichiarato fin dall'inizio che per noi è a questo punto inaccettabile continuare ad intervenire in zone che presentano rischio idrogeologico naturalmente il rischio idrogeologico come si diceva prima da Pail è un rischio modulato e quindi in base a questa modulazione noi abbiamo assoggettato a salvaguardie prevedendo una sospensione della nuova edificazione nelle zone assoggettate a P2 dal Pail ci rientrano a pieno titolo anche le zone F che sono le zone fluviali che però vengono già normate dal Pail nel quale il Pail stesso impedisce ogni nuova costruzione quindi nella cartografia vedete quelle che sono le aree interessate dalla P2 e dalla zona fluviale la zona fluviale è quella più azzurrina lì già da oggi secondo il Pail è vietata la nuova edificazione estendiamo questa sospensione per le zone P2 naturalmente la norma non viene applicata ai PAC con convenzione già stipulata e non decaduti per quanto riguarda invece la parte di città costruita in essa noi possiamo agire fondamentalmente con due modalità esistono le zone B ad attuazione diretta per capirci è la casa singola sulla quale o i piccoli lotti quelli al di sotto dei 2000 metri quadri oppure abbiamo l'attuazione indiretta che sono i lotti ad attuazione sempre B con una superficie superiore ai 2000 metri quadri all'interno del tessuto urbanizzato cioè della parte di Pordenone dove già sono presenti i sottoservizi che l'amministrazione fornisce per il vivere della città prevediamo che nelle zone ad attuazione indiretta ovvero in tutti gli ambiti di una certa rilevanza ci sia una riduzione del volume di piano del 30% che cosa vuol dire questo abbiamo fatto tutta una serie di analisi a seguito dell'inserimento all'interno del piano regolatore delle norme finalizzate al miglioramento delle modalità di costruzione dal punto di vista energetico e abbiamo visto che l'incidenza dei bonus volumetrici dati per far sì che gli edifici venissero costruiti con delle maggiori prestazioni energetiche si aggirano intorno al 30% quindi l'azione è stata quella del prevedere una riduzione tale da far sì che un domani in questi ambiti costruendo bene cioè in classe A come ormai ed uo può costruire se si vuol vendere si riesca a realizzare tutta la cubatura prevista dal piano regolatore e spero che lo schema sia chiaro nel senso che ciò che fino a poco fa era in aggiunta adesso diventa la quota necessaria per realizzare le previsioni del piano regolatore abbiamo detto che il piano naturalmente si basa su alcuni principi che sono quelli della riduzione del consumo di suolo ma soprattutto dovrà trovare delle dinamiche finalizzate a rimettere in discussione e in trasformazione il tessuto edificato al fine di innescare processi di trasformazione di parte di città già costruiti per questo e anche a seguito della constatazione che tutto ciò che si sviluppa al di fuori del perimetro urbanizzato della città non può che confrontarsi di fronte all'amministrazione con una necessità da parte di essa di prevedere oneri per la realizzazione di sottoservizi necessari proponiamo nel periodo transitorio e quindi per un periodo limitato la sospensione per le zone C e C1 della possibilità di interventi in quelle aree che sono esterne al perimetro urbanizzato stessa azione la proponiamo per le aree D2 e H2 che risultino però sempre esterne al perimetro urbanizzato giusto per dirvi l'area urbanizzata di Pordenone secondo la variante 77 è tutta quella rosa quindi i piani che sono esterni a quest'area li vedete sono di colore un po' più intenso sono quelli per i quali si prevede una sospensione per i nove mesi di redazione del piano regolatore questo non vuol dire che per queste aree noi prevediamo una indicazione di anticipazione del piano noi stiamo dicendo che su queste aree viene sospeso per un tempo limitata quella che è la possibilità edificatoria al fine di rimettere in gioco con altre dinamiche quelle che sono ormai delle potenzialità che magari sono lì sulla carta anche da molto tempo ma che non hanno trovato in anni di mercato florido espressione e che adesso ancora di meno potranno trovarla a causa di una conclamata situazione di crisi certo è che queste azioni per noi sono finalizzate a trovare delle dinamiche diverse che rimettano in gioco e che tengano conto di queste azioni per innescare processi di trasformazione della città convinti che lo strumento del piano regolatore debba essere anche uno strumento che si aggiorna con tempi molto diversi rispetto a quelli di fronte ai quali noi siamo stati abituati perché nel momento in cui il nostro territorio sarà in grado di dimostrare effettivamente di sostenere processi di crescita il piano sarà pronto nella sua porta strutturale di recepire nella parte operativa quelle che sono le dinamiche di crescita ma ad oggi queste nel momento in cui non ci sono devono invece essere possono essere la potenzialità per trasformare ciò che noi abbiamo le parti di città che non ci piacciono i vuoti che abbiamo all'interno della città e che sono espressioni di degrado e che noi stessi viviamo come degrado che invece grazie ad una concorsualità delle zone e delle cubature che oggi sono lì ferme all'esterno della città possono essere rimessi in discussioni e in moto queste sono le dinamiche sulle quali noi vogliamo ragionare certi che un piano regolatore lo si fa con le varie parti sociali che compongono la città e che debba avere come finalità quella dell'interesse generale di tutte le parti sapendo che le indicazioni che abbiamo sono quelle di una città consolidata di una città che ad oggi non ha capacità di accogliere nuovi abitanti che ha un patrimonio edilizio immobilizzato e non venduto che deve diventare risorsa ma che può avere nella sua trasformazione uno dei primi elementi di volano della nostra economia e che l'economia è composta anche da tutti i servizi e tutti i settori che sussistono alla parte del comparto produttivo ed è quindi fondamentale per noi lavorare nel cercare nuove dinamiche che siano in grado di rispondere a quelle che ormai sono elementi e quadri di crisi conclamati che hanno visto nella speculazione finanziaria uno degli elementi fondamentali della crisi economica dal 2008 ad oggi i numeri allora per essere poi chiari su quello che è l'impatto delle salvaguardie io come vi dicevo le ho suddivise nei tre ambiti abbiamo in azzurrino le zone a rischio idraulico mi sembra che sia chiaro il colore ho messo all'interno anche le zone F giusto per dare il peso anche se già oggi nelle zone F che sono le zone fluviali non si può costruire da pile comunque partendo dal presupposto che il comune di Pordenone ha una superficie di 38 mila 436 38 milioni 436 mila e 300 metri quadri e che noi ad oggi abbiamo una superficie zonizzata tra zone B cioè vuol dire residenza vocazione residenza del tessuto edificato consolidato C e C1 vocazione residenziale della però di espansione D2 in espansione aree produttive industriali e H2 in espansione attività commerciali complessivamente queste 5 famiglie fanno una superficie di 11 milioni 800 11 mila 726 metri quadri ovvero coprono il 30 virgola 73 per cento del nostro territorio la superficie però urbanizzata del comune di Pordenone cioè quella che tiene conto di tutto ciò che c'è sul terreno e cioè l'uso residenziale produttivo direzionale commerciale ma anche tutte le attrezzature pubbliche comunali e sovracomunali la viabilità la superficie verde pubblico inferiore ai 5 mila metri quadri in pratica per essere chiari da questa quantità sono stati epurati parco San Valentino e parco Galvani che sono i due parchi più grandi copre una superficie di 22 milioni 750 mila 446 metri quadri pari circa il 59 per cento della superficie del nostro territorio le zone PAIL per le quali si prevede la sospensione della possibilità edificatoria per nuova costruzione nel periodo transitorio delle salvaguardie cioè nel periodo in cui andiamo a redigere il nuovo piano regolatore comprese le zone F che ad oggi sono già sulle quali oggi è già inficiata l'edificabilità sono pari al 5,89 per cento delle superficie zonizzate e pari al 3,06 per cento della superficie urbanizzata complessiva del comune le superficie le aree per le quali proponiamo la riduzione del 30 per cento di volumetria e in pratica cioè facciamo costruire la quantità prevista dal piano se edificata con edifici che presentino lo standard della classe A diciamo sono pari al 2,44 per cento della superficie zonizzata e incidono per l'1,26 per cento della superficie totale urbanizzata del comune per quanto riguarda le zone C e C1 ad attuazione indiretta esterne al perimetro urbanizzato per le quali proponiamo la sospensione dell'edificabilità queste incidono per il 5,28 per cento sulla superficie zonizzata e per l'1,37 per cento della superficie urbanizzata per quanto riguarda le zone D2 ad attuazione indiretta esterne al perimetro urbanizzato l'incidenza è dell'1,39 sulla superficie zonizzata e dello 0,27 sulla superficie totale urbanizzata e per le H2 queste incidono del 3,3 per cento sulla superficie zonizzata e dello 0,09 per cento sulla superficie totale urbanizzata una delle domande che ci siamo posti è stato beh si potrebbe anche dire viste le quantità perché farlo adesso e perché non fare le sospensive non demandare direttamente al piano regolatore le salvaguardie del piano perché quelle poi sono la vera norma e quando noi approveremo in quest'aula il piano regolatore che le sospensive che le salvaguardie scusate diventeranno secondo quello che prevede il piano non secondo quello che prevede le direttive il vero elemento di norma perché effettivamente noi avremmo potuto procedere anche in un altro modo avremmo potuto procedere non dicendo niente e quindi facendo in modo che i professori che gli investitori o i proprietari nel periodo di transizione presentassero il loro piano presentassero il loro piano lo potessero vedere anche approvato lo potrebbero si potessero trovare anche nel lato della sottoscrizione della convenzione ricordiamoci che l'atto della convenzione è quello che definisce il rapporto ufficiale tra comune e investitore perché è lì che vengono definiti gli oneri quante opere vengono fatte come vengono fatte ed è quello che viene depositato dal notaio e anche arrivati a quel punto se non iniziati i lavori le salvaguardie del nuovo piano regolatore avrebbero bloccato quell'intervento perché la giurisprudenza ci dice che l'inizio dei lavori cioè quello che può andare a inficiare le previsioni del piano è l'inizio dei lavori royali cioè il colpo di benna l'impostazione del cantiere l'inizio dello scavo delle fondazioni anche la convenzione è un atto che non blocca quella che è la previsione del piano vigente nel momento in cui entra in vigore il piano in salvaguardia di fronte a questa possibilità dal nostro punto di vista è molto meglio aprire oggi il tavolo di confronto pensando che delle zone sicuramente avranno necessità di un ripensamento ma non mandare avanti con soluzioni che magari potrebbero essere riconfermate nel piano ma anche rimodulate non mandarle avanti e pensare che ora è il momento per confrontarci nella definizione di un percorso con degli obiettivi che sono quelli che sono trattati e tratteggiati all'interno della delibera di direttive grazie grazie assessore bene chiedo se ci sono delle richieste di chiarimenti gli iscritti si sono iscritti per l'intervento immagino non per le richieste di chiarimenti va beh allora consigliere Giannelli va beh uno tutti quanti prego mi sono iscritto per un chiarimento e anche per l'intervento allora assessore le faccio una domanda precisissima e voglio una risposta precisissima ammettiamo che io avevo un'area molto grande in quest'area ho fatto un piano urbanistico PAC questo piano prevedeva un volume diciamo 100.000 cubi per farvi i numeri diciamo che questo piano è nato nel 2002 cerco di perché ogni ragionamento va fatto sulla situazione originale prevedeva 100.000 cubi io faccio il piano firmo una convenzione realizzo e cedo al comune tutte le opere di urbanizzazione tutte cioè tutto afferente i 100.000 cubi dopodiché per motivi miei comincio e ne faccio 30.000 dal 2002 al 2006 faccio 30.000 cubi una parte un terzo e poi mi fermo arrivo al 2007 il 2008 attenzione qua è delicato perché sapete gli imprenditori non rischiano solo il loro denaro rischiano il denaro della gente con la quale lavorano del di tutto l'indotto e anche di quelli che hanno comprato sulla carta gli appartamenti non può fallere arriva il 2012 scade il piano la crisi non è ancora finita la crisi non è non toccare il microfono la crisi non è ancora finita siamo ad oggi forse forse uno scricchiorio nel real estate nazionale c'è forse possiamo ripartire abbiamo a disposizione due terzi del abbiamo veduto tutte le opere già fatte l'ho preciso bene perché siamo stati diligenti perché crediamo eccetera il piano è decaduto domani mattina arriva un investitore straniero che dice si l'idea vostra di fare una base di atterraggio per extraterrestri è buona finanzio io classica triangolazione moll che è il margine operativo lordo perfetto payback eccezionale e riportiamo nell'intervento io domani mattina posso presentare la reiterazione di di quel piano app 2002 ed è caduto nel 2012 allora a parte il fatto che l'esempio è molto preciso perché questo piano è già stato anche presentato è già stato anche approvato anche la base dei ecco allora se il piano rientra all'interno delle aree urbanizzate che sono quelle rosa lei lo può presentare tranquillamente se il suo piano è esterno alle aree rosa verdine e azzurrine e blu che è il fiume lei rientra nel periodo che in gran parte sono anche agricole lei rientra in quelle che sono le aree di salvaguardia però se lei ha presentato qui si aprono altri due scenari dei quali lei dovrebbe essere perfettamente a conoscenza e che sono uno che esiste un decreto salva Italia e che il decreto salva Italia le dice che se lei ha un piano finanziario sostenibile e reale non c'è salvaguardia che tenga perché può realizzare il suo intervento ma non di fronte al fatto che può essere carina una postazione per l'atterraggio degli extraterrestri ma sulla base di un piano finanziario sostenibile dove effettivamente l'azione di vantaggio per la collettività perché un'attività produttiva e un vantaggio per la collettività se diventa produttiva per il territorio si possa fare quindi in quel caso con un piano finanziario sostenibile lei potrebbe presentarlo e lo potrebbe vedere concluso anche se esterno alle aree di salvaguardia perché vi è reale no è il swap lo sportello unico per le attività produttive certo agli atti è un decreto salve Italia chi chiedeva lei i chiarimenti franchin grazie signor presidente sì il mio vuole solo essere più che un chiarimento un tentativo di sottolineatura e non un intervento comunque l'intervento lo faranno i miei colleghi che fanno parte del gruppo a cui io appartengo allora la mia il mio brevissimo intervento vuole semplicemente sottolineare come leggendo queste direttive si abbia l'impressione del grosso sforzo che è stato fatto per descrivere e tratteggiare una città equilibrata equilibrata in superficie e anche in quello che non è superficie al punto che le acque i fiumi l'area verde diventa centrale nell'analisi di queste direttive allora in questa cosa mi permetto in qualche modo di sottolineare che a pagina 9 si fa riferimento al sistema delle fognature di Pordenone e io voglio sottolineare questa cosa perché secondo me è altamente qualificante che questa amministrazione si ponga a un problema di qualità futura della vita della città e non solo di un intervento su visioni della città la rete fognaria è secondo me una di quelle situazioni che devono far parte integrante di questo piano e perché dico questo? Perché Pordenone è una città che galleggia sull'acqua e galleggiando sull'acqua sei rogge che hanno raccolto sia le acque piovane le acque di refue ma anche le acque domestiche la nostra rete fognare è una rete mista è una rete mista che vede quasi tutto il territorio che convoglia le acque anche nere nel fiume alla fine nel fiume ed essendo molto diluita questa situazione di bianco e nero diciamo rende difficile anche la depurazione o rende inutile la depurazione perché di fatto è già molto diluita ma tutto questo va nel fiume e il fiume è un patrimonio di Pordenone ma anche delle città vicine dei paesi vicini allora in questo in questo concetto secondo me vale la pena richiamare che l'amministrazione precedente e questa amministrazione hanno fatto del progetto generale delle fognature di Pordenone un atto portante ed è un atto che pregarei tutti i nostri colleghi i consiglieri pregarei tutti di leggere sono 133 pagine ma sono assolutamente interessanti perché trattano un disegno di città e trattano un disegno di un'altra cosa che secondo me è fondamentale ed è la responsabilità di una città cioè la responsabilità che vuol dire trattenere ed eliminare alla fonte cioè all'interno della città la massima parte dell'inquinamento prodotto cioè questo secondo me è un concetto che deve essere inserito dentro il concetto di direttiva di piano regolatore cioè questa comunità si fa carico di non gravare sulle comunità vicine attraverso per esempio il fiume Noncello dell'inquinamento che produce e per fare questo deve per forza potenziare la rete fognaria che in questo momento accopre se non ricordo male poco più del 50% dei nostri abitanti e che secondo me dà un segno di come noi pensiamo che la città in futuro debba vivere anche un livello non solo di civiltà ma un livello sanitario elevato allora detto questo io non so come si possa fare volevo solo sottolineare questa cosa che leggendo le 22 pagine mi sembra che siano quelle delle direttive no ho trovato un acceno a pagina 9 che secondo me in questo momento forse richiederebbe da parte dell'amministratore quindi non so come si possa fare perché non voglio fare situazioni di emendamenti o cose strane ma quello che mi interessa è che questo concetto che la città si fa carico cioè non solo sottolinea l'equilibrio tra il produttivo il suolo l'ambiente l'acqua l'aria eccetera ma si fa carico che questo diventi patrimonio futuro per questa città attraverso una rete foniaria e quindi un investimento cosa che abbiamo già fatto nella precedente amministrazione e che questa amministrazione si è fatta carico di cercare di produrre concretamente io questa cosa la metterei come forte sottolineatura insomma perché secondo me questa cosa testimonia una maturità di una collettività che vuol dire farsi carico di quello che produce e di come eliminarlo e non buttarlo sul fiume che dopo va a prata come diceva grazie beh lo consiglio un intervento non un chiarimento perché non c'è no non è un chiarimento è un suggerimento è d'accordo perciò non era proprio no i chiarimenti sono finalizzati solo a chiarire magari brevemente no va bene però voglio dire è una risposta che dà l'amministrazione al fine prego consigliere lo perfido grazie presidente capiamo che insomma la lista del fiume è particolarmente sensibile a questo aspetto suggerisco che la prossima volta alla fine dell'intervento dica è interesse dell'amministrazione inserirla comunque far l'opposizione si impara comunque presidente allora assessore la ringrazio per la relazione approfondita e sostanziosa però appunto avrei necessità di alcuni chiarimenti perché una cosa per quanto riguarda le salvaguardie queste salvaguardie sono adottabili soltanto in procinto di approvare un piano regolatore possono essere approvate anche in altre occasioni perché magari poteva essere utile affrontare ed approvare qualche salvaguardie anche negli anni precedenti se fosse stato possibile sempre per come abbiamo potuto come abbiamo potuto vedere c'è stato un piccolo nascente dibattito per quanto riguarda il rischio che queste salvaguardie vadano poi ad abbassare il valore degli immobili che sono magari già dati in garanzia e so che ho visto che lei assessora ha già risposto sulla stampa dicendo che non è assolutamente così è una valutazione dell'amministrazione o è qualcosa che è stato fatto prendendo magari contatti con gli istituti bancari cioè gli istituti bancari su questo sono concordi con voi o è soltanto una valutazione dell'amministrazione e poi se cortesemente mi può andare sull'esempio fatto per quanto riguarda sempre il discorso delle salvaguardie sull'immobile questo qua quindi noi abbiamo un immobile che vale 100 e con con gli incentivi può arrivare a più 30% diceva lei quindi un valore di 130 130 vabbè lei dice lì parto comunque da 100 per evitare che succeda Piazza Costantini allora gli faccio partire da 70 giusto? da quanto gli fa partire? dal 30% e meno che è 70 così poi con gli incentivi può crescere il 30% giusto? no sto chiedendo sto chiedendo un chiarimento ma infatti sto chiedendo un chiarimento perché è importante sapere quant'è il valore il valore il valore il valore finale sarà sempre 100 o sarà meno quindi questo era un chiarimento proprio ecco grazie risponderei a uno la volta così non facciamo la lista e non rischiamo di dimenticare allora la norma dice che le salvaguardie si possono la norma 5 del 2007 cioè c'è una legge che quando è stata approvata nel 2007 imponeva le salvaguardie poi c'è stata una rivisitazione successiva e le ha rese facoltative le salvaguardie sono una norma prevista esclusivamente dalla regione Friuli-Venezia-Giulia che ha autonomia in potere in materia di gestione del territorio in quanto regione a statuto autonomo e possono essere adottate esclusivamente in fase di approvazione della delibera di direttive perché perché hanno una finalizzazione precisa cioè che era quella che possono sì sì possono ho detto possono sì non sto dicendo ho detto che erano obbligatori mi sembra che noi stiamo allora se intanto io posso continuare sempre perché è una facoltà allora noi le possiamo applicare ma solo in concomitanza della delibera di direttive nell'ottica di sospendere o modulare quelli che possono essere azioni che si vengono a definire in fase di stesura del piano e che potrebbero inficiare il raggiungimento dell'obiettivo del piano quindi prima non c'era nessuna possibilità di mettere delle salvaguardie perché non sarebbero state legate allo strumento principe che le genera che è la delibera di direttive sono un appendice della delibera di direttive sono stata chiara su questo? bene allora anche a voi è arrivata oggi a tutti credo la lettera del lance che non parla di immobili su questo c'è una differenza sostanziale qui non si tratta di valore di immobile perché le salvaguardie non interessano immobili interessano terreni edificabili e non interessa terreni edificabili all'interno del tessuto già edificato ma è terreni di previsione in espansione cioè laddove la città ha immaginato nella stesura dei precedenti piani regolatori ci si potesse andare ad espandere ulteriormente perché allora edificio così magari ci capiamo meglio sta di fatto che la normativa e la situazione è estremamente diversa tra valore di un edificio e valore su di una potenzialità tanto che c'è una indicazione da parte della Banca d'Italia che ha dato una direttiva agli istituti di credito dicendo che nel caso di messa a garanzia di un terreno edificabile cioè che ha una potenzialità edificatoria questo possa essere valutato nell'ordine del 30% del suo valore perché quello è un valore in espressione cioè non è un valore è un valore potenziale e di conseguenza la tutela da parte della banca è quello del ridurlo su questo noi non ci siamo confrontati solo all'interno dell'amministrazione abbiamo anche sentito alcuni istituti di credito chiedendo quali erano le modalità e dagli stessi c'è stato detto che appunto o c'è una questa riduzione del valore o addirittura in molti casi il valore che viene messo a garanzia è quello del terreno agricolo perché quello invece è il valore sicuro quello del valore del terreno agricolo quindi noi prima di pensare a questa cosa ci siamo confrontati abbiamo cercato di capire innanzitutto qual era l'incidenza dell'impatto e di capire qual è anche la scusa Jack e di capire anche quali potessero essere le conseguenze perché queste indicazioni che appunto non sono anticipazione del piano sono una norma transitoria sono state guardate con estrema attenzione perché non c'è la volontà di mettere in crisi nessuno però c'è la necessità del poter avere delle possibilità di messa in discussione di quelle che sono delle previsioni che oggi dimostrano delle incongruenze rispetto a quelli che sono gli assi di sviluppo e di sviluppo della nostra città per quanto riguarda questo esempio la riga rossa è quello che me lo passi è il numeretto scritto ad oggi sul piano regolatore lei sa che il nostro piano regolatore è zonizzato ha delle zone B eccetera a fianco alla B c'è un numeretto B1 B2 B3 B1 e mezzo quello indica quanti cubi si possono fare ogni metro quadro quindi un B1 può fare un metro cubo ogni metro quadro se hai mille metri quadri puoi fare mille metri cubi quando noi abbiamo fatto gli incentivi per finalizzati al miglioramento della qualità energetica degli edifici abbiamo fatto questo ragionamento abbiamo detto se tu costruisci molto bene il tuo involucro puoi scomputarne lo spessore puoi scomputare lo spessore dei muri puoi scomputare lo spessore del solaio quindi quel numeretto che c'è sul piano diventa un netto e non un lordo e quindi alla linea rossa tu ci arrivavi col tuo netto e quello che era il volume complessivo effettivo dell'edificio che comprendeva anche il lordo dei muri eccetera era dato dal perimetro tratteggiato ad oggi noi l'operazione la facciamo a seguito di una sperimentazione che ci ha fatto fare delle valutazioni tra cui ci ha fatto valutare delle negatività sicuramente però ci ha fatto anche vedere che ormai il mercato costruisce tutto con un'elevata qualità ormai il compratore chiede la qualità dell'involucro chiede la qualità edilizia cioè non abbiamo più mi passi non abbiamo più molto la necessità di incentivare a costruire bene perché il mercato che ha spostato questa necessità è oggi un costruttore un'impresa se vuole vendere deve costruire bene il piano naturalmente quindi dal nostro punto di vista è venuto meno la necessità di incentivare con il volume continuiamo però a mantenere l'incentivo sulla detrazione degli oneri nel senso che se tu costruisci molto bene noi ti riconosciamo in ogni caso che hai speso un po' di più per costruire bene e quindi manteniamo l'incentivo cioè la detrazione sugli oneri però siccome abbiamo nelle nostre analisi valutato che l'incidenza degli scomputi arriva fino al 30% cioè i muri perimetrali i solai eccetera arrivano al 30% del volume abbiamo detto noi riducendo siccome ad oggi consideriamo che la previsione del piano regolatore sia equilibrata e non vada rimessa in discussione perché la stiamo valutando nel nuovo piano regolatore prevediamo che gli interventi che si possono fare confermino la potenzialità del piano regolatore stesso però li vogliamo confermati quei valori con un'elevata qualità edilizia quindi mantenendo gli incentivi volumetrici e mantenendo anche quelli economici abbassiamo l'indice di quel tanto che costruendo in classe A e quindi rimettendo togliendo lo scomputo facendolo diventare di nuovo lordo e netto si arrivi a realizzare quello che è previsto dal piano regolatore questo in pratica ci porta a dire che con questa riduzione del 30% dell'indice se lei costruisce energeticamente male la sua casa costruisce il 30% in meno se invece la costruisce bene costruisce quanto previsto dal piano regolatore guardi non è la nostra la nostra si guardi la nostra se lei avesse visto la modularità l'incidenza del singolo questo è un esempio e una esemplificazione ma io non ho bisogno di rispondere matematicamente e il concetto noi abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni di modulazioni abbiamo visto i livelli di incidenza abbiamo pensato di modulare la norma con un meno 30% grazie altri richiesti di chiarimenti grazie presidente io non sono svelto come il collega appiccinato quindi io chiedo delle cose per vedere se ho capito cominciando da questa slide questo si riferisce io ho capito insomma il discorso che lei fa almeno il 30% che ovviamente essendo in maggioranza e avendo parlato più e più tempo con voi amministrazioni siamo d'accordo ma per capire bene attuazione in diretta quindi vuol dire azioni importanti sul territorio non vuol dire questo per essere chiaro perché dopo sono sui giornali domani io che non comprendo bene le cose dopo non faccio fatica a capirle quindi attuazione in diretta vuol dire quando c'è un intervento importante mentre il singolo il cittadino eccetera non rientra in questo perché non è la zona B attuazione in diretta grazie seconda domanda è arrivato e del dominio pubblico ormai sicuramente insomma la mail oggi dell'associazione costruttori no affirma perché Lorenzon lei ha già risposto per quanto ho capito io durante il dibattito però volevo chiedere se ho capito bene e cioè qui c'è un'affermazione forte che dice che tutto quello che le salvaguardie sono un rischio molto alto insomma no un po' in maniera molto velata insomma l'aveva toccato il consigliere l'ho perso diceva le banche se abbiamo parlato con le banche per fortuna non abbiamo parlato con le banche spero ma l'altro passaggio che lui voleva forse dire era quello qui si dice che gli studi di credito le banche non danno il credito alle varie aziende che sono nel territorio eccetera perché si presume insomma si presume che avevano dato come garanzia per intervento i vari terreni di proprietà penso di società a questo punto anche qui non parliamo di singole persone ma parliamo di società ma chiedo anche su questo se ho capito bene e quindi se le società danno alle banche come garanzia il terreno edificabile e questo lei ha risposto se non ho capito bene che le banche danno al massimo il 30% del valore del terreno edificabile anzi molte volte puntano al valore del terreno agricolo e quindi è una cosa molto minima e quindi questa preoccupazione va un po' a decadere però la mia domanda è questa una domanda che chiedo a lei grazie lei ha spiegato bene io penso di averlo capito ma è meglio che allora assolutamente alla prima assolutamente sì nel senso che questa misura vale solo per le aree ad attuazione indiretta B che vuol dire quelle corpose tutta l'attuazione diretta tutto il B del tessuto minuto della nostra città che è la gran parte dell'edificazione della nostra città quello mantiene le caratteristiche inalterate quindi lì uno può fare sempre che non sia in zona esondabile perché ribadisco sì 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 può fare 130 anche Piccinato può fare 130 non importa se non ha capito non importa allora noi abbiamo letto in modo molto serio la lettera del lancio ma c'eravamo preoccupati di quelle che erano le dichiarazioni fin dall'inizio perché nessuna amministrazione ha la volontà di mettere in difficoltà dei settori e lo abbiamo fatto guardando qual era il peso di quello che si andava a toccare ed è un peso rispetto al territorio limitato e cercando di capire quali erano gli indirizzi che gli istituti potevano avere in questo caso che non li faccio io io devo chiedere quali sono gli indirizzi che vengono seguiti abbiamo trovato che c'è questa direttiva della Banca d'Italia che dà questa indicazione mi viene detto dietro assolutamente no ma a noi è arrivata quindi cioè vuol dire che da qualche parte è arrivata dalle altre no però io su questo mi devo basare e d'altro canto sentendo alcuni istituti questi hanno dichiarato che in ogni caso su una potenzialità edificatoria perché di questo si tratta il livello di di garanzia che viene dato è molto ridotto perché si sta si starebbe dando prevedendo una garanzia su di una ipotesi perché il numero che c'è scritto lì è una potenzialità faccio un esempio banale uno ha una potenzialità su di un terreno ma poi su questo terreno ed è un esempio che è capitato anche a Pordenone c'erano delle aree dove c'era un certo indice ma al di sopra passava una linea di alta tensione la linea di alta tensione dava un vincolo tale al terreno che quella cubatura non la rendeva realizzabile la potenzialità è tu teoricamente lo puoi fare ma ci sono delle condizioni a margine che rendono ad esempio inapplicabile e inrealizzabile questa tua cubatura quindi troverei francamente alquanto preoccupante che su di una ipotesi che dipende da quello ma può dipendere dalla situazione idrogeologica al di sotto del terreno può dipendere l'applicabilità la completa realizzabilità di quello che è scritto da talmente tante variabili che infatti la fa essere una previsione e quindi immaginare che gli istituti di credito basino il loro credito sulla previsione sarebbe alquanto preoccupante noi abbiamo avuto queste risposte dagli istituti di credito però devo fare anche mi permetto visto che mi ha fatto la domanda di sottolineare anche qualche altro aspetto e cioè abbiamo anche guardato quante che situazioni avevamo noi vediamo che in quelle che sono le aree toccate la gran parte è di proprietà di privati anche questo ci dà un certo tipo di indicazione l'ulteriore passo però lo possiamo fare anche dal punto politico nel senso che partendo dal presupposto che veramente non c'è una finalità vessatoria assolutamente e che se ci sono delle azioni di problematicità che però siano non generalizzate l'amministrazione è qui siamo qui perché il tavolo deve essere aperto deve essere di leale confronto la crisi del settore non è questa la crisi del settore è stata quella di un settore che ha messo a valore finanziario delle cubature che sono state anche realizzate e che non hanno mai trovato risposta del mercato noi ad oggi a Pordenone i 2000 appartamenti vuoti che secondo me sono in gran parte causa della crisi del settore immobiliare perché è lì che è bloccato il credito è lì che non c'è il passaggio economico e quella la situazione è da sbloccare qui parliamo di potenzialità e di potenzialità anche limitate ma la questione è ad oggi è il modello che deve essere messo in discussione un modello finanziario che si è basato sul virtuale e non sul reale e le salvaguardie ad oggi ci possono essere utili per ragionare su quegli ambiti e per non far sì che invece vengano al fine di una tentativo di garanzia di un diritto acquisito perché si chiamano diritti acquisiti anche se la giurisprudenza su questo è molto varia di presentare di avere sul nostro territorio progetti magari insostenibili giusto per mantenere un diritto pensiamo invece che questo possa essere rimodulato e che possa diventare altra potenzialità e questa è l'operazione che stiamo cercando di fare proprio per non mandare ad oggi avanti delle azioni che potrebbero inficiare possibilità di sviluppo ma anche di quelle stesse azioni però dobbiamo avere il coraggio di guardare i processi con un occhio diverso rispetto a quelli che hanno condizionato e che ci hanno portato dal 2008 ad oggi a quella che è una delle più gravi crisi economiche e strutturali che stiamo vivendo e che non troverà risposta con modelli identici a quelli di prima che dovrà trovare risposte diverse quindi il momento in cui le salvaguardie non fossero state previste mettiamola così quello che ho capito io nel momento in cui ci siamo trovati come maggioranza fa sì che magari si partiva con l'iter e a un certo punto siccome queste sono le nostre linee politiche del piano regolatore avremmo comunque stoppato questa cosa quindi se ho capito bene lo facciamo apposta perché non si va a creare un problema successivamente all'attuazione del piano regolatore se me lo puoi spiegare un po' meglio questa cosa qui ma chi c'era qualcun altro iscritto prima del prego così ma c'era prima lei no vuole scusate fermi se vuole rispondere risponde se non prende la parola ah scusate date la parola io ho capito volesse rispondere prego io ci avevo provato allora noi siccome lo strumento è uno strumento che esiste solo in Friuli Venezia Giulia ci siamo chiesti come funziona dalle altre parti che allora il piano regolatore nel momento in cui viene adottato fa salvaguardia solo che a quel punto è norma a quel punto diventa entra in vigore cioè fa delle salvaguardie sulla normativa definitiva e tutti gli interventi che non siano iniziati risultano a quel punto incongrui con le previsioni del piano se la previsione del piano è diversa in quel punto quindi succede dalle altre parti che durante la stesura del piano regolatore i professionisti i committenti danno gli incarichi i professionisti fanno i progetti i comuni mandano avanti l'iter i piani vengono adottati si arriva anche alla convenzione ma se nel momento in cui il piano regolatore fa salvaguardia le opere non sono iniziate viene comunicato che in contrasto con lo strumento nuovo del piano regolatore quindi vengono stoppati con lì sì una perdita rilevante perché nel frattempo ci sono stati tutta una progettualità le salvaguardie tutelano questo nel senso che non sono anticipazione del piano regolatore ma intervengono su quelle aree che potrebbero inficiare l'obiettivo del piano rimettendoli in discussione rimetterli in discussione vuol dire che quelle aree le ripensiamo e le ripensiamo coerentemente con quello che non è un indirizzo di un piano vecchio che è andato avanti con delle varianti ma di un piano nuovo che ha anche altri obiettivi e quelle aree possono essere potenzialmente la leva di volta per far partire anche i nuovi obiettivi Compattiamo le domande sì 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 ma lo dico dopo no bene prego tu posso? ecco no volevo chiedere una cosa cioè quali sono le sue previsioni in ordine temporale per l'adozione del piano adozione e se non ritiene siccome voci di corridoio dicevano che l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di arrivare all'adozione del piano regolatore entro pochi mesi ecco otto mesi nove nove no no ma sono un po' mio europeo oltre che stigmatico mi sembra che prima avevo parlato di forzature comunque lei ha già spiegato otto mesi io credo che l'applicazione nove mesi l'applicazione della misura di salvaguardia sia stata ispirata dallo studio dell'avvocato severino già ministro di questa repubblica noto nell'applicazione di norme con effetto retroattivo di fatto leggo una cosa sorprendente che lei ci spiegherà perché evidentemente è un'interpretazione estensiva avete fatto la cautela della cautela siete risaliti nel tempo addirittura prevedendo che tale sospensione è stesa le richieste pervenute prima dell'approvazione delle presenti direttive io ho capito ciò che dice lei la finalità della sospensione della cautela è ovvia ma questa nasce quando quando io ho l'adozione di un piano se lei tra sei mesi otto mesi nove mesi perché questa amministrazione è estremamente celere è stata durevole nel creare quello che si è creato come patrimonio edilizio in questa città di cui i 3.000 alloggi sfitti invenduti che oggi sono un peso sociale oltre un peso e un carico fiscale causa l'inadeguatezza nella gestione di determinate imposte beh io credo che ci sia una solerzia sospetta nell'uso quasi nella forzatura della facoltà che è concessa dall'articolo 63 bis legge regionale ahimè norma che improvvidamente anzi quelli erano altri tempi cioè ottobre 2010 anzi ottobre 2008 non c'era forse stato il fallimento della Limanbrades probabilmente non c'era una situazione economica che c'è oggi che c'è oggi e quindi sostanzialmente questo io non trovo nel suo ragionamento se non una furia maniacale nell'applicazione di questa norma perché evidentemente a questo punto devo immaginare che ho altre cose da riempire e quindi devo cristallizzare un concetto cubatura zero non più un cubo al di fuori di quelli che abbiamo edificato e evidentemente la memoria mi va subito velocemente alle prime battute di questo consiglio comunale quando c'era Gianni Zanolin Gianni Zanolin anche nei giorni scorsi ci ha ricordato quanto costa dire ciò che si pensa quanto costa dire ciò che si pensa anche dal punto di vista giudiziario ecco assessore Toffolo io su questo le chiederei di essere molto chiara no 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 non ho bisogno di ricorrere all'articolo 5 ma penso che la si al quinto emendamento che poi della costituzione americana quindi non non farebbe neanche testo solerte è prevista dalla norma in vigore che è stata modificata dall'amministrazione tondo togliendo un'obbligatorietà ad una potenzialità quindi consentendo sì sì e quindi del 2000 non mi sembra perché sarebbe stata figlia dei suoi tempi se nel 2007 fosse stata fatta e poi fosse stata abrogata perché le successive modifiche sono state fatte fino al 2011 fino al 2011 quindi è una facoltà infatti certo certo ma infatti 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 ha le interesse consigliere può può fare può può intervenire dopo consigliere dopo può intervenire allora 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 se mi interrompe lei parli lei non parlo più allora so che ha secondo lei presidente può intervenire mi danno suggerimenti tutti quanti stasera consigliere dopo può chiedere può intervenire sappiamo che al consigliere dal mass piace interloquire in questo modo e quindi gli lasciamo tutto lo spazio per farlo guardi che quello che viene detto è nel testo delle direttive se lei lo legge attentamente poi magari lo troverà da qualche parte ma non nel testo che ho portato io questa sera in consiglio la parola cubi zero non esiste la può cercare o leggendolo o con la ricerca automatica che è anche un buon sistema sta di fatto che quella parola non c'è perché noi siamo partiti da un altro principio quello della trasformazione e per trasformare sappiamo che dobbiamo mettere in gioco qualche cosa perché lei ha la professionalità di legale io sono un architetto e quando ci siamo più volte confrontati con la maggioranza su questo abbiamo sempre sottolineato il fatto che qualsiasi trasformazione non può avvenire a costo zero o qualche cosa bisogna metterlo questo qualche cosa sta nella potenzialità che ad oggi abbiamo forse espresse in un modo ormai anacronistico rispetto a quelle che sono le esigenze nel nostro territorio come espansione che potranno diventare altro ma che potranno anche essere un domani qualora sostenuto da dei dati demografici che oggi non ci sono effettivamente quello noi stiamo parlando di uno strumento che sia in continuo aggiornamento e quindi in grado di assorbire quelle che sono le modificazioni che si presenteranno nel terreno ma siamo anche convinti che prima di pensare a crescere dobbiamo pensare a trasformare e quelle potenzialità ci servono per la trasformazione allora stia tranquillo faccio l'assessore possiamo fermare tutto il dibattito lei può intervenire scusi consigliata allora io ho fatto più volte alcuni ragionamenti primo faccio l'assessore e se lei guarda gli atti che sono stati fatti nel secondo mandato bozzonello so che questa cosa a lei non va tanto però è un dato potrà notare come nell'ultima variante fatta dall'amministrazione bozzonello la capacità insediativa è risultata redotta e c'è stata una contrazione delle cubature che ha riportato i valori di Pasini per spiegarlo al consiglio in pratica si è con l'amministrazione con i dieci anni di amministrazione bozzonello ha avuto una sinusoide che ha visto quando l'economia stava andando una previsione di incremento perché l'economia andava e non ce lo possiamo negare e nel 2011 quando i segnali che l'economia era in contrazione ormai erano evidenti anche lo strumento urbanistico si è ricontratto io nel primo mandato bozzonello non ero seduta né in consiglio comunale né come assessore nel secondo ero nella giunta e ho fatto l'assessore e ho portato all'approvazione del consiglio la variante 77 che ha ridotto le cubature di un milione di metri cubi e ha ridotto la popolazione teorica da 75.000 a 63.000 questi sono dati questo inoltre non toglie il fatto però che io mi senta come credo tutto il consiglio responsabile anche della storia che c'è stata alle nostre spalle ma quelle che sono state scelte storiche non ci possono impedire di cambiare le modalità nel momento in cui si abbia la prova che quel modello economico e di sviluppo ormai non è più applicabile e non credo neanche che sia vantaggio di nessuno continuare a dire ma che cosa è stato fatto prima se vuole ci passiamo le serate io considero che ci siano dei momenti nei quali ci possiamo rendere propositivi con queste direttive cerchiamo di fare questo perché vorremmo che il nostro territorio guardasse in avanti e non continuasse a confrontarsi con uno in passato che ha visto alternarsi governi che hanno fatto scelte che risultavano contestualizzate rispetto al momento storico nel quale sono state fatte questo è consigliere dal massa adesso basta adesso basta consigliere Passoni prego silenzio consigliere Passoni signor presidente sindaco assessore colleghi sono le domande sì sì chiarimenti domanda beh mi consente assessore di fronte a questo fuoco incrociato di domande criticità suggerimenti anche positivi eccetera mi permetta di ringraziarla perché la sua presentazione è stata molto bella appassionata veramente professionale e ovviamente la proposta è molto positiva molto buona e la voglio ringraziare a livello personale e penso anche a nome di tutto il gruppo del PD per l'apprezzamento che possiamo avere per il lavoro che ci avete presentato stasera e naturalmente questo ringraziamento lo estendiamo a dirigenti e tecnici che hanno veramente prodotto secondo me e secondo noi veramente un buon risultato che consentirà poi alla città di avere uno strumento urbanistico che le è ben spiegato primo di struttura poi i piani operativi flessibile ma attento a quello che sarà il futuro con con questa sensibilità di salvaguardarlo da tutti i rischi che lei ben ha definito ma mi chiudo qua perché giustamente la mia è una domanda non è un intervento ci siamo lasciati giovedì sera alle 8 e un quarto 8 e 20 il Presidente della Commissione mi è buon testimone insieme agli altri colleghi io le avevo fatto una domanda che non ho avuto risposta e quindi la rinnovo e chiedo scusa però mi sembra corretto visto che sono penso con molti qua a sostenere che le norme di salvaguardaria oltretutto chiedo scusa non so se c'è qua il Presidente del Lance Lorenzon ma perché non conosco personalmente non riesco a leggere tutta la sua lettera ma credo che qui abbia avuto già delle risposte ampie rispetto alle osservazioni che ha posto a tutti i consiglieri comunali io mi scuso ma nella mia email non riesco a leggere completamente detto questo avevo fatto una domanda che per ragioni di tempo non aveva avuto una risposta e cioè condividendo in pieno le salvaguardie perché credo che siano un vantaggio anche per quelli che oggi sostengono che non lo siano perché noi penso prevediamo e questa è la domanda che siccome si congela o si sospende un diritto di edificabilità sia corretto sia corretto anche che il tributo venga sospeso e questa era la domanda che io le avevo posto che non avevo avuto una risposta questo perché a correttezza dell'operazione che stiamo andando ad approvare grazie al punto 7 della delibera è citato di dare mandato ai competenti uffici di seguito all'approvazione delle misure di salvaguardia di monitorare gli effetti sulla potenziale riduzione del gettito fiscale presunto sulle aree interessate ed eventualmente proporre le azioni di riequilibrio conseguenti certo è stato dato mandato al settore competente che è quello finanza e binancio altre richieste chiaramente ribetti forse l'ha già detto prima però tra le righe e quindi non ho capito se è così tornando alla lettera dell'Anse perché molti aspetti me li ha chiariti però volevo capire questo noi cioè noi voi o intervenite adesso mettendo questa clausa di salvaguardia o non potete farlo in un secondo momento oppure la volontà di intervenire già adesso di prevederle è dovuta al fatto di evitare di far spendere eventualmente di creare delle aspettative che dopo non vengano introdotte invece avete già intenzione di introdurle cioè la scelta amministrazione è dire tanto l'introdurremmo già dopo quindi lo facciamo già da subito oppure tecnicamente va fatto adesso non può essere più fatto Volevo scusarmi sono impiegato due minuti e mezzo per ringraziare Usceri amministrazione e tutti ma domande chiarimenti Passoni Allora tecnicamente il momento consigliere tecnicamente il momento in cui inserirle qualora l'amministrazione perché una delle possibilità che l'amministrazione ha è solo questo tecnicamente non si può in un altro momento perché dopo c'è un'altra salvaguardia che è quella sulla norma quella è la salvaguardia cioè il piano regolatore farà salvaguardia nel momento in cui viene approvato in questa fase c'è uno strumento previsto che è quello delle salvaguardie sulle norme delle direttive che sono delle salvaguardie su degli indirizzi politici e non sono un'anticipazione del non sono un'anticipazione del piano sono una sospensione per poter ripensare ci riusciamo per poter ripensare secondo quelle che sono le finalità del piano degli ambiti che se partissero adesso potrebbero inficiare il risultato del piano questo è il principio però noi non stiamo dicendo ad oggi le direttive non dicono su quell'area succederà quella cosa questa azione la fa il piano regolatore ora noi stiamo dicendo la direzione verso il quale il piano punterà è quella delle 18 pagine prima delle due di salvaguardie e la sospensiva dice per quelle aree che potrebbero inficiare di riuscire a ottenere il risultato che noi auspichiamo col piano queste aree le sospendiamo ma le sospendiamo e potrà essere che vengono messe in concorsualità vengono in parte traslate questo lo deciderà il piano lei prima parlava dei contatti che avete avuto con le banche e di una circolare di una normativa della Banca d'Italia è possibile una direttiva se è possibile visionare questi rapporti con le banche la direttiva no sono telefonici un argomento così delicato non avete pensato di farvi dare due righe scritte avete chiesto un parere se c'è una direttiva no più che altro scusimi se c'è una direttiva della Banca d'Italia e le banche si adeguano non credo potessero avere difficoltà a mandare due righe scritte almeno la direttiva ce l'abbiamo da visionare è possibile recuperarla ma scusi assessore adesso non voglio essere però stiamo discutendo le linee guida del bilancio chiedo scusa del piano regolatore arriviamo arriviamo qua gli vengono fatte alcune domande io per carità non ero in commissione non so se via che non debba saperlo però io credo che questa mi sa un po' la storia delle partecipate quando si discute il bilancio non c'è il bilancio allora se è possibile averle visto che hai detto che ci sono delle direttive della banca d'italia le guardiamo per essere chiari noi qui stiamo discutendo la delibera di direttive la delibera di direttive nasce su delle questioni noi abbiamo chiesto per sicurezza nostra abbiamo fatto dei confronti e abbiamo chiesto delle informazioni per capire qual era il panorama e per sostanziare quello che è un indirizzo che è quello delle salvaguardie gli approfondimenti non fanno parte della direttiva non fanno parte del documento perché sono a latere e sono informative che noi abbiamo preso e contatti che abbiamo preso con alcune realtà per capire quali poteva essere il panorama il documento che noi discutiamo è la delibera di direttive bene consigliere un altro chiarimento va bene consigliere consigliere è piccinato lei deve chiedere chiarimenti no bene altri chiarimenti chiarimenti me lo domando anch'io però così io non posso togliere la possibilità di chiedere chiarimenti lei consigliere Pedicini l'ordine dei lavori quando sono finiti i chiarimenti iniziamo la discussione ci sono ancora chiarimenti no bene ok allora passiamo l'apertura la discussione adesso apriamo la discussione potete iscrivervi andiamo a esaurimento alla delibera come deciso mi dispiace non so che lo farci dunque il consigliere Giannelli mi aveva iscritto per primo e mi aveva chiesto di poter parlare per primo perciò anche se dopo il consigliere è piccinato darei la parola al consigliere Giannelli preo consigliere Giannelli l'agenzia del territorio assessore pensi che stabilisce in 400 euro al metro cubo una palazzina media l'agenzia del territorio 400 euro al metro cubo per costruire una palazina un intervento quindi l'agenzia del territorio le garantisco che non può dirle niente in ordine allo sistema finanziamento del real estate dell'edilizia chiuso allora assessore lei intanto devo farle i complimenti perché ha fatto un lavoro superlativo neanche una tesi di laurea di quelle più belle poteva essere fatta così ma non sto scherzando abbiamo un assessore che ha lavorato molto ha fatto un lavoro egregio e per farvi capire che cosa intendo faccio un esempio è come se l'assessore potesse essere rappresentato da due amanti a un certo punto dopo la pagina dopo la pagina 17 uno dei due amanti nel caso specifico il maschio si ricorda di un certo dottor Gino Knauss e inizia il coitus interductus lei assessore ha fatto 17 pagine straordinarie da sogno e poi a un certo punto neanche seguendo un'ideologia che oggi potremmo ascrivere alla Corea del Nord ha inserito le pagine 18 e 19 e il rapporto amoroso che poteva avere lei con il consiglio comunale con l'opposizione con i cittadini con gli imprenditori con la gente che ha i terreni che sta aspettando che la crisi finisca per dare attuazione ai sogni pagine 17 18 19 salvaguardia da assumere eccetera questo assessore è un piano contrattore generale non regolatore contrattore perché noi dicono noi siamo d'accordo con tutte quelle meravigliose cose che esistono all'inizio e che sono le questioni idrogeologiche le questioni sismiche sto leggendo quegli appunti che mi sono preso giovedì perché lei aveva promesso che ci avrebbe mandato le slide dei riepilogo no non ce li ha mandati comunque mi sono stato attento una volta tanto e mi sono preso bello il discorso idrogeologico bello il discorso sismico salvaguardia ambientale ma chi non vuole la salvaguardia ambientale le chimere della sinistra chiuse prete il ragionamento sovracomunale della città dei centomila che non succede non avverrà mai un sogno c'è una mia mozione a questo proposito all'ordine dei lavori un sogno è possibile il risparmio delle risorse gli scenari tutto magnifico il libro dei sogni io l'ho anche scritto anzi l'ho detto in un'intervesta lei è assessore è così brava che se io dovessi fare un piano regolatore in un'altra città chiederei di poterlo fare con lei perché oltre a essere una una donna intelligente brava bella ha fatto un lavoro superlativo questo deve essere chiaro perché quello che vado a dire adesso non è altrettanto bello l'unica cosa sulla quale siamo d'accordo è che nelle zone esongabili dove arriva il fiume le famose zone F e le zone P2 a rischio ragionevole siamo perfettamente d'accordo zone ad attuazione diretta dove io chiedo la concessione mi viene data qui è perfetto nella storia della nostra città abbiamo fatto errori tragici che non possono essere ripetuti punto però le mutate prospettive che abbiamo nei prossimi anni ci dicono che la città deve cambiare non possiamo più costruire così ma questo è un problema qualitativo non quantitativo se voi andate a vedere vi faccio un esempio per tutti ditemi chi prima di 15 anni fa conosceva la cittadina di Bilbao prima che un certo Frengeri grande architetto costruisse un'opera oppure io Rochamp lo so però non è vicino alla cittadina francese la cappella di Rochamp è un gioiello di Le Corbusier nessuno sapeva che esistesse quindi se al posto dell'architetto Giannelli Corte del Bosco quel complesso vicino al Parco Galvani l'avesse fatto Renzo Piano ragazzi noi saremo su tutte le riviste del mondo invece l'ha fatto un modesto professionista di provincia Giannelli quindi il problema assessore è di qualità il problema non è quantitativo perché 30.000 cubi fatti bene sono sempre meglio che 2.000 metri cubi fatti male magari in un punto strategico quindi se è vero io naturalmente devo cercare di tenere accesa l'attenzione dei colleghi quindi ogni tanto capisce no? perché la soglia di attenzione è su questi argomenti poi è di due minuti poi non avendo più la voce di una volta sono anche costretto a moderare non posso alzare la voce voi scuserete ma io mi considero tra amici compreso pedicini e noi ce li diciamo noi siamo grandi amici gli operatori io torno a ripetere guardate che questa è la verità se c'è qualche impresario dietro lo può confermare fino a prima del 2008 non c'era un complesso che iniziava finiva e che avesse un appartamento invenduto quindi quel patrimonio immobiliare che c'è adesso invenduto è determinato dalla crisi questo ve lo mettono per iscritto chiunque perché io che ho 60 anni ne ho 35 di mestiere e vi garantisco che ne ho fatte di costruzioni non ho in una mia costruzione un appartamento vuoto perché fino a prima che arrivasse la crisi adesso qualcuno che non è del mestiere può fare anche i segni però vi garantisco che fino al 2007 progettavi un palazzo di 10 appartamenti e li vendevi tutti allora questi imprenditori quando è arrivata la crisi non potevano lasciare il palazzo al grezzo lasciarlo lì ferma tutto ve l'ho detto un imprenditore serio che deve tutelare anche il solo appartamento venduto finisce il palazzo tira fuori i soldi li rischia chiude la chiave e aspetta che finisca la crisi ma il comune va a vedere e dice wow palazzo tutto chiuso venduto un solo appartamento e no non è così e come vi ho detto io quei palazzi che voi vedete al grezzo sono stati fatti da imprenditori che non avevano la forza e i debiti per finire i complessi perché quando è arrivata la crisi nel 2008 io stavo completando faccio sempre esperienze personali così mi potete credere io stavo facendo corte del bosco e l'imprenditore mi dice architetto non riusciamo a vendere le banche non danno più soldi c'è il panico c'è la più paura della crisi che non crisi quella volta e un grande imprenditore come Genesio Settenga ha detto io ho fatto un palazzo in classe A perché ci sono muri a 60 in raggiamento il soffitto caldo freddo ho speso anche soldi per i suoi per le sue cazzate che ha disegnato perché mi ha fatto fare tutte queste belle robe però lo finisco quando ho chiuso la porta blindata il palazzo non va male tutte le crisi finiscono quando finirà la crisi lo venderemo e vi garantisco che adesso hanno ripreso a vendere un appartamento al giorno quasi ok quindi quando parlate del patrimonio invenduto la realtà è un patrimonio che è fatto con i soldi e il sudore e non il guadagno dei costruttori quando non è la palazzina di famiglia tempo il problema della voce non è da poco allora è gravissimo assessore fare far apparire l'invenduto cioè gli appartamenti chiusi come una produzione impropria da bastonare da dire avete visto Bolzonello quanti cubi ha dato a destra e a manca avete visto non è così facciamo apparire un patrimonio che è fatto con la fatica e con il rischio degli imprenditori che hanno deciso di andare contro la crisi e finire questi palazzi guardate anche il famoso eco-mostro avete visto cosa hanno fatto non l'hanno finito del tutto però gli hanno dato sono andati avanti avrebbero potuto lasciarlo lì come di fronte ad esempio c'è quello la excuria lì si sono fermati ci sono le tele sbrindolate in giro per altro atteggiamento altro potere economico qualcuno ha deciso di buttare ancora soldi e chiudere finire perché come ripeto le case non vanno male ed ecco allora che se vogliamo immaginare assessore un nuovo modo di vivere perché lei in sostanza dice signori fino a ieri abbiamo vissuto in un modo oggi vuoi la globalizzazione vuoi la crisi vuoi un'altra sensibilità al modo di esistere tutte queste cose ci inducono a pensare che nei prossimi decenni costruiremo diversamente e allora assessore ecco perché continuo a dire che il suo a un certo punto è stato un tornare indietro fermarsi un piano contrattore un piano di contrazione non di sogno non di speranza la città la cambiamo con quello che Aldo Rossi indimentica maestro d'architettura che ha fatto i fatti urbani io credo sono convinto che il piano regolatore deve dare un'indicazione per come vorremmo vivere con dei fatti urbani dei grandi progetti pilota e ne cito qualcuno perché così mi faccio capire bene nel 1950 qualcuno diceva la riviera che deve essere costruita la riviera che è una strada di scorrimento della città e oggi fa parte del ring impedendo completamente l'avvicinamento della città al fiume il piano regolatore nuovo il piano regolatore di Giannelli diciamo così del pazzo dice sulla riviera Asca facciamo passare la strada sottoterra e sopra lungo il fiume costruiamo negozi uffici e abitazioni io apro la finestra e vedo il fiume stai zitto vedi cini non sai niente sei un bravo politico forse ma di stai non sai niente sopra il 1850 stai buono fammi finire un ragionamento perché è difficile soprattutto per te chi non verrebbe a comprare un appartamento dove aprendo le finestre vedi il fiume e aprendo quelle dietro vedi Corso Vittorio l'abside del Duomo questo è un progetto un fatto urbano io decido che questa città si dà questo fatto poi prendo il Bronx e decido imprenditori sappiate che il Bronx se volete io do una norma che è possibile demolirlo e ricostruirlo con un indice maggiore in altezza purché sotto ci sia un giardino magnifico e purché ci siano negozietti uffici e abitazioni in modo che la gente possa abitare e guardare dall'alto il Corso poi prendo Piazza della Motta ci faccio uno scavo di 4 o 5 piani metto i parcheggi per i residenti del centro storico chi abita in Corso Vittorio ha accesso a Piazza della Motta che verrà richiusa col nobile interrompimento poi prendo l'area delle caserme e dico proprietà dell'area delle caserme devi fare l'ospedale una volta avevo ipotizzato questo intervento per l'ospedale ma avete deciso di farlo da un'altra parte prendo l'area delle caserme e dico lì facciamo social housing con delle norme precise che non trasformino quell'ambito in un ghetto voi sapete bene che con il social housing si corre il rischio di ghettizzare però c'è modo e modo di farlo io ho esperienze dirette condomini piccoli interventi social housing all'ultimo piano hanno messo due famiglie della guardia e finanza al primo piano ci sono due famiglie carabinieri poi ci sono delle coppie degli studenti ci sono degli extracomunitari c'è altra gente ed è un palazzo che io ho visitato dove non c'è una carta per terra dove non c'è casino perché in qualche modo se noi facciamo 60 appartamenti e gli diamo agli extracomunitari è evidente che qualche problema lo avremo faremo un ghetto che siano extracomunitari quindi continuo a dire dobbiamo fare un piano regolatore che abbia come obiettivo far sognare gli imprenditori dire venite a costruire a Pordenone non andate a Treviso non andate a Sacile non andate a Oderso non andate venite qui perché qui avrete delle condizioni ancora più belle quindi Assessore io credo che il nuovo piano regolatore debba avere un'impostazione di crescita non di contrazione la soglia di attenzione è calata e quindi bevo un po' d'acqua e poi non dico più niente mi è venuto in mente adesso di non dire più niente perché cioè chiudere illustrando un emendamento che io ho fatto alla vostra delibera perché primo perché c'è molto più di gente che deve parlare secondo perché so bene che non serve a niente cercare di convincervi che un piano regolatore si fa con progetti grandi progetti per punti strategici la zonizzazione è un'arte che non esiste più i famosi zoni non esistono più oggi vale il criterio dell'architettura della città dove il problema è architettonico non è urbanistico le città non sono più fatti urbanistici vi ho fatto gli esempi di Bilbao ma potrei parlarvi della defensa a Parigi questi pazzi a un certo punto decidono di fare un quartiere intero dove hanno concentrato prima solo attività direzionale adesso vanno a farci i baretti o Montparnasse o Berlino l'isola dei musei insomma mille esempi siccome però assessore io credo che le famose pagine 18 e 19 siano state quelle pagine che mi hanno impedito di dare quello che io volevo darle il mio bel 8 e dire ai miei colleghi una benevole astensione e lei non l'ha fatto io chiedo che la delibera sia emendata come segue e chiedo a tutto il consiglio comunale di fare questa questa questo emendamento che leggerò per essere tranquillo indipendentemente dal tipo di zonizzazione a cui sono soggette vanno escluse escluse dai criteri della salvaguardia esclusi dai criteri della salvaguardia tutti i piani che sono stati presentati perché a pagina 19 si dice sono esclusi dall'applicazione della salvaguardia gli interventi ricompresi all'interno dei piani di attuazione approvati e convenzionati io invece dico che sono esclusi dalla salvaguardia tutti i piani presentati in itinere perché anche se non sono stati approvati o non sono stati adottati comunque fanno parte di accordi che l'amministrazione ha preso con i cittadini quindi devono essere esclusi dalla salvaguardia tutti i piani presentati per l'approvazione adottati anche se non ancora perfezionati da convenzioni devono essere escluse dalla salvaguardia tutte le aree oggetto distanza di domanda volta all'ottenimento del relativo titolo abilitativo cioè tutte quelle zone dove io ho chiesto la concessione non possono essere oggetto di salvaguardia vanno escluse dalla salvaguardia tutte le aree edificabili dove la proprietà dimostri un vincolo di assoggettamento o un impegno economico con una banca quello che si diceva prima io ti dimostro che per questo terreno e per fare questa operazione che si è fermata per qualsiasi motivo ho un impegno bancario di questa esposizione e quando l'area l'area diventerà non più edificabile è certo che la banca mi dirà senti signore io ti ho dato una garanzia reale su un valore 100 adesso vale 10 dammi il 90 che mi serve e faccio fallire le imprese quindi è un piano di contrazione perché è un fatto reale se io ho impresa ti dimostro che ho chiesto soldi per fare un palazzo poi l'ho finito quando è arrivata la crisi e lì l'ho chiuso comincio a vendere sento qualche scricchiolio forse il prossimo anno vendo e la banca arriva e mi dice guarda che quel tuo terreno lì dove dovevi fare il famoso secondo lotto o quel terreno dei 100.000 dove ne devi fare ancora due terzi non vale più quindi esclusi anche questi vanno escluse dalle dalla salvaguardia tutte le aree dove la proprietà dimostri e guardate che questo è importante vanno escluse dalla salvaguardia tutte le aree dove si dimostri che c'è un impegno dell'amministrazione a concretizzare delle azioni di crescita di sviluppo per la trasformazione in tempo oppure quelle che sono state messe in atto iniziative concrete faccio un esempio io devo fare questo ampliamento ho presentato il piano sono andato in commissione la commissione ha detto bello il progetto sono bloccato da due anni dalle ferrovie dello Stato perché devo spostare il casetto di 10 metri io ti sto dimostrando che ho in essere degli atti delle azioni che per ora mi impediscono devono essere escluse dalla salvaguardia tutte le aree dove la proprietà dimostri la sussistenza di accordi con l'amministrazione per la trasformazione in termini di inizi oppure quelle dove sono state messe in atto attività e o iniziative concrete destinate all'attuazione e un miglioramento delle stesse finisco assessore questa mozione che adesso presenteremo si riferisce a delle situazioni addirittura di retroattività è già stato detto si riferisce a questioni che sono alla pagina 18 punto B più ultimo coma del punto B alla pagina 19 punto C penultimo coma alla pagina 19 punto D secondo coma cioè non mi venga a dire perché alla risposta che mi ha dato lei prima io ho fatto un esempio preciso concretissimo ebbene lei mi ha dato una risposta esattamente contraria a quello che è sancito dalla salvaguardia e vedrà che è così allora chiedo a tutti i colleghi di firmare dove è l'originale me l'hanno fregato assessore no qui qualcuno lavora contro eccolo voi non l'avete no dice gente che l'ha letto e la firma io questo mi dica lei presidentissimo quando posso presentarlo lei l'ha presentato adesso adesso no non è presentato ce l'ho qua in mano l'ho illustrato le dico solo questo il contenuto dell'emendamento deve essere tale che se approvato deve andare a modificare la delibera senza ulteriori interventi pertanto il contenuto deve essere puntuale prego deve essere puntuale cioè lei deve è puntualissimo no no puntualissimo in quel senso mi ascolti perché se no non è dopo lo deposita lei ve l'anni prego no non l'ho visto perciò no no lo leggo no 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 ho ancora tre minuti no me lo faccia scusi me lo faccia vedere dice chiedono di emendare la suddetta delibera proposta alla fine del punto 3 si è inserita la seguente dicitura ed è scritta punto 3 no punto B al punto 3 della alla fine del punto 3 e qui la delibera assessore basta va bene si o no si si alla fine del punto 3 dopo la voce E c'è scritto che siano inserite queste parole lo consegno adesso o dopo è puntualissima proprio come il mio orologio oh guarda il mio orologio ti piace? non l'ho trovato c'è di amare bene grazie consigliere Piccinato prego grazie grazie presidente scusi consigliere Piccinato un secondo prego grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e 15 dobbiamo ancora iniziare gli interventi ma no dobbiamo trovare prima la voce cioè non vorrei che ci trovassimo alle 3 di domani mattina a discutere di un argomento importante come il piano regolatore allora chiedo non ho la pretesa chiedo di valutare se sia il caso di modificare quelli che sono stati gli accordi nella conferenza del capigruppo perché dobbiamo ancora iniziare cioè interverremo tutti con il raddoppio dei tempi io non so domando insomma ecco mi sembra che ci siano ci siano delle posizioni pertanto ma che senso ha alle 2 rivedere i tempi scusate rivedere i tempi degli interventi siete liberi di farlo autonomamente perché ovviamente io non posso impedire al consigliere di utilizzare tutto il tema previsto del regolamento però qui vedo che non c'è sono posizione andiamo avanti con il programma previsto in conferenza prego consigliere Piccinato vediamo dove andiamo a finirla prego no 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 io ho capito che lei ha chiesto se c'è disponibilità sì ma lei mi ha detto vorrei sapere vorrei sapere l'opinione allora è una mozione d'ordine ufficiale eh si vede si vede che agiti di reato vabbè facciamo ok allora scusate 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 sul silenzio per cortesia sospendiamo 5 minuti capigruppo di là ma 5 minuti di numero cosa c'è aspetta che metto via il computer quando devo cominciare sì io ho fatto cavallo uno a favore e uno contro allora quanto tempo vuoi tu per parlare quarto d'ora quarto d'ora sì perché devo eseguire ordini guardate che state registrando ufficinato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Signori, per cortesia, accomodatevi che riprendiamo i lavori. Riprendiamo i lavori. Allora, l'esito della riunione delle conferenze dei Presidenti è stato quello di proseguire i lavori con invito a contingentare i tempi di intervento. Pertanto, invito a contingentare i tempi. O, al senso del regolamento, non può essere poi imposto. Bene, ricominciamo i lavori. Consigliere Dalmas. Prego, consigliere Piccinato. Stiamo qua fino a domani mattina alle 6. Prego, consigliere. Silenzio, per cortesia. Date la parola a consigliere Dalmas, per cortesia. Sull'ordine dei lavori. Sull'ordine dei lavori. Sull'ordine dei lavori. Sull'ordine dei lavori. Allora, guardi, io mi appena... Dov'è il sindaco? È andato via. È andato via. È andato via. Dov'è il sindaco? Dov'è? È grande sindaco, venga qui. Allora, siamo davanti ad un atto importante di questa amministrazione. Forse il più importante di questa amministrazione. Destinato, destinato. Io, con senso di responsabilità, faccio questo discorso. Non è che me lo invento così. E formalizzo la mozione. La decisione della conferenza dei presidenti a me non sta bene, personalmente. E credo che non stia bene nemmeno rispetto a quanto diceva prima il collega che aveva proposto una mozione d'ordine che lei doveva mettere in votazione e semmai poi convocare. Quindi primo vulnus di questa procedura. Avrebbe dovuto convocare poi, nella difficoltà di dirimere in case eccezionali, avrebbe convocato subito la conferenza dei presidenti. E siete andati avanti su questo, vi siete riuniti nella conferenza dei presidenti e avete deciso che cosa? Niente. Mi chiedo il diritto suo, cioè di vedersi bocciare ciò che aveva proposto, dove l'avete messo, l'avete impappocchiato dentro la conferenza dei presidenti. No, 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 no. Questa è la verità. Io credo che il consigliere Pasuta abbia ritirato la sua mozione d'ordine, se no avrebbe chiesto adesso che venisse messa i voti. Pertanto non abbiamo nulla da votare. Io non so che cosa avete deciso. Quello che le ho appena riferito. Non so che cosa avete deciso, perché prima non gli avete, lui ha formalizzato una mozione e lei ha convocato subito la conferenza dei presidenti. Avrebbe dovuto mettere votazione, avrebbe dovuto. Caro consigliere, lei, no, 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 avete deciso di procedere in quel modo. Avete deciso di procedere in quel modo. Come vi faccio a perdere il tempo? Scusi, collega Tomasello. Scusi, consigliere Dalmas. Qual è la mozione d'ordine? Lei può pretendere di approvare le linee, guida, direttrici. Consigliere Tomasello, per cortesia. E allora io chiedo e rifaccio la proposta che aveva formulato prima il collega e la formalizzo e chiedo che questa Assemblea continui la discussione fino ad un'ora ragionevole, fino ad un'ora ragionevole, un'ora ragionevole, possiamo andare avanti ancora un'ora, senza gettoni, perché tanto io, sapete, avevo rinunciato ex tempo a queste robe, e riconvochi il Consiglio decentemente, cioè tra una settimana alle tre di pomeriggio, dove possiamo discutere, fare normalmente gli interventi e non arrivare in queste condizioni qui, dove abbiamo iniziato la seduta del Consiglio, parlando di cose che sono certo importanti, ma che non sono riferite all'uguale pregnanza del tema che oggi si sta discutendo. Quindi io ritengo che il diritto suo sia stato leso, e lei oggi dovrebbe, anzi, dovrebbe rivedere la decisione della Presidenza. Mi appello al Segretario, mi dica che sto dicendo probabilmente delle sciocchezze, però è stato troppo veloce e repentino, fulmineo, nel convocare la conferenza dei Presidenti, che non so che cosa si riunisca a fare questa conferenza dei Presidenti. Consigliere Dalmas, per cortesia, allora la Commissione Capigruppo, Presidenti, non ha deliberato nulla, non ha deliberato la modifica dell'ordine di lavoro che va deliberato. Con un invito, con un invito ad avere... Guardi, allora, siccome il Consigliere Pasuto non ha chiesto... ...teghi tempi contenuti, ma stai chiestando, la cosa ha dicendo... Scusi, Consigliere Dalmas, lei ha detto, adesso ha chiesto la mozione, siccome il Consigliere Pasuto non ha chiesto che venisse messa i voti, la sua mozione dopo la riunione Capigruppo, se lei presenta questa mozione, conclusione dei lavori, alle 11.30, se lei presenta questa mozione alle 11.30, la mettiamo ai voti. Allora, un intervento a favore e un intervento contro. Consigliere, ma sto dicendo questo, la smetta, sulle 10.30, sta ripetendo, le ho detto, va bene, ho accolto la sua richiesta. Qualcuno vuole intervenire a favore di questa mozione? Qualcuno vuole intervenire con... Grazie Presidente, intervengo a favore e con piacere del collega Dalmas, potrà sembrare strano ma è così, perché è una proposta legittima e seria, è uscito prima, ma perché ci tengo che resti anche agli atti, quanto è uscito prima in Commissione Capigruppo. Praticamente la maggioranza, la maggioranza dei presidenti dei gruppi e quindi dei gruppi consigliari, maggioranza semplice, non quella col voto ponderale, e quindi che rappresenta la minoranza di questo Consiglio Comunale, la minoranza di questa città, la minoranza di coloro che vedranno gli esiti di queste linee guida, quindi una minoranza, ha semplicemente espresso un concetto, l'ora è tarda, ci sono parecchie persone iscritte a parlare, ce ne sono altre che non si sono ancora iscritti, è giusto, è giusto e legittimo che ognuno possa esprimere e possa lasciare le proprie idee per il futuro della città, per il futuro di quello che ci circonda, quello che diceva prima l'assessore. E quindi, a una domanda legittima che è stata fatta, caro sindaco, cara amministrazione, abbiamo delle impellenze, abbiamo delle urgenze, dobbiamo concludere ed approvare questa delibera entro stasera, se no perdiamo dei finanziamenti comunali, statali, regionali, sovranazionali, europei, a cui non accediamo mai, ma questo è un altro discorso. Allora, o possiamo semplicemente rimandare il dibattito, il discorso, in un'ora in cui, primo, ognuno di noi riesce a esprimerlo nel tempo dedito, secondo, il pubblico, stasera stranamente abbiamo qualcuno, piuttosto che le quattro persone in croce, che dobbiamo anche ringraziare, che vengono a vederci, abbiamo una parte di persone che rappresentano una parte importante delle categorie interessate, ai nostri concittadini che sono qua per ascoltare e avere delle risposte, ma che credo vogliano sentirsi delle risposte ponderate, prese all'esito di una discussione, di un dibattito che così si possa chiamare, e non in coda a notte tarda, per fare che cosa? Per cercare di recuperare il ritardo di questa amministrazione, che è l'amministrazione che è arrivata adesso a presentarci in linea guida e quando gli chiediamo, e quando gli chiediamo, Sindaco, lei stesso l'ha dichiarato, mi sembra, nel bilancio preventivo 2012, chiedo scusa, se non approviamo entro poco le linee guida, il piano regolatore mi rimetto, siamo arrivati a oltre metà mandato e adesso ci dice che non possiamo rimandare la discussione, beh, io credo che la città meriti di più, Sindaco, meriterebbe un'altra amministrazione, ma questo non possiamo cambiarlo, almeno un dibattito più serio sulle linee guida, grazie. Grazie, qualcuno che vuole intervenire nel senso contrario? Consigliere Bianchi Prego Il gruppo privo dal consigliere che ha appena parlato, era alle 10 e mezza e io vado a casa, bene, se vuole andare a casa vada, noi continuiamo, grazie Grazie, bene, mettiamo, silenzio, silenzio adesso Allora, mettiamo ai voti la mozione d'ordine del consigliere Dalmas che chiede che i lavori vengano chiusi, se ricordo bene, fra un'ora, pertanto devo ritenere alle 11 e 40 Bene, allora, votazione ovviamente della mozione, chi è contrario, voti i contrari Bene, dichiaro No, ragionevole, hai detto un'ora Vabbè, ragionevole un'ora, comunque dichiaro aperte le votazioni Chiaro chiuso le votazioni Esito la votazione seguente Presenti 39, votanti 38, maggioranza 20, favorevoli 15, contrari 22, astenuti 1, la mozione d'ordine viene respinta Bene, riprendiamo la discussione, do la parola al consigliere Piccinato, speriamo che questa volta riesca Prego, consigliere Piccinato Mi date? Ok Grazie Presidente Dopo aver letto la propaganda elettorale del sindaco E scusate, il documento Sì, no, l'avevo scambiata Il documento di indirizzo per il piano regolatore Noto, appunto, il déjà vu c'è stato perché l'ho letto e mi è sembrato proprio la propaganda elettorale con cui si è candidato a sindaco Perché è pieno di buone intenzioni Con aiuto, sostegno, riqualificazione, eccetera, eccetera Ma non dice mai come, non dice perché Tutto sommato, nella sua globalità, lo condivido anche, su tanti aspetti, senza, non ho problemi a dirlo Ma poi manca Manca tutto il resto, manca la base, manca tutto Cioè, ok, è un indirizzo Ma diteci come volete realizzarli effettivamente quegli indirizzi Perché se no Non c'è Non c'è alcun tipo di dibattito su quello Perché Tante cose, appunto, le condivido Ma poi bisogna vedere Come volete realizzare quelle cose Perché se mi dite che volete riqualificare il centro Per esempio Incentivando i cittadini del centro Detassando Detassandoli Purché riqualifichino Ben venga Sono d'accordo Ma se invece avete intenzione di dare sovvenzioni tassando ancora Magari no Allora Stesso discorso vale un po' per tutto il resto Bisogna cercare di capire Che cosa effettivamente avete intenzione di fare per tutte queste cose qua Mettere insieme Altre burocrazie per realizzare il piano che avete stilato Anche questo è un punto importante secondo me O bastano i dipendenti che ci sono Questo è un punto importante secondo me per capire La questione è lodevole sicuramente Ma merita di essere approfondita anche in questo senso Poi ho già Mi avete sentito più volte fare questa affermazione Che il 75% Dell'intero valore Della ricchezza È data Come stima Dall'immobile Quindi andare A toccare questo tipo di Proprietà Diventa sempre un argomento molto delicato Non condivido alcune prese di posizione Che sono già state anticipate da parte di altri consiglieri Sulla possibilità della perdita di ricchezza a livello globale Perché poi bene o male Se le cose vengono fatte bene E sottolineo Se le cose vengono fatte bene Può darsi che un domani Si recuperino I valori Economici Che altrimenti questa crisi Inesorabilmente toglie Detto questo però Bisogna fare subito una precisazione Glielo ripeto Assessore Più 30% Una volta che lei somma il 30% E poi lo toglie Sottrae ricchezza Rispetto al 100% iniziale Ne toglie il 9% Quindi la invito O a dirlo chiaramente Che vuole togliere il 9% di ricchezza Oggi Possibile Ai cittadini Oppure a dire che Vuole lasciare esattamente le cose come stanno Come ha detto prima E quindi la invito a cambiare Il numerino da 30 Da meno 30 a meno 23% Che sarebbe La questione esattamente matematica Della cosa Altrimenti Non ragioniamo della stessa cosa O quantomeno Non parliamo della stessa cosa Visto che lei ne scrive una E ne dice un'altra La propaganda Magari la lascio ad altri Allora Anche in questo Magari sarebbe stato tolto Il 9% Dell'ecomostro Se fosse stato fatto prima Poco Ma insomma Il 9% Non era così male Non era così male Poi Anche qua Si parla Ho letto diverse frasi In cui dice Che volete fare delle politiche Per la casa Finalizzate alla coesione sociale Avete previsto come in Emilia Romagna Di dare una quota Ogni palazzo per gli immigrati Cioè che non superi per esempio Come avevano fatto loro Il 10% della popolazione In maniera tale che Possa costruire questo Una coesione sociale E lo stesso non solo nei palazzi Ma anche a livello globale Nei vari quartieri In maniera tale Che abbiano Maggiori possibilità Di interazione Con chi in questa terra Abita da sempre E magari Ci sono scambi A livello personale Diretti In maniera tale Che entrambe Le due parti Possano interagire E produrre Quella che si chiama Integrazione Ma peccato Che non ho visto Alcun tipo Di riferimento In questo indirizzo Segno che per voi Il problema dei ghetti Qua a Pordenone Non esiste E invece esiste Perché ci sono zone Della città In cui La concentrazione Degli immigrati È intollerabile Intollerabile Tant'è che ha provocato Anche Visto che si parla Di edilizia Una perdita Di valore Di immobili A causa Della concentrazione Di immigrati Oltre che aree Di disagio Sia per gli immigrati Che per gli italiani E questo Mi dispiace Di non averlo letto In questo documento Potevate scrivere Aria fritta In questo caso Ma non l'avete fatto Non l'avete fatto E questa è una grave Mancanza Poi Leggo Anche qua Che avete Ampie previsioni Di quello che succederà Per cui Si va Nel futuro Eccetera Eccetera Ma qui parliamo Della mancanza Della base Delle politiche sociali Demografiche Anche qua Il comune è carente Come facciamo A pensare A una città più grande Che comunque Rimane più grande Rispetto a quella attuale Magari anche Dei centumila E non facciamo Una politica demografica Come facciamo A far pagare Cinquemila Cinquecento euro Al cittadino italiano L'asilo comunale E' impossibile Lei capisce Che non si fa Una politica demografica Con queste condizioni Un esempio Su tutti Non è Non è pensabile Che manchi Alla base Questo tipo Di ragionamento Alla base Di un indirizzo Edilizio Del piano regolatore Perché una città Deve provvedere Ai propri bisogni Anche da quel punto di vista Perché se continuiamo A calare Come continuiamo a calare Non abbiamo bisogno Di cubature a zero Abbiamo bisogno Di meno Sessanta per cento Ancora un po' Visto che gli italiani Da due Fanno sempre un figlio Ormai Quindi si dimezza La popolazione Più qualche morto Extra Si arriva Al sessanta per cento Vogliamo dare Una spinta demografica Almeno per pareggiare Quanti siamo oggi Si può chiedere Questo Uno sforzo aggiuntivo Invece che Dire Tassiamo 5500 Facciamo pagare 5500 euro A ogni cittadino Che vuole Mettere il proprio figlio All'asilo Quando va a lavorare Questo io veramente Non riesco a capire Come sia possibile Che non si Ragioni in questo modo Poi Riguardo Si parla anche Nel testo Di obbligo Di affitti Calmierati Per il 20% Ora Anche qua E' un discorso Da approfondire Perché Già c'è Un invenduto E un non affittato Nel Pordenonese Che è estremamente Elevato È necessario Prevedere ancora Ulteriori Istanze Di quel tipo Io penso Che una regolazione Del mercato Già Andrà Nel giro Di qualche Tempo Ad abbassare i prezzi Come già sta succedendo Perché la crisi Arriva su tutti E quindi anche Le persone Che Ho già notizia Di persone Che hanno avuto Abbassato Il proprio affitto E le richieste Di vendita Di una casa Non serve Imporre Altre costruzioni Di questo tipo Non ne vedo Alcun senso Piuttosto Facciamo Creiamo Facciamo funzionare Bene l'ate E boh Ma Già che si finanzia In maniera Adeguata Poi Anche qua Facciamo una distinzione Tra chi Ha Una possibilità Di estendere La cubatura Su grandi Su grandi Terreni Piuttosto Che Su chi Ha piccoli Terreni Perché Chi ha piccoli Terreni È una Magari È una persona Che ha Due risparmi E va Ad intaccare Quei risparmi Se invece Uno Ha patrimoni Molto ingenti È chiaro Che il discorso È completamente Diverso Si può fare Una distinzione O no O diciamo Che il grande Speculatore Il grande Imprenditore Il grande Eccetera Eccetera È uguale Al piccolo Pensionato Che magari Ha la casetta O al giovane Che si è appena Fatto la casa Con i mini risparmi Possiamo dirlo O no Anche in questo senso Mi sembra una cosa Di buon senso Diamo Un minimo Un segnale Fino Non so A una casa Di un valore Di 70 80 metri quadri Non chiedo di più 60 anche se volete Ma diamo un segnale In questo senso Un'equità Dalla sinistra Me l'aspetterei Invece qua Sembra che Sia tutto Alla ribalta Mi dispiace anche Di non aver trovato Riferimenti A uno di quelli Che dovrebbero essere Stati i cavalli di battaglia Di questa amministrazione Magari sono stato Ampiamente distratto io Ma Ampi riferimenti Non ne ho trovati Mobilità Traffico Ciclabili Dove sono? Non ho visto Indirizzi In quel senso Non ho visto Nuove aree pedonabili Non ho visto Nulla In quel senso Neanche Il minimo Che ci si aspetta In una città Di questo livello A parole A parole Non le vedo Ma forse L'ho letto male io Non lo so Sono stato Ampiamente distratto Mi sono perso 5-6 pagine In cui si esponeva Ampiamente I concetti Di riferimento Allora In questo In questo contesto L'idea È buona In generale Ed è anche condivisibile In molti punti Ma in altri È carente Ampiamente carente Su come volete realizzare Queste cose Sul Sul problema Dell'immigrazione Sul problema Del traffico Sono Sono questioni Non di poco conto Che preoccupano La gente In tanti modi Quindi Io vi chiedo Fate una riflessione Ulteriore Su queste questioni E poi Vi ripeto Rimettete Mettete quella cosa Non meno 30% Meno 23% Perché altrimenti Sottraete Ricchezza I cittadini Lo volete fare? Ditelo almeno Chiaramente Vogliamo togliere Una parte Da ricchezza I cittadini Per scelta politica Perché in un futuro Ci crediamo Ditelo Possiamo anche essere d'accordo Ma ditelo Non Dite una cosa E poi E un'altra Nella realtà Queste sono cose Che le lasciamo Ad altri politicanti Che non vogliamo Che entrino Qua dentro Perché Di demagogia Ne abbiamo già troppa Grazie Grazie consigliere Consigliere del Ben Prego No è rimasto scritto Già è già intervenuto Giannelli Cancellate Giannelli Così Il consigliere Piccinato Ha fatto un po' Un'osservazione Che dice Che questa proposta Sostanzialmente È una campagna elettorale Come uno Si è presentato Da sindaco E io dico Che questo Dovrebbe essere Un elemento Coerente Perché quando ti metti A correre Per fare una proposta Da sindaco Tu ti porti dietro Una idea Di città Chi parla Che ha fatto Questa esperienza Aveva fatto Come proposta Di dire Facciamo sì Che Pordenone Sia vissuta Come L'area centrale Del friuli occidentale E colloca Questa posizione geografica Nel nord est Quindi in pratica Era un'idea Anche di riferimento Della città Quindi è giusto Perché attraverso Un piano regolatore Generale In qualche modo Si crea O si ricrea Un'identità Di un luogo Gli immobili Ma anche specialmente Le persone Le attività Che si fanno Su queste persone Ovviamente Io non avrei messo Come simbolo Del piano regolatore Generale Un cubo Perché sembra Che sia La regolazione Dei cubi Ma non sono io Ovviamente A essere questo Però Se dovessimo pensare Un po' A una questione Di psicanalisi Vuoi mai Che sia Quella l'idea Ma in realtà Non va fuori Dall'idea del cubo Perché è un'idea Chiusa No? Su quello Che è fatto Allora Io avrei preferito Assessore Toffolo Fra parentesi Complimenti Per la chiarezza Completezza Precisione Impegno Convinzione Su quello Che lei Ha detto Chiuso parentesi Ovviamente Perché ho Un'altra Parte La nostra O quello Che mi pare Opportuno È Di pensare Questa nuova Identità L'avevo detto Qualche volta Ma giusto Facci capire Alla Naonis Del futuro Cioè Quella città Che fa riferimento Ai tre comuni Che hanno Nel noncello Un loro elemento Essenziale E se la nostra identità È intorno Al fiume Costruiamo Un blocco Che sia Dei tre comuni Cordenons Pordenone E Porcia Emendamento Peraltro Non accolto Da Questa maggioranza È intorno A quest'area Centrale Creare Gli elementi Che erano Di riferimento Che erano Di riferimento Per Il fluo occidentale Il veneto orientale Comunque Questa nostra Importante posizione Del nord est Allora Ho sentito L'assessore Che parlava Anche di vincoli Idrogeologici Se siamo Se siamo La città Del noncello E abbiamo Tanti problemi Di esondazione Chiudiamo Una volta Per tutte Le Sorgenti Del venchiaredo Che appartengono Al meduna Non al noncello E probabilmente Avremo Minor rischio Di esondazioni A Pordenone Oggi È assolutamente Inevitabile Quindi L'idea L'idea Era questo Di creare Questo insieme Dei tre comuni Che insieme Pensavano Alla loro Città Evidentemente Noi non troviamo Su questo documento Nessun orientamento Di Cordenons Nessun orientamento Di Porcia Peraltro Non abbiamo neanche Al momento Un orientamento Di Porcia O di Cordenons Che dicono Vogliamo fare Una città Importante Insieme Ragionevolmente Pordenone Non l'ha neanche chiesto Allora Andremo a fare Un intervento Monco Un cubo Non qualcosa Che si collega Con il proprio territorio Allora Se resta Pordenone Come è fatta lì Ragioniamo Che è un 50.000 Abitanti Di più non sarà Che ha Però adesso Un obbligo Di salvaguardare Quell'identità E quell'identità Che si devono salvaguardare In quel progetto Sono l'identità Se volete Anche intorno alle chiese Di Roreigrando Valenoncello E Vilanova Elementi della nostra storia Per collegati A quando avevamo I colori bianco e rossi Del collegamento Con l'Austria E il grande Importante Presenza di Torre Allora Pensiamo Se facciamo Un piano regolatore Che rappresenti L'identità Di quella Pordenone Dovremmo vedere Questi elementi Che infatti Che lì Non si vedono Altro elemento Noi siamo Siamo in una forte Crisi Economica Siamo in una forte Crisi Di produzione Non abbiamo sicuramente Insufficienza Di aree Destinate Ad attività Produttive Anzi Ne abbiamo In sovrannumero Per cui Questi Bisogna Con molta Pragmaticità Pensiamo Come possiamo Utilizzare Riutilizzare Queste aree Che non siano Un cotonificio Di Torre 2 Che non sia Un cotonificio Veneziano 3 Cioè per dire Che siano Ruderi Perché io penso Che la storia Di Pordenone Non sia rappresentata Da ruderi Non debba essere Rappresentata Da ruderi Ma debba essere Rappresentata Da proposte Che riescono Ad essere coinvolgenti Attrattive Martina Di quello che è Una Pordenone Che è nuova Però queste cose Anche sedette Anche sedette In modo apprezzabile Sono senza Quel modo Di dire Come si realizzano Vorrei Ma non so Ovviamente Vorrei andare In un certo senso Già in sé positivo Perché si possono poi Costruire insieme Gli elementi Per costruire Questo elemento Quindi era Una riflessione Così come una riflessione Che Già anni fa Avevamo proposto Di investire Ancora Negli elementi Produttivi Del primario Dell'agricoltura Che è un elemento Importante Per la nostra Per la nostra Città Allora Per dare anche Un contributo Che poi sarà Del tutto inutile Perché avete deciso Di votarvi Questa delibera Così come sta Prendendoci Per sfinimento Sappiate che Io ritengo Che voi non facciate Siete liberi Di pensare A quello che volete Un servizio Alla città Perché sul piano Regolatore generale Si possono Confrontare Idee Proposte Visioni Punti di debolezza Punti di forza Opportunità Insidie Che sono importanti Per valorizzare Una Pordenone Che ha Un centro direzionale Il Bronx Vuoto Chiediti per te Perché Sembra un malato Che abbia avuto Un'emorragia cerebrale O un ictus Che abbia una parte Che non funziona Ma il centro direzionale È questo Ed è anche destinato A svuotarsi Oltre L'attività commerciale A San Quirino C'è San Foca Che è il santo Protettore Degli agricoltori Vuoi che Intercedendo lui La nostra comina Aumenta La sua attività Produttiva O così come Valenoncello E come Villanova Ma questo per dire È una riflessione Perché ci è Estranea Alcune parti Qua dentro Se sono sole Sono Dentro di noi Inclusive Se facciamo Una visione Più ampia Che peraltro È tratteggiata Sul piano Che si vedeva Allora C'è anche Un altro elemento Di impostazione La delibera Scrive che Il piano regolatore È quello che Definirà Tratteggerà Pordenone Per alcuni decenni Poi Al punto 7 Di pagina 17 Si dice Che le cose Sono di validità Di 15 anni Io penso Che già 15 anni Sia un tempo In cui è difficile Progettare Però ci sono Già molti studi Sociologici Che dicono Come possono Possono valere Le prospettive Di Pordenone E io condivido Il pensiero Dell'architetto Pino Pedicini Che dice Noi saremo Fortemente condizionati Da Google Per cui I nostri prossimi 15 anni Saranno Tutti quanti In linea Ma non sarà Evidentemente così Ovviamente È ironia No? Allora Eh? No? Allora Questo è un problema Dopodiché È stato posto L'attenzione In senso molto Apprezzabile È la questione Del consumo Di suolo Però noi abbiamo Già Nel nostro Territorio Il 59% In modo Di terreno Che è Interessato Fra superfici Edificate Edificabili Se guardassimo Se guardassimo Se guardassimo dentro Questo 59% Lì vedremo Eventualmente Anche lo spazio Per un altro 15-20 mila Persone Allora Sono d'accordo Che non bisogna Dilatare O distruire Però Dentro queste aree Noi possiamo Sicuramente Fare un Ragionamento Di Uso di questo Però Se io butto dentro Su questo spazio Anche ulteriori Abitazioni Edifici Eccetera Non è che Trasformo Ma creo Elementi nuovi Era giusto per fare Un esempio Prima Una metafora E che se io Avessi Una Forma Di groviera E andassi a riempire I buchi Dei groviera Evidentemente L'identità Di quel formaggio Non ci sarebbe più Allora Pensiamo anche Cosa può capitare In una situazione In cui noi Andiamo a Ampliare Nel costruito Ovviamente Molto meglio Questo Dell'estensione Dall'altra parte E poi Per esempio Al punto 4 Punto 4 Di pagina 8 Bisognerebbe anche Un po' stabilire Cosa vuol dire La razionalizzazione Delle destinazioni Urbanistiche Quando si parla Finalmente Ma si parla solo Di un rapporto Fra Cordenonso E Porcia Cosa vuol dire Che andiamo a spostare Da un comune All'altro Delle aree Degli insediamenti Sì Potrebbe anche essere Perché La Zanussi È una superficie Enorme Che avrà Io spero Un grande futuro Almeno all'altezza Del suo grande passato Però essendo questo A confine con più comuni Necessariamente Richiede Qualcosa Che dobbiamo fare Insieme Poi abbiamo Altri elementi Di cui Si parla Di Rigenerazione Urbana E dobbiamo Vedere Queste Tipo Quando si parla Del social housing Come si inserisce Nel nostro Territorio Nel nostro Modo di pensare Anche perché Giusto per dire Nella nostra zona Il farsi la casa Comprarsi la casa Sia anche questo Un appartamento E una delle cose Che noi Abbiamo Abbiamo Dentro di noi Se volete Si può parlare Al punto 6 Di pagina 11 Quelle situazioni Che parlo di sostegno Per alcune Utilizzo di aree All'interno Delle zone Industriali E Ovviamente Se l'assessore Dice che siamo Quasi caduti In un momento Di dispersione Riferito al passato Non cambia la vita Facendo giudizio Sul passato Ma se oggi Il nostro comune Ha questi fenomeni Di dispersione Una riflessione Su come Questo sia originato Ragionevolmente Può ancora Può ancora Essere fatto Non mi interessa Chi fosse prima Ma però Per dire Se questa dispersione È frutto Del nostro Del modo di pensare Degli amministratori Comunali Dell'epoca Si introducono Delle norme Di salvaguardia Ragionevolmente Finalizzate A un'operazione Tecnica Che è Nella legalità E Il fatto Che vengano Per dire Temporaneamente Sospesi Alcuni diritti Diciamo che Se è funzionale A una Idea di concretezza Può essere approvato O non approvato Per quanto mi riguarda Lo troverei funzionale All'applicazione Di quegli aspetti Solamente Se vado a vedere Come sono Fatti Tutte le aree In cui Avviene Questa Norma di salvaguardia Troveremmo Tanti Fra virgolette Francobolli Che Mettono in evidenza Una necessità Di un ottimo Intervento Nella pianificazione Futura Ma allo stesso tempo Quasi dei nei Dei difetti Nella stoffa Che si era Creata Fino a questo Momento Allora Il ragionamento Che si può fare È questo L'urbanistica L'architettura Servono Servono anche Per chiederci Come viviamo In questo Nostro territorio Allora Fra i quattro elementi Messi dentro lì Io sicuramente Un richiamo Agli aspetti Socioculturali Alla nostra storia Alla nostra identità Di come Come paesi Orioni Noi siamo oggi Venuti A creare Pordenone E come ci siamo Inter Abbiamo interagito Con gli altri Comuni Di quello Che sono Che sono qua E Se il 52% Del nostro territorio È Vincolo Idrogeologico Potrebbe essere Una risorsa Per valorizzare Come peraltro È tratteggiato Sul piano regolatore Quella ricchezza Di paesaggio Ambientale Che potrebbe anche essere Una opportunità Per il futuro Di Pordenone Allora Anziché Vincolo Diciamolo Possibilità Di sviluppo Di quello che è fatto E all'assessore Ovviamente Ovviamente con affetto E Faccio una Considerazione Con Molta Decisione Forza E ragionevolezza Ha detto Noi siamo Impegnati A Efficientare La città Questa è Un'affermazione Che è corretta Che è valida Io però Ci aggiungerei Anche un'altra Cosa Che Oltre che All'efficienza Vorrei anche Valutare L'efficacia Di quello Che faccio In questa città Cioè Questa efficacia Vuol dire Quanti diritti Riesco a soddisfare Con le iniziative Politico Amministrative Di questo comune Allora Oltre che aver avuto L'elemento importante Della ragionevolezza Vado anche Verso L'elemento Politico Di garantire L'efficacia Di alcuni diritti Uno per tutti Che potrebbe essere Quello Della salute E questo Consiglio Comunale Nel giugno Del 2011 Ha approvato Un emendamento Che diceva Pordenone Deve entrare Nel novero Delle città sane Questo Ancora Non ha avuto Un seguito Ma perché Do tanto peso A questa situazione Uno Per rispetto Del Consiglio Comunale Ci mancherebbe Altra Perché ci sono anche Delle indicazioni Sulla qualità Di come si vive Qua dentro Dove non si pensa A sanità Malattia Ma si pensa Ma si pensa A salute E salute Non è solo Il determinante Delle condizioni Individuali Ma sono Tutto Del contesto Sociale Che creo Intorno All'area centrale Del Friuli Occidentale Per questo Il mio E' anche un forte invito A prendere contatti Spero Sindaco Con una Amministrazione Omogenea Fra poco In un comune Che ci è Che ci è vicino Ma perché si possa Devo tradurre No No Ma che Ma che Si possa Realizzare Questa veramente Qualificazione Del modo Di stare Su questo Su questa Area centrale Non solo Come territorio Ma come Modo di vivere E anche per dare La possibilità A quelli che saranno Qui dentro Di investire Nel loro futuro In quello che Questa amministrazione Sarà in grado Di proporre Di gestire Anche in questo Periodo di crisi Perché Questa sia Una zona Che può essere Valorizzata Se noi guardiamo Il 500 Vediamo che Intorno A Pordenone Ci sono state Molte iniziative Artistiche Sia da chi Dipingeva Sia da chi Faceva lo Stapellino Troviamo un po' Un nostro Nuovo 500 E diamo Alla nostra zona Possibilità Di attrazione Perché Venire a Pordenone È importante Se gli facciamo vedere Quello che Siamo noi Ma al di là Degli oggetti Delle cose Penso che Il nostro Modo di vivere Sia uno degli elementi Più importanti Per essere attrattivi Grazie Consigliere Passoni Prego Sì Signor Presidente Consiglieri Veloce Come ho promesso Una premessa Io forse Avrei preferito Fare un intervento Un po' più Completo Ma Mi adeguo Alle necessità Della maggioranza Anche se forse Potevamo anche Fare un discorso Diciamo Una discussione Più completa Magari partendo Prima Non so in che modo Ecco Mi dispiace Un po' Tarpiamo un po' Le ali Per l'amore di Dio Si fanno anche Tante chiacchiere Io Questo Lo dico Anche qua Però Su un argomento Una delibera Di questa importanza Sono venuti Circa tre anni Diciamo Di impegno Di lavoro Forse Meritava Magari Qualche ora in più Senza Quella problematica Di finire Prima di mezzanotte E dover prendere Un altro gettone Questo Capisco Con risettezze E con l'impegno La sobrietà Che ci siamo dati Ovviamente Questo Non ci è consentito Per cui Io parto subito Confermando Che sarà un intervento Breve e ridotto Complimenti Li ho fatti prima E quindi Non penso Che sia il caso Che li ripeta Certo Parto nuovamente Dal discorso Delle salveguardie Che qualcuno Ha tanto criticato Ma che invece Io ritengo Di dover qua Ringraziare Sia l'assessore Che il sindaco Per questa scelta Coraggiosa Perché Poteva Il rischio Di depauperare Il lavoro Progettuale Era evidente E questo Credo che sia Vantaggio Non solo Della Della comunità No? Dei cittadini Ma credo anche Di quelli che hanno Un diritto All'edificabilità Di queste Eventuali Aree Perché Credo che I fatti Di tutti questi anni Ci dovrebbero insegnare Che forse In certe aree Non si dovrebbe Costruire E quindi Al di là Poi capisco A livello privato A livello personale Lo capisco E io spero Che Siccome sappiamo Che questo Questo progetto Che ci dovranno Presentare Del racconto Del lavoro Di analisi E di relazione Che faranno Sul rischio Geologico Sul rischio Sismico E anche Sul Pums Tutto in aiuto A Costruire Le salvaguardie Necessarie Dal nostro territorio Per Diciamo Essere trasformato In qualche modo Rigenerato Perché noi Vogliamo Traguardare Il futuro Della nostra comunità Per cui Penso Che questa salvaguardia Sia Necessaria E utile E quindi Io mi sento Di apprezzare Il vostro coraggio Che avete messo In questa scelta Che noi Approviamo Al 100% Pur comprendendo I diritti Dei singoli Ma Che poi Invece Rispetto a questo Mi sento Di Sottolineare Che Il punto 7 Che lei Mi ha richiamato Diciamo Che non Mi tutela Al 100% Tra virgolette Ma Però c'è Questo impegno Chiaro Che Se Le condizioni Giuridiche Fiscali Lo consentiranno Almeno Questo sì Che è importante Perché se noi Sospendiamo Un diritto È giusto Che questo diritto Non paghi Un tributo Questo mi pare La palissiano Però Questa è una cosa Che va Mi attengo Ai punti proprio Essenziali Per non Andare Oltre Cinque Minuti Scusate Stavo Messo Ecco qua Allora In questo senso Dagli studi Ovviamente Sul rischio Idrogeologico Verranno Tutti Ovviamente Della Microsonizzazione Sismica Verranno Tutti Quegli Interventi Necessari A Mettere in Sicurezza Diciamo Il nostro Territorio Io Mi auguro Per il tempo Che sarà Necessario A sviluppare Questi Interventi Non ci Siano Ostacoli Di Patti Di stabilità Che non Ci consentono Questi Investimenti Necessari Ecco Questo Mi sento Di richiamare In questa fase In questa fase In ultima L'analisi Mi sento Anche Di dire Che Ovviamente Tutti I richiami In indirizzi Da lei Ben Sottolineati Sviluppati Nella proposta Sono Di grande Di alto Gradimento Da parte Nostra E quindi Non mi sento Di richiamarli Pedisicuamente Ecco Mi sento Solo Di Ricordare Di ricordare Che In questa proposta Noi Cerchiamo Di Migliorare I volumi E non Di svilupparli Certo Con Una Una Flessibilità Dovuta Al piano Struttura Al piano Operativi Successivi E questo Per meglio Rispondere Alle esigenze Del territorio Lungo il tempo In cui Sarà in vigore Questo piano E questa È una grande Forza Di questo piano Ecco Io mi Auro Comunque Che Questo Consenta Di Non sviluppare Ma di Rigenerare E migliorare Perché Questo È il concetto Di fondo Che ci piace Di più Per ultimo Per non andare Oltre Sono già sei minuti Vorrei dire Che Non posso Non ricordare Che Grazie Al PD O almeno Una parte Di esso E al sindaco Noi abbiamo Saputo tutelare La comina Proprio Diciamo Decidendo Di sviluppare Il nuovo ospedale Nell'attuale sito Io penso Che questa Si è stata una grande scelta Che Questo piano Potrà Diciamo Come dire Valorizzare Al meglio Visto che Abbiamo parlato Di salvaguardia Ambientale Non mi dilungo Oltre Perché vorrei Anche parlare Della Lousing sociale Che avete inserito Sempre nelle direttive Penso che sia scontato L'ho richiamato Nei punti essenziali Che Condividiamo In pieno Grazie per il lavoro E grazie per il coraggio Che avete avuto Grazie Consigliere Passoni Consigliere Loro Prego Grazie Presidente Sarò breve Anch'io Anche perché Il tema affrontato Avrebbe bisogno Di un'analisi Più approfondita Ma Visto l'orario Cercherò di fare Una breve panoramica Esprimendo Quelle che sono Le mie considerazioni Sul tema Io parto Io parto Da un dato Di fatto Noi abbiamo Un territorio Che per il 59% È edificato Ed edificabile Ed è Poggiato Per un terzo Su vincoli Idroideologici Pertanto La conclusione Che faccio È che siamo Di fronte A una situazione Di sovrapproduzione Edilizia Quindi La conclusione Di questa sovrapproduzione È che viviamo In un territorio Cementificato In cui L'edilizia Come sappiamo È una delle attività Umane Con il più alto Impatto Sociale E ambientale Per i costi Che essa produce Pertanto La domanda Che ci dobbiamo fare È cosa possiamo fare Di fronte A questa situazione E la risposta La troviamo All'interno Del documento Delle linee Di indirizzo Ossia Tutelare Le zone Le aree In cui Non abbiamo Ancora costruito Quindi salvaguardare Il territorio E valorizzare L'ecosistema Inoltre Da un punto di vista Economico Abbiamo una crisi Attraversiamo Un periodo Di crisi economica Che ci impone Un ripensamento Di quelle che sono state Le politiche di espansione Portate avanti In questi anni Pertanto L'edilizia E la città Non può essere Il solo motore Economico Dobbiamo ripensare Questo tipo di attività E questo tipo di politiche Siccome però Comunque Abbiamo bisogno Insomma Di investire Delle energie Che rilancino L'economia Trovo corretta L'impostazione Contenuta All'interno Del documento Che indirizza L'attività economica All'interno Del perimetro Della città E soprattutto Come è stato Esplicitato Prima Abbiamo un patrimonio Edilizio Datato Per cui Le politiche Di tutela Del risparmio genetico Di investimento Sul risparmio genetico Sulla ristrutturazione Garantiranno A mio avviso Un rilancio Della domanda Faccio solo un passaggio Sul diritto alla casa Che ho trovato Che anche il consigliere Piccinato Ha nominato È vero Abbiamo moltissimi Alloggi sfitti E il mercato Di solito Si preoccupa Di calmirare E di abbassare I prezzi Collegandoli Alla domanda Solo che noi In Europa Faccio L'ho letto L'altro giorno In Europa Abbiamo un numero Di case sfitte Che sarebbe in grado Di soddisfare Le esigenze abitative Di tutti Senzatetto D'Europa Per cui Diciamo così Il disagio sociale Una situazione di disagio sociale Questo tipo di ragionamento Non può reggere Ma Guardate Non riguarda solo Il disagio sociale Riguarda anche Delle categorie Giovani Persone con reddito basso Per cui la casa È diventata Un bene di lusso E quindi Benvengano tutte Quelle iniziative Che vadano A garantire Quello che io ritengo Un diritto Alla casa Stabilito anche All'interno Della Costituzione Come ha detto Anche il collega Passoni Ritengo che Aver deciso Di non Ubicare L'ospedale Nel sito Della Comina Sia stata Una scelta Di coerenza Con queste linee Programmatiche In quanto Andare a costruire Comina Avrebbe voluto Dire Espandersi In una zona Nord della città Con consumo Di territorio agricolo Che è francamente Incoerente Con quanto Noi stasera Andiamo ad approvare Per cui Difendo questo tipo Di scelta Che è stata Fatta dal PD E soprattutto Da una parte Del PD Che l'ha sostenuta Con molta forza E devo dire Coraggio Soprattutto Con il seno Di poi Riguardo invece Alle norme salvaguardie Di salvaguardia E qua Concludo Sono Sono delle norme Che secondo me Tutelano anche Un diritto Del cittadino A non vedersi Bloccare I propri diritti Edificatori In corso D'opera Ma soprattutto Mi richiamo anche A un concetto Più alto Il compito Della politica È quello Di mediare Quelli che sono Gli istinti privati A favore Del bene comune Ovviamente Il privato Punterà sempre Diciamo così Alla logica Del profitto E invece Il compito Della politica È di mediare Fra quelle che sono Le istanze del privato E quello che è Il bene comune Della collettività Per questo Mi auguro Che questo tipo Di scelta Venga anche Confermata Nel futuro Piano regolatore E per cui Non ci siano Vincoli edificatori All'interno Delle zone Esondabili In quanto Poi I costi umani Sociali Ed economici Nel caso Di calamità Naturali Non si riversano Solamente Sui singoli Ma si riversano Sull'intera collettività Grazie Grazie consigliere Loro Consigliere Daniello Prego Sì grazie Presidente L'urbanistica È una materia A me È sempre Stata ostica In quanto Come filone Di interesse Non mi apparteneva Devo dire Che intervenendo Alle ultime due commissioni Però assessore L'ho trovata Un argomento Molto interessante Posso solo ringraziarla Perché Ha reso Questa materia Per me Meno dura Di quanto La pensassi Meno lontana E più avvicinabili Forse perché Trattasi Di primo atto Quali linee guida La pianificazione Urbanistica Comunale Si esplica Mediante Il piano Regolatore Comunale Che si articola In disposizioni Strutturali Contenuto Nel piano Di assetto Del territorio E in disposizioni Operative Contenuto Il piano E degli interventi Documenti Che intersecano Livelli tecnici E quelli politici Di fatto Il nuovo piano Regolatore Dovrebbe essere Il disegno Politico Che l'amministrazione Ha per il futuro Della città In quanto È lo strumento Di pianificazione Che delinea Le scelte strategiche Di assetto E di sviluppo Per il governo Del territorio Comunale Addirittura Sovracomunale O intercomunale Infatti Lei Trateggiava Una rina Da Che Andava Da Fontana Fredda A Cordenons Individuando Le specifiche Vocazioni E le invarianti Di natura Geologica Geomorfologica Idrogeologica Paesaggistica Ambientale Storico Monumentale Architettonica In conformità Agli obiettivi Di indirizzi Espressi Nella pianificazione Territoriale Di livello Superiore Cioè La regione Con l'esigenza Della comunità Locale Strategica Poi La partecipazione Agli incontri A Palazzo Badini Che ha Con mio obiettivo L'innescare Una discussione Condivisibile Tra tutti Per poter Redigere Quello che lei Chiama Strumento Perfettibile E non Rigido Questa è un po' Un'ambizione Di questo Governo Della città Il credere Che tutti I cittadini Possano intervenire In un ambito Così tecnicistico Leggendo il documento Però mi sono chiesta Quali sono Le priorità Per il comune Di Pordenone Ritengo Condivisibili I punti Che lei Ha descritto Come imprescindibili Le linee generali Su cui stendere Il piano regolatore Sarà il piano Per i prossimi Trent'anni Per cui Mi sembra Importante Uno Il recupero Di quello Che è il patrimonio Esistente Senza creare Altri spazi Invenduti E non abitati Due Il ridisegnare Un volto Attrattivo Per le famiglie Del Pordenonese E non Non solo A valore territoriale Ma anche economico Tre Un'interconnessione Tra i vari piani Quello della viabilità Il piano regolatore E il piano ambientale Mi pare Quattro Mi pare Di non dover Sottovalutare Il gusto Del bello Però Che è quello Che mi più Mi appassiona Cioè far prevalere Quella voglia Di realizzare bene Il tutto In modo armonico Il dentro E il fuori Della città Tanto da far diffondere A partire Anche dalle piccole cose Quel senso collettive Quel senso collettivo Per il gusto Delle cose Belle E di qualità Col diffondersi Del gusto Del bello Ritenuto come Rispetto ambientale Culturale E sociale Del territorio In un tempo Verdi Il comune Il comune prevede Con la norma Della salvaguardia Ezonizzazioni Le localizzazioni Facendo rientrare Queste nel potere Conformativo In edificabilità Con un effetto Retroattivo E sull'esistente Ci troviamo davanti Al sistema Delle regole Che governano Le nostre città E il nostro territorio Previsto costituzionalmente Dall'articolo 9 Della Costituzione E compito Della Repubblica Tutelare E governare Lo sviluppo E la tutela Del paesaggio Concorre invece A promuovere Senza essere previsto Dalla Costituzione L'urbanistica Come materia concorrente Per il comune Il problema È quello Di definire I contenuti E le modalità Di dove E come si costruisce Ed ecco Che si innesta L'etica L'etica professionale Ed amministrativa Per saper Confrontare Il livello regionale E quello comunale E rispondere A tutte quelle esigenze Di minor consumo Di suolo E alle richieste Abitative private Il futuro Della città È in mano Del nuovo piano Regolatore Mi sarei aspettata Una slide speciale Come aveva detto lei Ad effetti speciali Immaginando La città Tra 30 anni Difesa del territorio Cementificazione zero Che indicasse Effettivamente Quali sono Le ambizioni Per il comune Di Pordenone Per quale città Del futuro Per esempio Oltre la città Dei quattro fiori La città A dimensione Di bambino Che coniughi Sostenibilità ambientale E vivibilità Dei cittadini Difesa E salvaguardia E rimodulazione Di quello Che è l'esistente In generale La crisi Dell'urbanistica Imputabile È alle persone Che amministrano E anche Allo smottamento Culturale E della gestione Del territorio Sono anche queste Le argomentazioni Che mi hanno portato A sostenere Che non si costruisse L'ospedale In comuna Mi chiedo Se c'è Allora Un disegno Della possibile città Non solo Di quella esistente Sovrapponibile A quelle slide Con colori Molto caldi Regole Di cementificazione Zero E quindi Quale opere Di urbanizzazione Che tipo Di vita Integrata Tra le varie parti Dal cuore Della città Ormai Sovraesposta All'abbandono E tutto L'interland Sovracomunale Certo Credo Che non si debba Vivere Con la spada Di Damocle E si debba Sentire il fiato Sul collo Creandosi La sindrome Del ministro Sullo E la sua fine Politica Per poter Ridisegnare Il nuovo piano Regolatore Per 30 anni Né ci sono Più i tempi In cui si scende In piazza Come nel 69 Con il grande sciopero Per la casa Il piano Deve andare avanti E deve essere accolto Ed accettato Da tutti gli attori Sociali ed economici Dell'intera città E prova ne è La lettera Dei costruttori Sulle norme di salvaguardia In un passaggio Molto forte A mio dire Il rischio Connesso A tale decisione È dunque Quello di innescare Una spirale negativa Sul fronte Dei rapporti Aziende Istituti Di credito In un periodo Già di per sé Caratterizzato Da una fortissima Stretta creditizia Soprattutto Nei confronti Delle imprese Di costruzione Suscettibile In molti casi Di mettere a repentaglio La stessa prosecuzione Dell'attività D'impresa È comunque Di stamane Un documento Istat Che sostiene Che rispetto Allo stesso periodo Dell'anno precedente Per la prima volta Proprio nel nord-est Si verifica Dall'inizio dell'anno Una variazione positiva Sia per le convenzioni Di compraventi D'uso Abitazione D'accessori Che per quelle Del settore immobiliare Considerate Nel loro complesso E si osserva Quindi Un incremento Rispettivamente Dello 0,8 E dello 0,4% Il patto Con la città E con i cittadini Deve essere Un patto Con la gente Con le categorie sociali Che abitano Soprattutto Il centro storico Che deve essere Ricoinvolto E riconsiderato Come simbolo Dell'intera città Il futuro Della città Non deve essere guidato Da sole ragioni economiche Proprio per il periodo Come questo Malato Di finanza malata Ma deve essere Attento a istanze sociali E politiche E attento Al rispetto Del territorio Visto come risorsa Si affermano Giustamente Nelle esposizioni I principi di massima Nessuno può negarli Ma non influisco Se non idealmente Nella visione Dell'urbanistica Dal volto umano Che mi sarebbe piaciuto Sentire proprio da lei D'altronde In Italia Dal 1980 Tre condoni Delizie E le strategie Delle varianti Hanno solo Piaggevolato Il dissolvimento Dell'urbanistica Come bene Per la città Per non parlare Dell'edilizia pubblica Solo Lo 01 È destinato All'edilizia pubblica In Italia Si spende Un settimo Di quello Che si spende In Europa Per l'edilizia E qui a Perdinone Qual è il piano? Ecco Mi sarei aspettata La presentazione Di nuovi modelli Sociali di riferimento Per la realizzazione Del piano urbanistico Sulla base Dell'equità sociale E per la ricerca Di risoluzione Effettiva Dei problemi Di urbanizzazione Mobilità E trasporto Come risorsa E risposta Organizzativa Ambiente Sostenibilità Come elemento Di valorizzazione Come declina L'agenda 21 Di Rio Per tutti i comuni Grazie Grazie Consigliere Daniello Consigliere Freschi Prego Grazie Presidente Bene Noi questa sera Ci apprestiamo A A deliberare Per quanto riguarda Le direttive Strategiche Politiche Per il governo Della città E Per cui Le linee Guida Non siamo All'approvazione Del piano Siamo Nella fase In cui Delineiamo Qual è Il percorso Che vorremmo fare Delineiamo Quelli che sono Le strategie Che questa città Scusate ma io Non riesco a Delineiamo Quelle che sono Le strategie Del futuro Della città Ed è Proprio su questo Che noi dobbiamo Concentrare La nostra attenzione In genere Un piano Ha una visione Di 15 20 anni Il nostro è del 1986 L'ultimo piano Regolatore Generale Con tutta una serie Di varianti Che si sono Poi succedute Però Il piano Deve avere Secondo me Caratteristiche nuove Che nella relazione Dell'assessore Ho trovato Cioè deve avere Gli elementi Di visione Riuscire a traguardare Il futuro E nello stesso tempo Avere elementi Di flessibilità Che si possono introdurre Se non ci sono Questi elementi Il piano diventa Rigido Diventa Qualcosa Che Non è Traducibile Poi Nella dinamicità Che la società I tempi Richiedono Sono da anni Che si parla Di fare Il piano Regolatore Generale Ed è una sfida Per la città Ed è una sfida Per i suoi Amministratori Questo è il momento In cui ci si può Calare In questa avventura Però Io penso Che questo È anche Un inizio Pur essendoci state Prima delle fasi Propedeutiche Sia dal punto di vista Sociologico Con l'indagine Fatta Dalla Associazione Dal gruppo Tolomeo Poi Con tutti gli incontri Che sono stati fatti A Palazzo Badini E io ho ritrovato In questo testo In questi documenti Molti di quegli apporti Avendovi partecipato Più volte Essendo stato presente A più gruppi Di lavoro Per cui Ho trovato La traducibilità In alcune linee Che lei Assessore Ha indicato Certamente Questo piano È un piano Che si approccia Con una logica Completamente diversa Da quelli che sono stati I piani del futuro Perché Si va Sì scusi Scusi Consigliere Ragione Del passato E vuole vedere La ringrazio Della correzione Però Stavo pensando Appunto Che Rispetto ai piani Del passato Dobbiamo traguardare In maniera diversa Il futuro In genere I piani Ponevano La loro tensione Sull'espansione Delle città Sull'aumento demografico O sull'aumento Delle attività produttive Noi siamo Invece arrivati Al punto In cui Oltre all'espansione Noi dobbiamo Vedere La trasformazione Della nostra città E la trasformazione Passa attraverso Una serie Di elementi Che sono stati Ben delineati E ben declinati Soprattutto Un'attenzione Particolare Al rispetto Dell'ambiente In cui viviamo Un ambiente Che è stato Come è stato detto Più volte Per cui non vado A ripetere Anche perché È inutile Ripetere Concetti Che sono stati Più volte Più volte Ripresi La città Ha bisogno Di respirare Un'area Nuova Un'area Diversa Che è anche difficile Con i tempi Che viviamo Riuscire In qualche modo A declinare La crisi economica Ci ha messo Un po' tutti Di fronte Delle difficoltà Di fronte A degli imprevisti Lei faceva Riferimento Alla classe media Che non è più Classe media Ma che sta diventando Una classe più povera E qui da noi Il concetto Ad esempio Della casa È sempre stato Un concetto Fondamentale Essenziale Importante Attorno al quale Si è creata L'economia Del nostro territorio In questo momento Siamo di fronte A una situazione Di crisi Generalizzata Nella quale L'edilizia Soprattutto Ne fa Le spese In maniera In maniera Pesante Il numero Che citava lei Delle duemila Abitazioni Non utilizzate È l'emblema La spiegazione Di questo Di questo fenomeno Ma Io penso Che E questo è stato detto Anche in commissione Da parte Anche delle opposizioni Che è stato apprezzato Il lavoro Che è stato fatto E che è stato presentato Per cui Significa Che l'approccio Al problema È abbastanza Condiviso Poi la declinazione Le posizioni Assumono sfumature Di altra natura Che sono Di appartenenza politica Di posizioni Di parte Eccetera Ma che L'approccio Al problema Era abbastanza Anche nella commissione È venuto fuori Che era condiviso Poi L'architetto Giannelli Si è fermato Nelle ultime due pagine Ha detto Fino lì Andavamo d'amore D'accordo E poi Provisamente C'è stata una separazione No Mi pare di aver capito Così Dalle sue Dalle sue Espressioni Ma anche la stessa lettera Che ha mandato Lance Se leggiamo Il secondo Il secondo Comm Diciamo Della prima pagina Fa tutto un passaggio Sul Sulla Diciamo Sul Sul fatto Positivo Dell'approccio Al piano Poi Diciamo Diciamo che Le osservazioni Che loro fanno Sono osservazioni Pertinenti Io non entro nel merito Più di tanto Non essendo Un tecnico Della materia Ma che lei Assessore In qualche modo Ha risposto E per tanto Io Prendo per Positiva E buona risposta Che lei Che lei ha dato In modo tale Che Non ci siano Dei Come si può dire Delle mancanze Rispetto a quanto Viene richiesto Anche perché Anche perché C'è un fatto Non è che I progettisti Si chiudono In conclave Dentro una stanza E poi alla fine Del conclave Viene fuori La fumata bianca Senza nessuna In qualche modo Senza nessun Dialogo Senza nessun Incontro Con quelli che sono I soggetti Interessati Con quelli che sono Le esigenze Dell'amministrazione O quelle Che il consiglio Può aver espresso Io penso che Questi otto mesi Che ci separano Poi dall'approvazione Del piano E quello sarà Il momento Di verifica finale Sino anche Otto mesi Di costruzione Sino anche Otto mesi Di lavoro intenso In cui Approcci In cui Suggerimenti In cui Sottolineature Possono essere Ulteriormente Rimarcate Possono essere Ulteriormente Prese In considerazione Siamo Nella fase Degli indirizzi Nella fase Delle linee guida Anche se capisco Che le linee guida Poi sono un documento Che deve essere Preso in esame Dalla ragione Con l'atto finale Se compatibile Oppure no Però Non siamo Nella fase Conclusiva E questo Penso sia Un elemento Da prendere In seria Considerazione Perché Coloro i quali Sono gli interlocutori Dell'amministrazione Devono essere Sono soggetti Che porteranno Sicuramente Ulteriori Spunti E i progettisti Penso che Debbono farne tesoro Questo documento Ha in sé Tutta una serie Di aspetti Estremamente Importanti Io mi sono Soffermato L'ho letto Con molta attenzione Eppure avendo letto E riletto Ci sono sempre Parti Che sfugono E mi permetto Di fare Alcune Considerazioni Alcune Sottolineature Ad esempio Devo dire una cosa Così In premessa Che mi sarebbe Piaciuto Che il ragionamento Del Comune Di 100.000 Fosse avvenuto Già tempo fa In modo tale Che anche Questo strumento Fosse stato Uno strumento Che in qualche modo Si sarebbe In qualche modo Confrontato Con una realtà Molto più vasta Voi qui A pagina Otto Se non ho letto male Parlate Di Approcci Con i comuni I comuni Vicini Nel senso Che c'è Una L'amministrazione Promoverà Inoltre Specifici Tavoli di lavoro Per informare I comuni Interessati Eccetera Però io penso Che non ci dovremmo Fermare solo Ai tavoli Di lavoro Ma dovremmo anche Andare un po' Oltre Cioè dovremmo andare A delle scelte Negoziate Con le amministrazioni Vicine Perché per forza Di cose Ci troveremo A dover fare Dei ragionamenti Nell'ambito Dei servizi O nell'ambito Di alcuni aspetti Che riguardano Beh lei le ha toccati Perché quando ha parlato Di agricoltura Ha fatto raffronto Tra Pordenone Città Con un spazio Estremamente ridotto A verde A verde agricolo Rispetto ad altri comuni Non so Tipo Sanquirino O tipo Roveredo Che il rapporto Popolazione Spazio agricolo E spazio agricolo Invece è estremamente Diverso da quello Che può essere Con Pordenone Però certamente L'approccio Con i comuni vicini Diventa Un elemento fondamentale Che deve essere preso In debita Considerazione Un altro aspetto Che mi piacerebbe Sottolineare E quello Che viene riportato A pagina 10 A pagina 13 Della relazione Dove si parla Di recupero edilizio Da un lato E di social housing Dall'altro Ecco io penso Che questi strumenti Debbono avere anche Forse un accompagnamento E deve essere Un accompagnamento Di tipo finanziario Perché non si mettono In piedi strumenti Così complicati E difficili Se non c'è Alle spalle Una mediazione Tra l'ente pubblico E i soggetti Diciamo I soggetti Imprenditoriali Da un lato E del credito Dall'altro Per cui Forse è il caso Di pensare Alla costituzione Di un fondo Obbligazionario Che in qualche modo Finanzi Queste attività Per cui anche qui Dovremmo lavorare Con strumenti Completamente nuovi Con strumenti Che ci vengono Sicuramente Chiesti Dalle esigenze Di fatto Dal fatto Di poter In qualche modo Attuare Un qualcosa Che diventa Indispensabile Ma deve avere Anche gli strumenti Le gambe Per poter Stare in piedi E poi c'è un altro aspetto Che mi piacerebbe Sottolineare E l'ho trovato A pagina A pagina 11 Dove si parla Di innovazioni Ecco Io penso Che Per continuare Per continuare A promuovere Innovazioni Io penso Che dobbiamo Anche mettere In atto Quelle che sono Le nostre realtà Del territorio Che possono in qualche modo Concorrere All'innovazione Allora Perché Non coinvolgere Anche il polo Tecnologico Nell'ottimizzazione Dello sforzo Di innovazione Nel comparto Delle costruzioni E dell'edilizia Penso che noi Abbiamo Una preziosità Abbiamo uno strumento Che è nel territorio E perché Questo strumento Non deve essere In qualche modo Messo a disposizione Oppure coinvolto Nelle fasi Successive A quelle Della redazione Del piano Nel momento In cui Si passa Anche Al sistema Attuativo Ecco Ci sono Tutta una serie Di aspetti Che sicuramente Possono essere Oggetto Di contributo Di aiuto Di condivisione Purché Siano In qualche modo Messi In relazione Tra loro Io penso Che lo strumento Urbanistico Sia uno Dei momenti Principali Per la partecipazione Della città Dei cittadini A delle scelte Che fa Un'amministrazione Ed non è uno strumento Che si mette in atto Per ogni amministrazione Si mette in atto Nell'arco Di 10 15 anni 20 anni Per cui È uno strumento Che deve avere Tutta una serie Di passaggi Di sottolineature Di attenzioni Che in qualche maniera Mettono In risalto Quello che è il sentire Dei cittadini E quello che è la visione Futura Della città Mi è piaciuta L'espressione Che ha usato prima Il consigliere Del Ben Sul fatto di Ritrovare Un nuovo Cinquecento Un nuovo rinascimento Per il nostro modo Anche di vivere La città E penso che questo Sia un elemento Che in qualche modo Ci può anche Stimolare La fantasia Ci può stimolare La voglia Di partecipare La voglia Di apportare Delle idee Nuove E forti Certamente Noi vorremmo Che questa Fosse anche La città Della salute La città In cui È data Priorità Alla Alla Una certa Attenzione Nei confronti Degli anziani Nei confronti Degli bambini Ecco Una città Nella quale È bello Viverci Ed è bello Per coloro I quali Vengono Anche a visitarla Ecco Finora Penso che Pordenone Sia stata Una città Che ha Dato anche A chi è venuto Ad abitarci O a visitarla Un senso Di accoglienza Per la sua Razionalità Per la sua Semplicità Però Nel contempo Anche per la sua Ricchezza Fatta di Acque E di Memorie Storiche Il nostro Corso È un Museo All'aperto Che va Opportunamente Valorizzato E qui Ci rientra Anche il discorso Della valorizzazione Non solo Artistica Ma anche Della valorizzazione Commerciale E residenziale E la parte È il cuore Della nostra Città Che va salvaguardato Che va salvaguardato In maniera Attenta Ma va anche Vissuto Perché Il vivere Il problema Ad esempio Che ha Il Bronx È Dovuto al fatto Che non è un ambiente Vissuto O perlomeno Non è vissuto Nell'arco Delle 24 ore È vissuto Soltanto Per una parte Della giornata Quello è un ambiente Che va Completamente rivisto Va anche Ripensato Va anche In qualche modo Rimodulato Perché se vogliamo Che la città Sia viva Deve essere viva In tutti i suoi Ambienti In tutte le sue Espressioni In tutte le sue Declinazioni L'altro aspetto Che mi è piaciuto Della relazione È la sottolineatura Al raccordo Con le periferie E con i quartieri Non so come Verrà declinato Poi Non so come Verrà attuato Non so come Verrà messo In relazione Però ho visto Che è stato In qualche modo Sottolineato Come un punto Importante Come un punto Forte Ecco Io non vado Oltre Penso che Anche per darci Un certo ordine Nei tempi Penso che Questa Delibera Con Le direttive Che sono state Espresse Sia Esaustiva Sia completa Nella Nella visione Certamente Ci sono ancora Di passaggi Da fare Io penso che Questi passaggi Potranno essere Di passaggi Importanti Con L'attenzione Fatti con L'attenzione E fatti anche Con l'ascolto Grazie Grazie Consigliere Freschi Consigliere Pedicini Prego Grazie Presidente Allora Tante cose Sono state Già dette Non vorrei Essere qui A ripeterlo Però Una piccola Premessa Fatemela fare Molto breve Noi stiamo Affrontando Quello che è Lo strumento Urbanistico Principe Di questa Nostra comunità E nostra città Anche se lo facciamo Da mezzanotte Il mio intervento Da mezzanotte Vedete Fino Al 1942 Esisteva Il diritto Edificare Bastava avere La proprietà Del suolo Non c'era Questa separazione Abbiamo dovuto Siamo arrivati Con la legge 1150 Proprio del 42 In piena guerra A fare una legge Che separava Il diritto Edificare Dal diritto Di proprietà Del suolo Fino a quella data Non abbiamo Grandi esempi Di speculazione Edilizia Perché In realtà Tutti potevano Costruire Su tutto il territorio Non c'era Questo limite Cos'è avvenuto? Con questa legge Fatta prima Della guerra È stata utilizzata Nel dopoguerra Per quella grande Speculazione Edilizia Che era il momento Poi della ricostruzione E io Ritengo Che ancora Fondamentalmente Il problema Delle nostre città Sia proprio questo Il costruire Non in base Alle necessità Di una città Ma costruire Perché si deve vendere O creare Il problema Creare La domanda Per poter offrire Una nuova abitazione Come è stato detto Prima dal collega Che mi ha preceduto È dal dopoguerra Che la quantità Di immobili Presenti sul territorio Nazionale È di gran lunga Superiore Di quelle che sono Le richieste Le necessità Perché abbiamo Tantissime case sfitte Case vecchie Abbiamo tante case Da recuperare Ed è un vecchissimo Problema Che si ripropone E si ripropone Anche nella nostra città In questo momento Oggi noi ci accorgiamo Dei duemila Tremila Abitazioni In vendute E non affittate Oggi libere Ce ne accorgiamo Solamente perché Sono state costruite Come è stato detto Già prima Al momento della crisi E non sono state Abbassate i prezzi Perché oggi Si ricomincia a vendere Ma si è dimenticato Di dire il mio collega Che si vende a prezzi Che non sono più I 4.500 euro A metro quadrato Che si chiedeva Quando quelle abitazioni Sono state costruite Oggi si è scesi Molto più in basso E si è ricominciato A muovere il mercato Ma il problema Che noi abbiamo Vedete È quello intanto Di avere un'edificazione Corrispondente A quelli che sono Le reali necessità Della città E non semplicemente Speculative Io l'ho detto In commissione E lo ripeto Qui in aula Che rimane Questo piano regolatore Si doveva fare 20 anni fa Perché guardate Che l'ultimo piano regolatore È di 28 anni fa Ma già 20 anni fa C'era bisogno Di affrontare Un nuovo piano regolatore Per questa città Perché effettivamente Perché effettivamente 20 anni fa Ci siamo accorti Che la città Stava cambiando In modo diverso Da come effettivamente Poi Era stato disegnato Nel vecchio piano regolatore Sento molto parlare Di salvaguardia Del suo Del suo Io ricordo Le battaglie In questo consiglio comunale Contro chi voleva Edificare in zona Esondabile E chi invece Si opponeva a questo E le grandi discussioni Che sono state fatte Vorrei ricordare a tutti Che poi Si è costruito In zona esondabile Inserendo una norma Di salvaguardia Tra virgolette Non del territorio Ma salvaguardia Delle abitazioni Non poter mettere Abitazioni al piano terra Poter elevare Ci sono delle norme Che permettono Parlo delle zone di Villanova Parlo delle zone Di Pordenone Parlo di lottizzazioni ampie In zone esondabili Di questa città Prima bloccate E poi sbloccate Che sono state costruite Allora Voglio dire Oggi noi ci poniamo Il problema Della salvaguardia Del suolo Ma le zone basse Di Pordenone Vorrei ricordarlo A tutti voi La fiera campionare Si trova in una zona Esondabile In quella zona Si doveva fare Una casa di riposo Andò persino in galera Qualcuno Per quella vicenda Quella famoso scheletro Quella vecchia casa di riposo Che poi non si è più realizzata I vecchietti Li mettevano In zona esondabile Sostanzialmente Quella casa di riposo Non si è fatta più Ma guarda caso Si è fatto poi La fiera campionaria Questa città È una città Che le sue occasioni Negli anni Le ha perse quasi tutte Vi ricordate Quando si trattava Di trasferire la fiera Dal luogo dove è oggi Alla zona Per esempio Del centro intermodale All'ingrosso Fu fatta questa proposta Quando non si è sbloccato La fiera è rimasta Dov'è Oggi una fiera È schiacciata All'interno di un'area Se volete Dove mancano La sufficienti parcheggi Perché Invece diversamente Da Milano Dove hanno costruito I parcheggi Sopra i capannoni Per esempio Nella vecchia fiera di Milano Eccetera Qui i capannoni Sono stati costruiti Senza neanche pensare a questo E il problema di oggi Che parliamo di un parcheggio nuovo Vicino alla fiera Sono dieci anni che se ne parla E un vecchio finanziamento regionale Di sei milioni di euro Rimasto Che ormai non sono più sei milioni di euro Sono quello che è rimasto Ha dato alla Camera di Commercio Ben dieci anni fa E siamo ancora qui a parlarne Allora Questa è una città Delle occasioni perdute Questa è una città Dello sviluppo mai avuto Questa è una città che Vi ricordate Forse qualcuno di voi Non se lo ricorda Della battaglia Che ci fu all'interno Di chi amministrava Questa città Tanti anni fa Tra chi voleva L'espansione a nord Della città Chi la voleva a sud Guardate che l'alluvione È stata del 65 E del 66 E una nel 65 E l'anno dopo Nel 66 Cosa che neanche i tempi di ritorno I piani che sono stati fatti dopo Sui tempi di ritorno Di alluvioni Portano ad anni A 80 anni A 60 anni Portano ad anni Molto più lunghi Mentre ha dimostrato Il 65 Il 66 Che i tempi di ritorno Sono stati solo di un anno Però In questa città C'è stata una battaglia Tra chi voleva Un'espansione a nord Della città E chi la voleva al sud Ma perché la volevano al sud? Perché a sud Le aree costavano pochissimo Erano costate poco Le aree a sud Di Pordenone Quella zona esondabile Volete che i pordenonesi Non lo sapessero Che quelle aree Erano zone esondabili Dove non valeva la pena Costruire? Lo sapevano benissimo Io lo ricordo sempre Se voi andate lì Della Madonna delle Grazie E vedete dove Gli austriaci hanno costruito La ferrovia L'hanno costruita Lassù in alto 18,50 È il livello Di non esondabilità Ma se voi andate a vedere La ferrovia Che non è mai stata interrotta Da un'esondazione Sta lassù in cima E sotto C'è pieno di case Chi ha costruito Nella zona delle basure Chi ha costruito Nelle zone basse Sapeva benissimo Che era esondabile E quelle zone lì Oggi sono sicure? Non sono sicure Lo sa benissimo Chi ci abita Oggi noi abbiamo Degli argini Che ci proteggono Queste piene Che avvengono Ma sono tutte piene Noi facciamo La cassa di espansione L'ho già detto Tante volte Del Meduna E non è che Chiudere le risorgive Di Venchiaredo Dobbiamo chiudere Il canale Amman Che sono 5.000 m3 Di acqua al secondo Che ci porta All'interno del Noncello E così via Noi siamo una cassa di espansione Ancora oggi Del fiume Meduna Che se noi chiudessimo La cassa di espansione Che siamo noi Nella zona Di Valè Noncello Fino a Pordenone Va subito sotto Un po' di Prata Un po' di Azzano Decimo Si allagano benissimo Loro Anche nonostante I loro argini Loro hanno alzato Gli argini Noi siamo ancora In questa situazione Ma in queste zone qui Sono zone a rischio Ancora oggi Sono tutte zone edificabili Sono bassono E rimangono Il 2002 Non è tanto lontano Quando è crollato L'argine È vero che dopo Sono stati fatti Dei lavori di rinforzo Degli argini In quella zona Ma se voi andate a vedere Ve l'ho già detto altre volte Le foto del 66 Voi vedete C'è una foto del gazzettino Che dimostra Che l'acqua Ha superato Le spallette del ponte Di Adamo e Deva Superare le spallette Del ponte di Adamo e Deva Vuol dire essere Quasi un metro Sopra gli argini Quelli attuali Allora Sì Finché la piena rimane lì Va tutto bene Ma non abbiamo più avuto Non abbiamo più avuto Le piene Del 65 Del 66 Assolutamente Quella quantità d'acqua Non è mai più arrivata Allora Detto questo Voglio dire Che continuiamo Oggi A fare tutta una serie Di Di ipotesi Io l'ho già detto In commissione E lo ripeto Qui in aula I principi Che sono enunciati Sono tutti principi Condivisibili Ci mancherebbe altro Se possono E sono stati Ben elencati Anche dai miei colleghi Ma siamo contrari E' l'applicazione Di questi principi Che mi lascia Qualche perplessità Perché vedete Ed è stato anche questo Già sottolineato Per fare le cose Non avvengono Perché l'abbiamo scritto Su un pezzo di carta Bisogna fare degli investimenti E per fare degli investimenti Bisogna avere la capacità Di intervenire Vuoi In intervento Parallelo A social housing Vuoi che giustamente Deve avere Dei supporti Perché sennò rimane dove sta Perché sennò saremmo pieni Di social housing Anche in un momento di crisi Se non costruiscono Ci sarà un motivo Il problema è che abbiamo bisogno Di interventi Vedete Anche strutturali La bella città Non è che Le case che attualmente Hanno costruito Corte del Bosco Per esempio Siano brutte Non è che sono brutte Sono anche belle Ma il problema È che non basta costruire Delle case belle Per avere l'attrazione Di cittadini Che vengano A comprarsene Perché belle Le possono fare dovunque Cos'è che rende Una città più Attrattiva rispetto ad un'altra È il poter lavorare In quella città Vivere in quella città Il problema di fondo È che se noi Non creiamo di nuovo Il lavoro Se non creiamo di nuovo L'occupazione Se non creiamo Lo sviluppo In questa città Non saremo attrattivi Assolutamente per nessuno Noi abbiamo bisogno Per vendere quelle benedette case Che ci siano Una nuova occupazione Ma ci sia Anche un'immissione Di nuova gente In questa città Che venga qui per lavorare Non per chiedere Il sussidio Al comune Che sennò Quelli a casa Non se la compreranno mai Magenta che viene qui a lavorare Ma per venire qui a lavorare Dobbiamo investire Dobbiamo essere attrattivi Dobbiamo decidere Cosa vogliamo del nostro futuro Su cosa vogliamo Costruire il nostro futuro Vedete Il problema di questo Piano regolatore È vero Che sarà in evoluzione Che noi ogni 5 anni Potremmo metterci mano È vero Che quindi È un work in progress E quindi Non è che è detto Che dobbiamo tutto Decidere qui Questa sera Ma il problema vero È che questo emerge Sempre dalle nostre discussioni Che l'idea del nostro futuro E non voglio dire L'idea di città L'idea di sviluppo Non ce l'abbiamo Non emerge Non c'è Perché qui Vedete Nella crisi del manufatturiero Meccanico Nessuno vi viene a dire Va bene Da domani mattina Non fate più quello Farete un'altra cosa Cosa Possiamo pensare Di costruire il nostro futuro Su cosa E allora possiamo investire Su questo Qual è l'attività Che sarà quella Che ci darà Che porterà Una nuova immigrazione La dobbiamo creare Allora Vedete È stato citato Il polo tecnologico Le nuove aziende Quando anni fa Parlavamo di Essere polo Attrattivo Di insediamenti Di nuove aziende Sul nostro territorio È fondamentale Noi dovremmo creare Le condizioni Perché qui si possano Trasferire Se non Che esistono già Oppure Farle nascere Aiutarle A svilupparsi Attività economiche Che ci danno La possibilità Di costruirci Questo nostro futuro È fondamentale Ricordatevi Che dopo il terremoto Del Friuli I friulani Da persone intelligenti Cos'hanno chiesto Di costruire Per primo Le case Le strade Le fabbriche Hanno chiesto Con i soldi Della ricostruzione Di costruire Le fabbriche Perché solo Attraverso il lavoro Attraverso la fabbrica Potevano pensare Dopo Le case Le hanno costruite Dopo Ma prima di tutto Il lavoro Ed è lo stesso problema Che ci dobbiamo porre noi Perché se noi Stiamo qui a pensare Alle abitazioni Di corte del bosco Di un'altra parte Delle case svendute Stiamo sbagliando Il secondo obiettivo Non è così Che creeremo Sviluppo e trazione Sul nostro territorio Non è col piano regolatore Che dobbiamo fare Le nuove case Le blocchiamo Non le blocchiamo Le facciamo crescere Noi dobbiamo creare Il lavoro Se noi creiamo Il lavoro Noi dobbiamo Ricostruirci le fabbriche Quando dicevo prima Sulla questione Dell'electrolux Noi non dobbiamo Rincorrere Una ditta Piuttosto che un'altra È vero A tutti pesa E siamo solidali Su questo Ma non ci dobbiamo Far prendere in giro Da loro Noi dobbiamo rincorrere Il lavoro Noi dobbiamo Credere al lavoro Il lavoro Che nasce Da prospettive concrete Aiutiamo L'electrolux Noi dobbiamo creare Le condizioni Perché l'electrolux Rimanga qui da noi Ma non farci prendere Per il collo Né da loro Né da nessun altro Loro devono trovare In questo territorio Che come è stato anche Questo Ho già sentito anche qui Che faceva parte Di un convegno Che avevamo fatto Nel 2008 Io ricordo Abbiamo chiamato Dei grandi investitori Che sono venuti Dagli Stati Uniti Dalla Silicon Valley Da Londra Dal Medio Oriente A venire E si sono confrontati Con noi In un convegno Che era all'inizio Della crisi Si parlava Era il 2008 E si parlava Della crisi Quello che ci hanno detto È sintomatico Perché poi Effettivamente È quello che conta Ci hanno detto Voi siete In una situazione Privileggiata Perché siete Un territorio bellissimo Un bella zona Veramente A 40 minuti Dalle montagne O dal mare Avete Una cultura media Elevata Noi non siamo La Polonia La Romania Provateci Ad andare Per gentilezza E vi rendete conto Noi siamo sicuramente I nostri giovani I nostri agente Sono sicuramente Già più propensi A un certo tipo Di lavoro Anche migliore Rispetto a quello Che noi ci possiamo Quindi Si può trovare Una mano d'opera Ancora Molto buona Preparata Capace Quindi avete Chi gestire Chi gestisce La cosa pubblica Che deve Possibilità Allora voglio dire Accettiamo una sfida Il piano regolatore Mi deve dare La possibilità Che chi si vuole Insediare Sul nostro territorio Lo fa Nel giro Di tre mesi Una concessione Edilizia È di 60 giorni Aprire un'azienda Sul nostro territorio Sono tre mesi Questo dobbiamo permettere E dobbiamo risolvergli noi I problemi burocratici Non crearli Perché siamo noi Più delle volte Che li creiamo Quanti imprenditori Forse anche qui presenti Sanno benissimo Che È una battaglia continua Poi si devono far mediare Per questa battaglia continua Che Sulla norma Su questo Su quell'altro Su quello che salta fuori È il controllo È questo E i tempi si allungano Bene Noi dobbiamo essere capaci Se vogliamo veramente Essere moderni E vogliamo con questo piano regolatore Cambiare le cose Non guardare al passato Dobbiamo cercare Di semplificare la vita Smart Ma veramente Ma prima di tutto Le attività produttive E Il terziario Ci sta bene Ma se non produciamo Non potremmo neanche Avere quella sicurezza economica Di cui ne abbiamo bisogno E allora vedrete Che se noi produciamo lavoro Sul nostro territorio Allora avremo anche Una nuova immigrazione Ma avremo un'immigrazione Che Fa famiglia Che costruisce Che si costruisce la casa Oppure che vuole comprarsi casa Che vuole costruirsi un futuro Nella nostra città Poi questa è una nostra città Che ha dei meriti Sicuramente Voi direte È una città Che è culturalmente avanzata Benissimo Questo c'è utile Ma quando La battuta Non si mangia Con la cultura La cultura serve Certamente sì Ma si deve affiancare E deve poter Essere un qualcosa Che ci aiuta Ad andare avanti Ecco allora In questo vorrei essere Molto chiaro con voi Questo piano regolatore Vedete Non disegna una città Né da 75 mila Lei ha detto Ma non vorrei neanche Che si fosse chiusa Nei 50 mila Perché il problema Chi aveva disegnato Nell'86 La città dei 100 mila Immaginava una città In espansione Poi in realtà Non c'è stato L'amministrazione Pasini Con la sua prima variante Dei servizi L'ha portata A 75 mila Abitanti Oggi noi la stiamo Riportando A 50 mila Sostanzialmente Perché ci diciamo Che questa è una città Da 50 mila E ci stiamo riportando All'interno Di questi parametri Bene Io non ci credo Io credo Che questa città Possa essere Di 50 60 70 mila In base A quello che noi Decidiamo Che questa città Voglia svilupparsi Ma attenzione Chi si aspetta Da questo piano regolatore La panacea Di tutti i mali La bacchetta magica La soluzione Dei problemi Guardate Voi pensate Che i progettisti Del piano regolatore Del nuovo piano regolatore Potranno cambiare L'ubicazione Dei servizi Oggi il municipio Qua e là Sarà anche dopo Col piano regolatore Le scuole Il centro studi Sarà lì E sarà anche Col nuovo piano regolatore Gli asili Saranno dove saranno Dove sono Le scuole Saranno dove sono E allora Ogni mattina Chi uscirà di casa E dovrà portare I propri figli Al nido Alla scuola materna O a scuola Farà le stesse strade Percorrerà Le stesse direzioni Ho capito Volevo solo Che la tirassi giù Allora Scusate Se l'ubicazione Dei servizi È quella che è E sarà anche Col nuovo piano regolatore Vi prego Di seguirmi Un attimo Se i parcheggi Interscambio Sono dove sono Quelli che ci sono Ce ne saranno Previsti degli altri Ma quelli che ci sono oggi Saranno lì anche Col nuovo piano regolatore Non verranno Annullati Non è che dice Il parcheggio di via Oberda Non ci sarà più Quello Ci sarà E sarà sempre lì E quindi lì sarà un punto Dove si arriverà con le automobili Dove si lascerà la macchina Per andare poi in centro città Se i servizi Se i grandi parcheggi Se tutte Sono lì dove sono E voi pensate di cambiarli Col nuovo piano regolatore E allora questo nuovo piano regolatore A cosa andrà a incidere? Ve lo siete chiesto? Vogliamo pensare che sia effettivamente Non so La bacchetta magica Di scolpo Tac La città Che tutti immaginiamo No Sarà ancora quella E la sfida sarà Su come noi riusciremo ad intervenire Cosa riusciremo ad aggiustare Perché Le scelte fondamentali Le hanno già fatte Per questo dicevo Che questo piano regolatore Doveva arrivare vent'anni fa Perché le scelte La prima variante servizi L'aveva già fatta a Pasini Ed è stata fondamentale Perché è quasi un nuovo piano regolatore Quando l'ha fatta La variante servizi L'ha rifatta a Bolzonello Nell'amministrazione Bolzonello E riaggiustato i vari parametri Tolti un po' di parcheggi Rivisti gli altri Aggiustate altre cose Ma la variante servizi Che è stata fatta La cambiate? Di quanto cambierà Se non qualche aggiustamento? Abbiamo risolto Noi potremmo intervenire invece E qui dovremmo avere coraggio Vi chiedo scusa Già è loro tardo Dovremmo intervenire Per esempio Sulla nuova mobilità Di questa città Ma anche lì dovremmo avere Un coraggio Che forse è sproporzionato Rispetto alla nostra città Dei 50.000 Come si diceva Però forse Se ragioniamo Sulla città Dei 100.000 Potremmo avere il coraggio Di farlo E allora Dovremmo rivedere Completamente Il servizio Dei trasporti urbani Ma forse Visti anche In modo completamente diverso Di quelli che abbiamo oggi E allora Su cosa potremmo intervenire? Se non su degli aggiustamenti Delle sistematiche Io sono curioso Sono attento E seguirò con attenzione Non tanto l'analisi Che va bene Ormai L'abbiamo capita tutti E fatta anche bene Vorrei Capire le proposte Che ne verranno Vorrei capire Nei vari passaggi Dei piani attuativi Che noi andremo a fare Capiremo Nel dettaglio Cosa riusciremo A cambiare Rispetto a quello Che c'è oggi Guardate la reazione Che c'è stata Per quanto riguarda Le norme di salvaguardia Che va detto Anche questo Certo Servono per dire Che ci sta Perché dopo tutte le polemiche Che ci sono state Tutte le vicende Bloccare Intesa Però anche qui Bisogna essere chiari Lei lo è stato Stasera abbastanza Assessore Devo dire la verità Perché anche su questo Ho qualche dubbio Nel senso Se si pone Delle norme di salvaguardia Su determinate aree Non si può dire Guardate che fra Nove mesi Torna tutto come prima Perché se no È inutile metterle Quello che lei ha detto E questa sera È stata più chiara Rispetto a altre volte Ha detto Ci saranno Forse in modo diverso Verranno ridiscusse Nel nuovo piano regolatore Sostanzialmente È questo che lei Ha detto questa sera Se ho capito bene io Per carità Poi risponderà Allora Il problema è Sono fondamentali Servono Servono Non tanto Per darci un'immagine Di dire Bene abbiamo ridotto Le aree edificabili Del nostro territorio Va bene È più propaganda Che sostanza Servono Se effettivamente Stiamo ridistribuendo E stiamo ridisegnando Qualcosa E questo sarà L'elemento Che andremo a vedere Nei prossimi mesi E quello sarà Quello che andremo a giudicare Poi vedremo Se effettivamente Questa azione Che la maggioranza Ha deciso di fare Servirà poi Effettivamente A qualcosa Ma se dopo Torna tutto come prima O non cambia O che cosa Lo valuteremo Concludendo Per non farla lunga Avevo detto che parlavo Un quarto d'ora Sto già parlando troppo Fognature Franchini è bellissimo L'intervento È condivisibile Perché la qualità Della vita Compreso Dei nostri fiumi Se non facciamo Le fognature Non ce l'avremo Problema Chi le paga Le fognature Nel nuovo piano Nel bilancio Appena approvato Quanto c'è Per le fognature Prego Il piano c'è già L'ha già fatto Bolzonello C'è un piano Delle fognature Comunale E voglia C'è tutto È fatto anche bene Per carità Non è mica Si prevede Tutte le varie A chi costruisce Il nuovo Vengono fatte fare Anche le fognature Per carità Previsione Poi non si collegano Da nessuna parte Perché bisogna fare Tutte le linee di congiunzione E portare tutto Ai depuratori Ma il problema Bianchini Chi le paga La regione Sono vent'anni Che non dà più Una lira Sulle fognature Il comune Se gli dici Di fare un tratto Sì ho capito Ma Qui squiglie Come diceva Totò Va bene Su un valore Di Una volta Si davano tanti soldi Sulle fognature Tutti facevano fognature Quando la regione Ha smesso Di finanziare Abbondantemente Le fognature I comuni Hanno detto I soldi Li spendiamo Perché le fognature Sono quella cosa Bianchini Volevo rispondere a lei Che sono belle cose Che devono essere fatte Si crea disagio I cittadini Poi quando si è chiuso Il buco Nessuno si ricorda Più che esistono E il comune Ha speso un sacco di soldi E nessuno ti è mai grato Perché hai fatto una fognatura Tutti dicono Eh la dovevi fare Cosa vuoi Allora le amministrazioni Molte amministrazioni Tendono a non farle Perché dicono Invece se io pavimento Una piazza Crea un po' di disagio Ma poi lo vedono tutti Se faccio l'asfalto Una strada La vedono tutti Questo è il succo Del cinismo Politico Quindi io sono curioso Di vedere Quante fognature Si faranno Nei prossimi anni Ma le fognature Non si fanno Perché c'è il piano regolatore C'è il piano Il problema è che Bisogna avere i soldi Per farle E qui la vedo Molto dura Bene Concludendo E concludo veramente Così faccio contento Qualcuno Quindi sostanzialmente Assessore Siamo in una fase Proprio preliminare Dove stiamo dando Degli indirizzi E gli indirizzi generali Vanno tutti bene Il problema Che mi pongo io E come andremo ad attuarli Ma questa è la sfida Dei prossimi mesi Ho qualche dubbio Me lo tengo E Prego No no Non faccio neanche La dichiarazione di voto Non importa E la No no Non la faccio L'abbiamo già fatta Troppo tardi Allora Il problema Prego Sì va bene Ma non voglio svegliarlo Adesso Lo sveglio dopo Quando Quando rimane qua lui Allora Per quanto riguarda Probabilmente Su queste linee Farò una stensione Quindi faccio già Anche la dichiarazione di voto E quindi su questo Perché voglio lasciare La possibilità di capire Come andremo a svilupparci Quindi non voglio pensare male Ma neanche Penso che ci siano Tutti gli elementi per farlo E quindi avremo tempo e modo Ma il vero confronto Partirà Non da stasera O da stanotte Ma Da domani mattina Quando dovremo Applicare Questi principi Che sono scritti qui In queste linee guide E questo sarà il vero confronto Che faremo qui Con la città Grazie 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 Presidente In linea generale Le direttive Al piano regolatore Che ci sono state presentate Questa sera Sono ampiamente condivisibili Credo che Anche in occasione Della commissione Ma anche stasera Non solo i colleghi Di maggioranza Ma anche l'opposizione mi pare che lo abbia riconosciuto, quindi l'assessore insieme ai tecnici hanno fatto un buon lavoro, hanno gettato le basi per un piano regolatore che andrà sviluppato nei prossimi mesi e penso che verrà fatto un buon lavoro in questo senso. Io vorrei fare una riflessione su alcuni aspetti legati all'ambiente e in particolare al tema toccato dalle stesse direttive, precisamente le invarianti di piano, ai punti che riguardano la salvaguardia ambientale e il contenimento del consumo di suolo. Negli ultimi 50 anni, con il boom economico, vi è stato a livello nazionale un utilizzo, un consumo del suolo in maniera scriteriata, spesso senza un vero piano regolatore, senza una visione futuro di città, senza programmazione, ma solo per un consenso elettorale o, peggio, per interessi di parte. Riguardo Pordenone è stato detto che circa il 51% del territorio ricade in zona a rischio idrogeologico, mentre il 59% è quello urbanizzato, naturalmente non solo da edifici, ma anche da altre strutture, tipo parchi, eccetera. Ora, secondo me, la salvaguardia dell'ambiente si può attuare attraverso una tutela delle aree non costruite, in particolare quelle agricole, la protezione attiva delle aree a valenza ambientale, la deimpermeabilizzazione del suolo, naturalmente con tanti altri interventi, micro o macro che siano, che vanno in questa direzione, e con l'aumento potenziale dell'ecosistemico. Per quanto riguarda il contenimento dell'uso del suolo, questo è un argomento che occupa spesso il dibattito pubblico, in particolare quello politico. Per questo motivo, secondo me, spero che ciò avvenga di più nell'ambito degli impegni che gli amministratori locali prendono in campagna elettorale, perché sappiamo che l'ambiente è sempre uno dei primi posti come argomento. A ciò non sempre segue quello che viene appunto promesso. Poi dirò più avanti alcune cose in merito. Allora, c'è un obiettivo nel 2050, consumo zero del suolo. Secondo me, per raggiungere questo obiettivo, è necessario vedere quali sono le reali emergenze, quali sono le priorità. Una figura importante che, secondo me, è da tenere presente o da introdurre nell'ambito della pubblica amministrazione, in particolare quello che hanno competenze in materia ambientale e, precisamente, con competenza legislativa, quindi intendo Ministero Ambiente, Dipartimento Protezione Civile nell'ambito della presenza del Consiglio, le regioni stesse. Questa figura, secondo me, è il geologo condotto. È una sorta di sanitario del territorio. Cosa deve fare questa figura? Questa figura deve mettere in relazione il territorio con la pubblica amministrazione. Perché questo? Perché il rischio idrogeologico è da monitorare continuamente, il famoso detto prevenire è meglio che curare, e non intervenire solamente nei casi di emergenza. Fortunatamente, per quanto riguarda la regione Friuli, vi è una particolare attenzione su questo tema. Quello che si fa, però, non è mai abbastanza. È necessario, quindi, fare dei piani di sicurezza, come fanno le aziende oggi, per quanto riguarda la sicurezza del luogo di lavoro. Materia che fino a vent'anni fa era, come dire, non rientrava nella mentalità degli imprenditori perché non restì a spendere in prevenzione. Quindi, allo stesso modo, nell'ambito ambientale, è importante fare prevenzione. Però c'è un pericolo. Il pericolo qual è? Che, in tempi di poche risorse, si tende a tagliare, vediamo, il campo della cultura. Anche qua, in questo Consiglio, spesso abbiamo sentito ragionamenti fatte, appunto, contro la cultura. Cioè, che la cultura non fa economia, che con la cultura non si mangia. Invece, secondo me, è necessario razionalizzare gli interventi di mitigazione del territorio, di prevenzione, a fronte di molti sprechi che sono avvenuti anche nel passato, anche in opere ambientali. Quindi è necessario investire in opere strutturali, di difesa passiva, rilanciando nello stesso tempo l'economia. Vi do così qualche dato che ho visto un po' navigando su Internet. Dal 2009 ad oggi vi sono circa un miliardo e mezzo di euro che sono fermi al Ministero dell'Ambiente, in attesa di essere spesi. E pensate che questi sono soldi che sono al di fuori del patto di stabilità. A proposito del Ministero dell'Ambiente, il Comune di Pordenone, come sapete, perché ne abbiamo discusso in questa sede, che ha firmato l'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione, approvato nell'aprile del 2011. È un accordo di programma finalizzato alla programmazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il Comune ha solo, diciamo, ha messo a disposizione, quindi dando collaborazione sia alla Regione sia al Ministero dell'Ambiente, ha messo a disposizione le proprie strutture tecniche per la progettazione e la realizzazione di interventi intesi appunto a migliorare il rischio idraulico. Ricorderete appunto che in Consiglio Comunale abbiamo approvato alcuni mesi fa il progetto preliminare per la messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe agli argini di Valle Loncello. Mi risulta che a breve sarà approvato anche quello definitivo in giunta. Per Villanova, invece, è in via di definizione quello preliminare. Stiamo parlando di cifre che vanno, allora, per quanto riguarda Villanova, 2 milioni di euro. Per quanto riguarda Valle Loncello, invece, abbiamo 1 milione e 6, quelle stanziate dal Ministero dell'Ambiente, 850 mila dalla protezione civile e circa 200 mila per risparmi per la costruzione degli argini. naturalmente, da questi dati si capisce che, come dicevo poc'anzi, si può fare economia, si può rilanciare l'economia creando delle strutture a salvaguardia del territorio. Naturalmente queste strutture sono utili non solo per il territorio, ma per la difesa degli abitati appunto di Valle Loncello e di Villanova. Ecco, quindi, secondo me, fare prevenzione significa quindi non solo dare lavoro, ma a medio-lungo periodo risparmiare. Dico questo perché, un altro dato così che ho trovato, che dal 1944 al 2012 sono stati spesi 242 miliardi di euro per il ripristino e il ristoro dei danni idrogeologici. Ecco allora l'importanza di questa figura, quella che dicevo prima, del geologo condotto. Ho usato questo termine per rifarmi al medico condotto che agiva sul territorio. Questo per un controllo costante del territorio, appunto, e dell'ambiente. Ma non solo, ma anche per la prevenzione dell'inquinamento di qualsiasi natura si tratti. Oggi il privato, prima di costruire, deve fare una relazione, deve fare un controllo geologico. Io credo che anche il pubblico, maggiormente, se ne deve fare carico per la parte di propria competenza. Infine, per quanto riguarda le norme di salvaguardia, rispetto a quello che ho detto poco fa, credo che vadano in questa direzione, cioè in una scelta politica che l'amministrazione ha fatto e che vadano a tutela un po' di tutti. Quindi si parlava degli interventi che ho sentito, si parlava di... come? Anche delle minoranze. Quindi credo che il lavoro fatto sia un buon lavoro e che però in questi nove mesi che ci separano poi dall'adozione o comunque dal proseguire così nella redazione del piano regolatore, vada ascoltato il territorio in tutta la sua interezza. Poi le scelte, naturalmente, le prenderemo più avanti, verranno fatte più avanti con il piano stesso. Quindi credo che margini così di rivisitazione di quelle che sono delle scelte fatte oggi ci siano. L'invito che io faccio per la figura del geologo credo che sia in primis per la Regione, perché sappiamo che appunto è attenta a questo argomento, a questa materia e le varie amministrazioni che si sono succedute a livello regionale hanno sempre dato prova di competenza e di attenzione appunto in questa materia, tant'è che la nostra protezione civile ci è invidiata, mi pare, a livello nazionale. È stata anzi presa di esempio. Questo perché? Perché a livello nazionale, visto che il territorio italiano, come sappiamo, è a forte rischio idrogeologico, le cose vanno più a rilento. A questo proposito cito di nuovo il fatto dei soldi stanziati che sono fermi al Ministero dell'Ambiente, perché probabilmente in altri territori non è stato fatto come a Pordenone o comunque in Friuli, dove ci sono dei progetti reali e concreti per la salvaguardia del territorio. Io ho citato gli esempi di Pordenone, ma in Friuli ci sono altri comuni che hanno firmato questo accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione e che anche essi hanno adottato o stanno adottando dei piani, dei progetti proprio che vanno nella direzione della tutela di tutti, dei cittadini, dal singolo cittadino, alle imprese, eccetera. Grazie. Grazie, Consiglio Martino. Consiglio Dalmas, prego. Devo dire che stasera ce l'avete fatta sotto il naso. Ce l'avete fatta abilmente sotto il naso, io spero perché l'avete pensato, perché se non l'avete pensato vuol dire che avete sostanzialmente una buona dotazione di fortuna, perché avete fatto parlare tutti quelli della vostra maggioranza. Ecco, allora l'invito al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Secretario Comunale, o qui modifichiamo questi regolamenti, perché mi pare di assoluta evidenza che non si possa continuare in queste condizioni. Cioè, siamo arrivati, che ore sono? Le 12.40, siamo qui dalle 6, e forse per sfinimento abbandoneremo l'aula, le sue... E quindi il piano, queste direttive, queste direttive... Presidente, mi scusi, mi richiama per favore, ribetti perché mi disturba, ribetti mi disturba. Ecco, sia chiaro questo. E allora, probabilmente la vostra strategia questa volta ha pensato, perché ha detto, ma aspetta che stavolta parliamo noi così, non parlano più loro, così noi parliamo solo bene delle magnifiche solti progressive di ciò che avete fatto, del mondo bello, della resilienza, della rigenerazione, della società... Non lo so, devi chiederglielo. Devi chiederglielo, devi chiederlo, perché io vorrei chiederti, io vorrei chiedere all'architetto Giannelli che cosa ne pensa realmente, visto che oggi va di moda, va di moda, della resilienza e di questo piano. Della resilienza, ci dica. Ecco, bene. No, scherzi a parte, non siamo su scherzi a parte. E credo, e credo che non faccia onore a voi questo modo di procedere, non i contenuti in sé per sé di ciò che si è scritto, perché certamente c'è del lavoro ed è apprezzabile. Non è apprezzabile il modo, non è apprezzabile la spocchia, non è apprezzabile il modo in cui voi vi portate in quest'Aula, e vi portate sempre e costantemente nei giornali di tutte le parti. Avete iniziato con lo studio. Lo studio l'avete affidato all'architetto Monica Guerino. Che compito aveva l'architetto Guerino? Allora lì mi viene in mente, ripeto, la storia di prima. C'era un tempo un falco o un corvo che girava e improvvisamente poi non se ne è saputo più nulla. Avete dirottato benissimo tutte queste cose, avete fatto l'attività di auditing del sistema, avete sentito tutto, addirittura scritto 450 cittadini. Bastano tre di noi qua, sono 450 cittadini, forse 500. No? Sentite Giannelli, ne sa anche qualcosa di più dal punto di vista della competenza. Faccio un esempio, no? Quindi il valore simbolico di ciò che dite è pari a poco, perché in termini di democrazia e di rappresentanza, quando mettete in campo questi argomenti, ci sarebbe da discutere. Ma lei mi ha corretto oggi, assessore, dicendo che qui non si parla di cubatura zero. E' vero, di contenimento dello spreco, dell'uso del suolo, no? Il piano dice questo, ed è molto attento a dire questo. La legislazione nazionale, la regionale, dicono tutte queste cose. Ma c'è un dato molto evidente, che le clausole di salvaguardia che inserite in questo modo, sicuramente porteranno ad un blocco dell'attività edilizia per i prossimi cinque anni. Voi vi assumete questa responsabilità, perché pensate evidentemente di mettere delle pezze da altre parti, e con questa operazione che è un di più che non serviva. Non serviva. Se in nove mesi è arrivata l'approvazione, all'adozione del piano, allora lì scattano le salvaguardie, non serviva arrivare così, con questa impostazione, con queste clausole messe lì, addirittura con effetto retrattivo, spiegava prima Franco. E fondamentalmente l'emendamento nostro, che sarà bocciato, probabilmente decadrà perché abbandoneremo l'aula, non lo so, ci stiamo ancora, abbandoneremo l'aula e quindi decade, no? Che meglio. Ma non ho sentito nessun intervento da parte della maggioranza, e l'assessore Toffolo sicuramente ha fatto un grande lavoro, no? È discutibile, ma c'è il lavoro. Non ho sentito mai un intervento politico vostro. Qui discutiamo di questioni che attengono alla politica, alla visione. Ora, noi siamo governati da un signore che si chiama Matteo Renzi, che fa il mestiere del rottamatore, e con la rottamazione ha creato la sua fortuna politica. Bravissimo. Bravissimo. No, no, ma è così. E allora, e allora, probabilmente, questo è il senso, il senso, credo, e ha, credo, spero, che mi sarei aspettato da un piano regolatore, da linee guida, da linee di indirizzo, che recepiscano quella che oggi è la cultura dominante, ovvero sia la rottamazione. Buttiamo giù, quello che è brutto, vecchio, lo buttiamo giù, ci costa meno. Sistemiamo quelle connettività che abbiamo lasciato perdere, quei pezzi di città che sono lì, di cui non sapremo nulla, perché è vero, la ripeto, il risanamento energetico, tutte le cose importanti che avete detto, ma poi come si coniugano nel concreto? Avevate un'occasione? Avevamo, sindaco, un'occasione, e tu la condividevi. Realizzare un ospedale fuori da quella parte, cioè a nord della città, liberare una parte importante della città, oggi occupata dalle caserme, e non sapete cosa farne, vedremo cosa farete dalle caserme, da questo ospedale che non realizzerete mai, e che resterà lì, come un'eterna incompiuta, a rischio di decadimento, tecnologico di tutto ciò che ne consegue, oltre che strutturale, avevate la possibilità lì di concentrarvi e di fare una città, quella stessa città che tutti gli interventi di oggi hanno detto c'è stata preclusa, perché c'era una quinta a nord, per cui abbiamo scelto di costruire dove si costava meno, cioè in zona esondabile. Tutto lo sviluppo di Pordenone è stato questo. Allora, cubatura zero o non consumo di territorio, o contenimento del consumo del territorio, è un privilegio, è una violazione palese di qualsiasi forma di equità sociale. Se non capiamo questo, e voi siete un'amministrazione di centro-sinistra, dovreste essere i primi a lavorare su questo. Cubatura zero è una sciocchezza. È ideologicamente, concettualmente, una sciocchezza. Perché? 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 Te lo spiego. Perché? No, 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 ma... Ovviamente, sì, 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 fammi finire, per piacere, no? Fammi finire. Poi hai la possibilità di avere un... hai la possibilità di fare un secondo intervento e dire che dico della sciocchezza, probabilmente hai ragione. Ti anticipo. Perché oggi questo in noi... Che cosa produce? Produce la ipostatizzazione di ciò che già c'è. Noi stiamo e smaltiremo la pessima edilizia, le pessime scelte urbanistiche, e io non dico dal punto di vista del bello e del brutto nel quale non entro, perché non si discute quello, ma dovremo smaltire quella parte di città che non ci piace, perché questo è il messaggio che viene fuori. Non posso dire a un benzinaio tu non apri la poppa di benzina perché ce ne sono già troppi in giro. Perché? Perché devo farlo? Perché devono morire tutti quelli che ci sono già? Perché devo impedirgli la possibilità di costruire. Certo, sulla zona esondabile, se facciamo il principio di che non si costruisce, lì non si deve costruire. Ma con la clausola di salvaguardia, lei, assessore, va proprio lì, va a toccare quel concetto. E lo dice molto chiaramente. Ecco una chiara posizione ideologica. Legittima, corretta, dal punto di vista normativo, salvo l'interpretazione retroattiva che ricordava l'architetto Giannelli prima, che è eccessivamente ridondante, forte, difficile da giustificare, sulla quale ancora non ha chiarito, ma avremo modo nel proseguo di questa vicenda di chiarire, non questa sera, certamente, e per cui, vedete, avete lasciato la città così, in pezzi incompiuti. E resteranno altrettanto incompiuti. Allora, se oggi mi pare che la comunità europea dica che, stimi, che da qui al 2020 la qualificazione energetica di quello che per noi oggi è classe A sarà già classe vecchia. E' vero? In grosso modo. Quindi siamo d'accordo, bisogna puntare sulla riqualificazione energetica degli edifici, insomma, su tutte queste cose, no? Quando l'Italia è sempre dietro rispetto a tutti quanti. Per di più noi siamo avvinti da una crisi economica che interessa questa città in modo sostanzialmente drammatico. Drammatico. E io non credo e non vedo la possibilità di attrarre investimenti, attrarre nuovi insediamenti semplicemente da questi indiritti, soprattutto in un momento in cui bisognava laicamente evitare di ricorrere perché non ce n'era bisogno a quella applicazione e all'applicazione dell'articolo 63 bis in questo modo. questo se lo potevamo tranquillamente evitare, potreste correggere la norma accogliendo l'emendamento del consigliere Giannelli, ma mi pare che ciò non si verificherà. Bene, chiudo. avete fatto e continuate a fare ciò che volete perché è un'azione molte volte muscolare quella che produce questa maggioranza. io credo che, anzi, mi sarei aspettato qualcosa di più sul concreto, sull'immediato, su come sistemare al di là delle enunciazioni di principio, dei contenuti, delle direttive, del piano, sapere che cosa, non dico domani mattina, ma neanche troppo in là potrebbe o potremmo fare in alcune aree della città. Come si pensa di risolvere il problema del Bronx, l'antica questione dell'olcese, no? Che è rimasta lì. E il nostro patrimonio che salvo qualche intervento interessante anche su Viale Marconi, che in parte ha funzionato, sembra aver funzionato, insomma, non ha dato esempio di una città che cresce verso quegli obiettivi che avete indicato. E poi, l'ultima considerazione, che è solamente politica, non c'è mai da nessuna parte nei vostri ragionamenti e voi siete la continuazione delle amministrazioni precedenti dal punto di vista politico, sembra quasi che il vostro arrivo sia avvenuto in una sorta di tabula rasa. Il passato non c'era, arriviamo noi, mentre voi siete la continuazione politica di quelle scelte che ci consegnano 3.000 alloggi sfitti, tutte le robe che ripetiamo da tempo, di scelte urbanistiche di un certo tipo, che sono state ampiamente denunciate da questi banchi più volte. E su questo a volte anche un po' di così, cioè, riconoscere dove si è sbagliato prima non sarebbe un brutto esercizio democratico. E questo potreste anche farlo ogni tanto, perché vede Assessore Toffolo, lei all'inizio di questa consigliatura ha ingaggiato una contesa con una parte di questa minoranza che le ha posto alcune questioni e certamente chi le poneva era in amministrazione con lei, anche lì ci sarebbe da dire. Eppure avete fatto tutto il contrario di tutto, avete iniziato l'accordo del programma sul nuovo ospedale poi siete tornati indietro, senza nessuna motivazione, Sindaco, senza nessuna motivazione, io non ho ancora capito quella volta, perché so che lei ha subito quelle scelte, ha subito quelle scelte, avrebbe dovuto rimetterle in discussione partendo anche da qui, mentre non si vede assolutamente nulla di questo. Grazie. Grazie consigliere Dalmasco. Signor Zanotto, prego. Sì, per chi? Che numeri? Numero legale? chiede così di accomodarci. come la facciamo? ha fatto la stampa? Cos'è che diceva chi? Consiglieri? Cos'è che diceva Renato Bossetto? Consiglieri? anche se togliete le tessere siete presenti? No, 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 noi guardiamo lo dice il regolamento bisogna verificare è dei tempi di Scaini che questa è la regola ve lo ricordate anche voi che diceva le tessere non importano sono le tessere dei consiglieri che sono qua dentro io sono rimasto alla regola di Scaini prego dite la stessa risposta è quella che dice lei perché non ha aspettato di iniziare la stampata non era più la stampata non so non l'ho chiesta io la chiesta segretaria va bene allora come diceva Renato Bossetto all'unni assente presenti attenti il segretario mi dice che c'è il numero legale prego consigliere Zanotto allora è evidente la necessità evidente è stata evidente a questa maggioranza già da da metà della precedente amministrazione la necessità di mettere mano all'organizzazione di questa città di ragionare di ragionare per vie complessive è evidente che erano successe un sacco di cose ormai sono sotto gli occhi di tutti lo sviluppo economico che veniva meno i capannoni che cominciavano a essere avere il cartello affittasi la crisi la carenza di reddito la mancanza di mercato immobiliare ma non solo via Marconi e la gente che cominciava a dire beh è ora che smettiamo di costruire no? fermiamoci un momento un momento fermiamoci e vediamo se troviamo nuovi spazi e nuovi modi di costruire quindi il ragionamento c'era già solo che noi solo che noi abbiamo pensato non all'oggi perché pensare a quello che succede oggi è facile c'è la crisi non si vendono gli appartamenti non si costruisce le imprese dell'edilizia sono la canna del gas come si dice domani che cosa succederà? dopo domani parte tutto e tutto torna come prima noi non crediamo che sia così per esempio noi non crediamo che si possa ma non perché ma non perché lo pensiamo noi che siamo cattivi tutti gli altri invece hanno ragione e succederà così non ci sarà uno sviluppo edilizio a Pordenone come in tantissime altre città del nordestino dicono tutti non come c'è stato negli anni 80, 90, 2000 non ci sarà è fisiologico che non si sarà perché l'economia non va in questa direzione non ci sarà lavoro così come l'abbiamo conosciuto negli anni 90 e 80 non ci sarà reddito distribuito così come l'abbiamo conosciuto negli anni 80 e 90 non ci sarà l'abbandono di fatto di pezzi di città quel pezzo di città che è stato che è stato occupato nella fine degli anni 80 negli anni 90 dalla manodopera emigrata che arrivava qua che era l'unica manodopera povera che è stata occupata adesso è libera via Marconi vuoto ci sono tante via Marconi nella città del nordestino se solo girarle un pochino le troviamo quindi non non è che domani via Marconi si riempie subito di gialli verdi blu gialli vediamo sul giallo vediamo gialli verdi blu non succederà così e chi dice che succederà questa cosa quell'altra cosa sbaglia o non c'entra l'obiettivo e nessuno ci sta molti ci stanno provando e nessuno ancora ha trovato ha trovato il modo beh noi abbiamo cercato di muoverci in questo modo quindi è non credibile pensare che i nostri figli abbiano il reddito che abbiamo avuto noi è non credibile che lavorino tutti e due e abilo il reddito per pagarsi la casa è non credibile che il pubblico possa intervenire sulla cosiddetta casa popolare o sull'edilizia popolare così come è accaduto per noi per le nostre famiglie numerose non è credibile che a breve un ragazzo di 30 anni una coppia di 30 anni possa fare un figlio perché non è sicuro che riuscirà che riuscirà a trovargli un asilo che costa 800 euro al mese 700 600 ok allora cominciamo a parlare di social housing cominciamo a vedere se riusciamo a trovare uno spazio per questo tipo di fruitore perché mi piacerebbe che mia figlia potesse comprare un appartamento ma non è così come tante altre centinaia di ragazzi di 30 anni che vivono la famosa generazione dei 1000 e 1100 euro non è così mi piacerebbe che arrivassero tutti gli investitori e comprano tutti i palazzi di Pordenone ma non è così non sarà così per i prossimi 10 15 anni che per l'economia è un tempo breve gli economisti dicono ne usciremo se va bene fra 3-4 anni come e con quali danni non sappiamo siamo già 4 anni 5 anni 6 anni quindi noi dobbiamo ragionare in questo modo dobbiamo provarci ecco le direttive quindi social housing quindi pensare a quello che c'è e lo mettiamo a posto quello che c'è lo mettiamo a posto pensare a dire prima degli spazi per il territorio si dice verde ma è una cosa complicatissima complessa noi pensiamo cosa facciamo tutti i campi di patate campi di biava no però è vero è un dato effettivo che l'impermeabilizzazione del nostro territorio è una delle cause dei problemi connessi alla specificazione atmosferica e quindi è ormai un dato lo sanno anche tutti lo sanno e quindi liberare un po' di spazio l'impermeabilizzazione è uno degli obiettivi questi e altri obiettivi noi li abbiamo chiamati la rigenerazione urbana si mette a posto si sistema mi dispiace dove sono andati facciamo un patto con i signori del lance palazzo san marco palazzo san marco lo volete mettere a posto facciamo un patto su via marconi con i costruttori del lance con tutto il rispetto del bene che ha lavorato ci conosciamo anche facciamo un patto su via marconi siete in grado di mettere a posto via marconi e fare e tirare su tre quattro i soldi li mettiamo noi guardati noi andiamo da abbiamo delle conoscenze di regione no? e li portiamo qua proviamo a ragionare in questo modo allora probabilmente è questo quello che io penso di interpretare anche l'idea che abbiamo noi di piano regolatore perché finora pare che noi siamo i fantasisti e tutti gli altri sono i concreti no? no 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 non abbiamo questa idea no? per adesso siamo solo la prima fase vedrai quando cominciamo a correre vedrai quando cominciamo a correre per adesso siamo solo agli inizi e siamo in presenza di una maratona non di un cento metri quindi quando cominceremo a correre quando cominceremo a mettere le mani in pasta quando i professionisti cominceranno a farci vedere alcune cose quando affronteremo seriamente e qua parlo con chiarezza alcune questioni importanti tipo centro storico tipo rapporto col fiume tipo la viabilità su via riverasca tipo via marconi allora cominceremo a ragionare per bene e là ci confronteremo tranquillamente e ci confronteremo anche con i costruttori quindi la nostra idea è questa noi vogliamo prendere questa città rimetterla a posto tenendo conto che altri scenari al momento non ce ne sono se qualcuno li ha venga qua ce li racconti ma tutti quelli che abbiamo consultato non ci hanno dato altri scenari la scelta che noi stiamo facendo la stessa di molte altre città simili dico Udine dico Treviso dico l'Emilia dico la dico la Lombardia città simili sì Milano Milano ok la vecchia fiera le grandi aree industriali ne si può intervenire ne si può intervenire che cosa facciamo con i 20.000 capannoni tutti i piccoli sfitti nel giro di 10 anni quelli non hanno non avranno mercato non riusciremo a ottenere niente da questi fabbricati allora cosa faremo ecco su tutte queste cose noi abbiamo cercato di iniziare ragionare e porre alcune direttive illustrare alcune direttive l'assessore l'ha fatto egregiamente superbamente abbiamo posto anche un problema di salvaguardie si chiamano mi dispiace per due motivi per due motivi primo va bene parlo parlo a chi mi vuole ascoltare primo primo motivo molto semplice Martina guarda che bene che ci hanno trattato sabato i giornali perché c'era Lancia che diceva siamo d'accordo sulla linea generale oh madonna oh madonna poi ho detto però c'è questa questione dei terreni che esiste che non possiamo trascurare su cui dobbiamo riflettere ma non è il problema cioè con tutto rispetto l'edilizia è una cosa complessa l'edilizia ha anche le strade e anche la tecnologia sono anche le coperture non c'è solo il terreno da sviluppare il real estate probabilmente in questa fase è un quinto un decimo della potenzialità edilizia se solo noi cominciassimo a far lavorare le imprese mollando un po' sul patto di stabilità loro starebbero più tranquilli nel senso che lavoro ce ne sarebbe quindi la seconda questione avete visto abbiamo anche telefonato accontentatevi abbiamo telefonato in banco dei nostri amici e abbiamo scoperto che come un po' di come si possa dire come tutti sanno tutti coloro che hanno a che fare con la banca sanno che le modalità con cui le banche concentrano in mutui può essere il terreno ma ci sono altre mille dinamiche io farei farei il provocatore no? farei il provocatore e direi bene allora cominciamo ci vediamo a Natale e vediamo quante imprese sono fallite perché il comune ha fatto le linee guida del piano regolatore con tutto rispetto sto parlando ovviamente è rispetto di un'attività economica ma su questa questione siamo tranquilli e siamo sereni si parla di nove mesi questo però signor sindaco signora signora assessore si deve impegnare perché dobbiamo chiudere veloci questo problema dobbiamo velocemente attaccarci il piano della mobilità entro l'estate subito subito entro l'estate è una parentesi solo un minuto il piano della mobilità ha già alcuni aspetti che sono pronti per essere applicabili qua parla Dario Zanur consigliere comunale dobbiamo riempire i parcheggi dobbiamo riempire i parcheggi signor sindaco e non le strutture in tempo è a morale che noi facciamo un investimento spendiamo dei soldi e non riempiamo i parcheggi è non etico abbiamo spero un sacco di soldi quindi riempire riempire per me vuol dire riempire un parcheggio riempito se è oltre 85% adesso siamo se va bene 50 60 si struttura intendo si 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 e liberare il centro questo non l'ho detto ma insomma è liberare il centro la seconda questione parliamo subito e dopo chiudo la parentesi scusate non voglio essere strumentale ma tutta la questione di alcuni punti di contatto fra fiste ciclabili e viabilità su questo almeno su 2-3 dobbiamo fare un intervento il più pragmatico possibile ma dobbiamo farlo il secondo piano che dobbiamo avere subito pronto entro l'estate o entro settembre è il piano per energia che è il pilastro su cui noi costruiamo tutti i nostri metri di rifacimento energetico di fabbricati ok questo è il piano su cui noi costruiamo perché se non abbiamo obiettivi pianificatori nel campo del risparmio di tutti gli obiettivi energetici noi non sappiamo poi come impostare il lavoro per quella parte di piano bene allora secondo me stiamo lavorando adesso accelereremo se prendiamo siamo al primo passo ad agosto probabilmente siamo al momento della i professionisti ci consegneranno ci consegneranno il lavoro faremo di tutto perché la città sia come dire coinvolta stavolta dobbiamo modificare ancora i giri perché la città sia coinvolta su questo anche a costa di sentirle ma è il destino ma è il destino e quindi la maggioranza ci sarà grazie grazie consigliere Pasut prego grazie presidente dovevo dovevo intervenire fare un un discorso a braccio ma ho paura di perdere la concentrazione allora leggerò l'intervento che dovevo fare così a braccio ed è un intervento riferito a un ordine del giorno che come lista presentiamo quindi nella lettura presento quest'ordine del giorno non mi soffermo sul commentare il buon lavoro che ha fatto l'assessore l'assessore Toffolo un lavoro che constato constatiamo almeno per quanto ci riguarda ancora dentro una razionalità corretta eccetera ma privo di sogni privo di slanci privo di fantasia so che ha qualcuno da fastidio che dica queste cose perché la fantasia sembra essere fuori luogo in un momento di crisi ma io credo che dalla fantasia nascano i sogni e dai sogni anche le soluzioni per risolvere i problemi allora premesso che il processo di trasformazione sociale ed economica in atto nel paese trascina anche la nostra città di Pordenone in un fenomeno generale che riguarda non solo l'Italia ma l'Europa e anche direi l'intero pianeta e vecchie gerarchie di potere non solo economico cambiano e nuove zone del pianeta assurgono ruoli che non hanno mai esercitato prima di questo cambiamento in città sono simbolo e presenza in terre zone della città che si sono irrimediabilmente svuotate è sufficiente fare due passi in centro o due pedalate in prima periferia per cogliere la desolazione di questi segni la crisi delle città a forte vocazione industriale come Pordenone non sono nella storia degli ultimi cento anni una novità basta osservare quel che è successo in zone di prima o intensa e storica industrializzazione come l'Inghilterra il nord della Francia certi stati uniti certi stati degli USA città molto simili a Pordenone hanno subito in pochi anni un processo di trasformazione prima lo sviluppo delle fabbriche su modello fordista ha determinato una fase di insediamento abitativo che si è potuto realizzare anche grazie a molta immigrazione sia interna al paese che internazionale e in un momento successivo entrata in crisi la produzione industriale quelle città si sono svuotate e in alcuni casi sono tornate ad un numero di abitanti molto simile a quello precedente all'esplosione dell'industria che impiegava molte migliaia di persone è un caso che sta succedendo a Pordenone le città si svuotano perché manca il lavoro le fabbriche chiudono è un fenomeno che tocchiamo con mano ogni giorno abbiamo in città interi palazzi praticamente abbandonati in zone centrali alcuni sono diventati ricettacoli di vandalismi e sedi di micro delinquenza altri per ora resistono pur essendo abitati da un numero sempre minore di famiglie spesso formate da sole persone anziane che contemplano la fine dei loro sogni di gioventù che colgono proprio nella decadenza inarrestabile dei palazzi in cui vivono è una cosa che succede a Pordenone per contro a questo fenomeno i nuovi edifici non vengono popolati mostrando di essere ritenuti poco o per nulla appetibili da un punto di vista abitativo nonostante vengano magnificati da costruttori e amici dei costruttori è sintomatico assessore Conficoni che in città fino a pochi anni fa si polimezzasse perché gli immigrati che arrivavano in massa per abitare a costi sostenibili davano vita ad esperienze di promiscuità e sovraffollamento mentre oggi nelle nostre case stiamo facendo i conti con il crollo del numero dei residenti e molti proprietari non si fidano a locare presi dal dubbio che quanti si offrono di prendere in affitto un appartamento o una casa non siano in grado di pagare pigioni e spese oggi viviamo un fenomeno opposto a quello di pochi anni or sono sono i nostri giovani ad andarsene per sempre dalla città soprattutto quelli più capaci e qualificati sta dunque nell'ordine delle cose possibili che la città perda in breve tempo un numero consistente di abitanti e come già successo altrove al crollo della produzione fordista segue il crollo della città in cui si realizzava ma questa possibilità non deve concretizzarsi per molti motivi ma anche e soprattutto perché nessuno è in grado di prevedere dove come e quando un simile processo possa arrestarsi ed ancor più quali e quanti danni possa arrecare assistiamo ad una caduta molto pesante del valore del mercato degli immobili legato non solo alla scarsità della domanda ma anche ai costi di mantenimento sempre più alti degli stessi e soprattutto ad un regime fiscale che penalizza chi è proprietario di seconde case questa caduta di valore oggi colpisce intere zone della città senza che nulla valga ad arrestare il fenomeno alcune domande possiamo agire solo sperando di rinfocolare la domanda di abitazioni abbiamo strumenti reali per dare forza ed intensità a questa domanda possiamo agire solo bloccando definitivamente l'espansione della città e l'occupazione dei terreni agricoli a fini edificatori mentre la città costruita decade sempre di più dobbiamo farlo ma non basta a risollevare le sorti della città che oggi esiste e decade allora ci chiediamo come possiamo creare meccanismi che favoriscano fatti che creino nuovo valore come possiamo fare in modo che nella città costruita vi siano anche zone luoghi edifici che aumentano di valore per dare così sperabilmente il via ad un processo contrario a quanto sta avvenendo l'unica cosa che possiamo fare è approvare ed attuare un imponente piano di abbattimento di edifici siamo nei sogni siamo nelle velleità ma è un ragionamento che sottoponiamo noi presentiamo questo ordine del giorno perché come diceva lei assessore queste sono le linee di un piano regolatore che deve venire noi vorremmo contribuire affinché all'interno di questo ragionamento si considerino anche queste cose che vi stiamo proponendo allora dicevo che l'unica cosa che possiamo fare è approvare ed attuare un imponente piano di abbattimento di edifici e la trasformazione delle aree su cui insistevano senza prevedere alcuna nuova costruzione che come è evidente in Pordenone non crea più alcuna nuova ricchezza ma anzi la consuma del resto è facile constatare che una ripresa di valore può avvenire solo in relazione sia ad una diminuzione dell'offerta ma anche e soprattutto grazie ad una riqualificazione molto profonda della città costruita noi come possiamo immaginare un cittadino che desidera abitare la corte del bosco con il grattacielo santin vecchio oramai di tanti anni non immagino che non provi desiderio di acquistare ma nell'ipotesi che si possa in qualche maniera demolire quell'edificio degli anni 60 e creare attorno a corte del bosco una realtà con giardino con qualche cos'altro potrà in qualche maniera rendere appetibile l'abitare quella zona certo è qui il salto anche di fantasia e di coraggio interpellare gli istituti di credito interpellare i grossi investitori la politica che agevola un processo di cambiamento strutturale della città perché se no qui facciamo solo piccoli trattamenti di macchiasi e incontri ai quali sono venuto anche io diverse volte ma che poi in realtà si traducono in ben poco dicevo che del resto è facile constatare che una ripresa di valore può venire solo in relazione sia ad una diminuzione dell'offerta ma anche soprattutto grazie ad una riqualificazione molto profonda privati in base a calcoli difficili da dedurre razionalmente hanno costruito in piazza Costantini poi ti ascolterò attentamente Emanuele anch'io e dico hanno costruito in piazza Costantini no? quello che è stato oggetto un po' anche di polemica ma chi va a abitare in piazza Costantini con attorno chiuso in un mondo di loculi che non abita più nessuno? quindi noi noi constatiamo oggi per esempio che attorno a questo posto costruito in classe A costruito con nuove tecniche si vendono appartamenti oramai a 500 euro al metro quadrato in viale Trento eh? la città che è secondo il palazzo è brutta e viene vissuta ed intuita come ogni giorno più brutta e inadeguata per vivere bene in quella zona ecco fino a pochi anni or sono si sosteneva che era sui vuoti che dovevamo agire per cambiare la città sui vuoti oggi capiamo che non è dei vuoti residui che dobbiamo parlare ma dei vuoti da creare del resto non solo di una sempre discutibile questione estetica si tratta ma di una città pordenone che si mostra ogni giorno di più strutturalmente inadeguata a dare il via ad una nuova fase di sviluppo basta pensare ad esempio alla viabilità e alla mobilità nel giro di brevissimi tempi abbiamo avuto due incidenti mortali uno in viale Marconi e di recente l'altro in via Martiri Concordiese quindi anche la viabilità e la mobilità se non si creano nuovi spazi e nuove abitudini l'assetto antico è chiaramente ispirato al decrepito fordismo di un apparato produttivo che non c'è più dico l'assetto antico del traffico e di veicoli e merci in città catalizza ed aumenta la velocità dei processi di decadimento la città strutturata come è non può nemmeno immaginare una vita diversa e perciò consumi evoluti e nuovi e dunque iniziative economiche che portino a dialogare con quella parte di mondo che esprime nuove esigenze e consuma cose nuove e servizi nuovi noi riteniamo che sia giunto il momento che sia necessario trasformare profondamente e violentemente la città creare un trauma che consenta di liberare pensiero creatività e immaginazione creatività e immaginazione perché noi siamo ancora fermi una volta da tutta l'Italia si veniva a lavorare a Pordenone perché qui si costruiva il futuro oggi i nostri giovani fuggono nella consapevolezza che qui non c'è più futuro ovviamente non si tratta solo di approvare un piano che preveda abbattimenti e recuperi delle aree senza nuove costruzioni parlavo prima con gli imprenditori qui non è che dobbiamo precludere le nuove costruzioni dobbiamo organizzare in maniera importante il territorio di Pordenone non si tratta ovviamente di approvare un piano che preveda abbattimenti e recuperi delle aree senza nuove costruzioni bisogna approntare strumenti finanziari misti fra il pubblico ed i privati che possono trarre vantaggi da processi di valorizzazione del costruito che rimarrà bisogna inoltre indurre la regione a dare priorità nei finanziamenti a simili progetti di radicale trasformazione urbana quindi vado concludendo sono stato nei promessi 15 minuti di intervento in conferenza capigruppo diciamo che l'unica alternativa ad un radicale progetto di trasformazione della città è una sua decadenza ma non lenta molto forte e veloce signor sindaco anzi sempre più veloce perché il mondo corre in avanti e Pordenone torna indietro infine chiediamo all'amministrazione di inserire nel dibattito su questo documento uno spazio per una discussione sulla riqualificazione e valorizzazione della città il piano regolatore dovrà prevedere la riconversione di intere zone della città la creazione di spazi la demolizione di edifici commercialmente fuori mercato la rivalorizzazione immobiliare di quelli nuovi eccetera tutto ciò di cui abbiamo appena sentito diventi confronto per questo nuovo piano regolatore grazie ho finito grazie consigliere consigliere Piva prego grazie presidente mi dà adesso l'ordine al giorno che poi distribuirò bene grazie presidente il mio intervento questa sera in una sala semi vuota insomma vabbè l'importante è che ci sia la maggioranza io credo che un luogo come questo che diciamo il luogo deputato a produrre quello che è il benessere della città e dei cittadini dovrebbe avere maggior rispetto da parte anche dalle opposizioni però tant'è ognuno fa quello che vuole questa sera abbiamo sentito l'esposizione del programma del piano regolatore diciamo esposto dall'assessore Topolo ed è stata veramente un qualcosa di nuovo innovativo ha dato delle spiegazioni chiare e limpide che presumo che anche un profano le abbia potute capire unito a questo dobbiamo considerare che è un avvenimento anche abbastanza importante perché permette un'iniziativa permette un qualcosa di epocale lo vorrei definire cioè vogliamo cambiare Pordenone e questa sera è il primo passo verso questo progetto chiaramente i tempi non saranno brevi però è importante che questa maggioranza venga ricordata nel futuro per quella che ha iniziato il processo di ammodernamento della città di Pordenone per cui credo che sia veramente importante far capire questo alla città e ai cittadini perché l'obiettivo di questa maggioranza è di creare una città confortante e confortevole per i cittadini con tutte le responsabilità del carro per cui credo che non ci sia più niente da dire si va avanti e si lavora con l'appoggio di tutta la maggioranza e credo che i risultati poi saranno sicuramente favorevoli grazie grazie consigliere Piva consigliere Loperfido prego grazie presidente sul comportamento dell'opposizione saranno magari questioni che potremmo affrontare all'interno dell'opposizione però non è ammissibile che la maggioranza possa pretendere di imporre una linea ovvero quella di andare avanti ad oltranza e pretendere anche che l'opposizione quando fa delle proposte non viene neanche tenuta in considerazione e pretendere che tutti rimangano presenti in consiglio comunale perché non è ammissibile i toni che stanno emergendo questa sera ovvero accontentati che abbiamo telefonato alle banche non fate un favore a me non fate un favore a De Bortoli non fate un favore all'opposizione è semplicemente un modus operandi corretto quello di informarsi correttamente sulle informazioni che riguardano importanti operazioni che riguardano il territorio di Pordenone e invece dei toni che stanno emergendo sembra quasi che è concesso all'opposizione di parlare ma non troppo perché comunque tutto ciò che viene proposto dall'opposizione non viene approvato a prescindere senza neanche entrare nel merito e quindi non è neanche ammissibile che una maggioranza pretenda che quell'opposizione sia sempre presente in aula perché ogni singola proposta compresa la mozione di questa sera non verrà neanche presa in considerazione dalla maggioranza che governa questa città quindi comunque noi collega Bianchini sarà così è inutile che lo diciate che andrete a vagliare valuterete no appunto è tardi proprio perché è tardi magari la prossima volta si può suggerire a questa maggioranza io ricordo quello che disse Dalmas una volta un po' tetragona che forse bisogna anche prendere in considerazione dei suggerimenti su come gestire i consigli comunali perché non è ammissibile che si debba arrivare all'1.25 a parlare di un tema così importante quando sapendo benissimo perché ma perché lo sapete voi che è un tema importantissimo avete speso tempo soldi dedicato ore e stra ore per fare gli incontri pubblici sapevate benissimo che era un tema fondamentale per la città e se è un tema fondamentale per la città non si convoca il consiglio comunale alle 6 con la maggioranza che non si presenta prima delle 18.30 e si inizia a fare delle comunicazioni del sinaco che portano via il tempo fino alle 19.30 guardi io ero presente qua alle 17.50 c'ero c'ero io mi sto riferendo ma qua non è a favore o sfavore di nessuno né maggioranza di opposizione semplicemente c'erano degli ospiti che sono stati qua con noi tutta la sera dalle ore 18 loro si puntuali fino alle ore 24 sarebbe stato bello sarebbe stato bello che questo consiglio comunale avesse concluso la discussione approvato o meno l'argomento in discussione con la presenza di questi ospiti che sono stati presenti con noi tutta la sera perché finalmente c'era qualcuno che è stato presente durante tutta la serata quindi magari la prossima volta prendere in considerazione è che su un tema così importante ci si possa trovare anche alle tre per fare in modo che poi non si dovrebbe arrivare oltre alla mezzanotte non si sfora prendendo il secondo gettone di presenza per coloro i quali prendono ancora il gettone di presenza i dipendenti comunali possono andare a dormire prima i vigili possono andare a dormire prima semplicemente pensare a queste cose perché è impensabile che su un tema così importante non si facciano almeno sei ore sei ore di discussione detto questo io l'ho ascoltata caro assessore Pasut e la prendo in considerazione no no assessore perché io non sono assolutamente d'accordo con coloro i quali dicono noi siamo entrati siamo arrivati al governo che la situazione ancora non era così grave erratissimo io ricordo benissimo aprile 2008 l'associazione dei costruttori che dice se continua così quest'anno vanno a casa 200.000 persone quindi non prendiamoci in giro la situazione era già grave ben prima che lei si insediasse ed era già grave caro assessore Pasut quando lei faceva l'assessore di questa maggioranza che adesso non sostiene più perché questa maggioranza che governa Pordenone da ormai 13 anni come modalità di gestire il bilancio ovvero come modalità di governare il territorio teneva in considerazione anche gli onori della Buccalossi un'amministrazione che ogni anno incassava dai 2 milioni di euro fino ai 4 milioni e mezzo di euro e quando c'era lei quando c'era lei avete incassato 2 milioni 611 mila euro 2 milioni e 541 mila euro 2 milioni e 140 mila euro e poi guarda caso inizia a diminuire 1 milione e 971 1 milione e 550 mila 1 milione e 61 mila nel giro di 4 anni guarda caso da quando lei aveva iniziato l'avventura d'assessore fino a quando l'aveva terminato e quindi chi mi viene a dire che la situazione non era così grave quando erano ormai ben più che dimezzati le entrate della Buccalossi vuol dire che o aveva gli occhi foderati di prosciutto o voleva raccontarcela quindi amministrare il territorio vuol dire anche che quegli importi non ce li abbiamo più e quindi e quindi dobbiamo fare in modo che il bilancio venga gestito in altri modi le cose sono molto collegate perché se non entra da una parte bisogna tirarli fuori da un'altra parte altrimenti bisognerà vedere quello che è stato fatto in via Grigoletti che è una cosa penosa signor Sindaco dove probabilmente per farci belli agli occhi degli alpini abbiamo fatto le strisce abbiamo rifatte le strisce però le buche sono tutte quante là e sembra una cosa da terzo mondo onestamente rifare rifare le strisce per farci belli e lasciare tutte le buche su quella strada è veramente qualcosa di pietoso e spero e spero che non si vada a rifare tutto dal manto stradale prossimamente perché altrimenti vorremmo dire che abbiamo speso i soldi di GSM per fare le strisce a terra veramente buttando via i soldi quindi comunque vada avrete sbagliato eh sì eh eh beh sì eh perché se hanno fatto le strisce per terra e poi magari tra un mese vengono a scoprire veniamo a vedere che che viene fatto non c'è pericolo ecco quindi ho fatto l'alpino 12 mesi quindi solo che gli alpini non si pongono questi problemi e quindi avrebbero potuto anche accettare di non vedere di non vedere solo 12 mesi di non vedere le strisce le strisce rifatte comunque non voglio non voglio trattenervi 30 minuti qua cioè se volete lo faccio cerco di andare avanti dritto no quindi non interrompetemi che cos'è quindi cari colleghi non raccontiamocela che la crisi è qualcosa di recente la crisi è qualcosa che è avanti da tempo e allora quando dobbiamo affrontare tematiche del genere e sento che questa amministrazione ha fatto di tutto per recepire tutti i suggerimenti degli stakeholders e poi sento il il collega Zanut che dice sindaco assessore la prossima volta dobbiamo assicurarci che veramente bisogna coinvolgere tutti quanti allora forse non è stato propriamente vero che sono stati coinvolti tutti quanti non l'ho detto io l'ha detto un vostro collega di maggioranza quindi a sto punto iniziate veramente a coinvolgere tutti quanti in queste decisioni non è di certo quello che avete fatto adesso perché quando è arrivata una proposta di uno stakeholders uno stakeholder scusate sì uno stakeholder ovvero l'ANCE non l'avete neanche preso in considerazione nonostante si parlasse di quanto 2,66% del territorio ecco quindi si tratta di una parte piccolissima del territorio si tratta di una proposta di chi tratta quotidianamente queste tematiche non l'avete neanche presa in considerazione e questa è l'apertura mentale che dimostrate e allora quando arrivano le proposte da parte degli stakeholders plurale forse bisogna anche tenere in considerazione il peso che questi stakeholders hanno perché nel momento in cui si fanno questi incontri pubblici dove quante persone hanno partecipato 450 500 600 facciamo 1000 va bene bisogna tenere in considerazione e mi ricollego a un documento dell'Unione Europea per quanto riguarda le politiche abitative le politiche abitative da parte dell'Unione Europea il documento inizia dicendo teniamo in considerazione che il mondo dell'edilizia è il mondo dell'edilizia è la più grande il più grande settore economico dell'Unione Europea il volano che genera l'edilizia 10% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea 10% non 0 virgola quindi vuol dire che se persone del mondo dell'edilizia fanno delle proposte non le fanno così per capricci o perché sono egoisti perché vogliono soltanto vedere il loro portafoglio pieno a dispetto della maggioranza che governa Pordenone o a dispetto dei cittadini no è perché queste persone queste persone fanno parte di un settore che è strategico è fondamentale per l'economia di tutta Europa di tutto il mondo e allora mi spiace dover constatare che invece l'amministrazione comunale di Pordenone di fronte ad una lettra probabilmente è arrivata tardi ma perché magari ancora la documentazione ufficiale non era nelle loro mani non è neanche voluto prendere in considerazione la possibilità di considerare come valida l'opportunità questo documento da parte non di un cicci burricci qualsiasi ma da parte dell'associazione nazionale dei costruttori che rappresenta una notevole fetta dell'economia locale e quando si parla di economia locale si parla anche di lavoratori che magari recependo lo stipendio per una casa o una costruzione eseguita possono a loro volta permettersi il potere acquisire un edificio un appartamento quindi se dicono guardate che con queste condizioni non siamo in grado di poter intervenire per costruire utilizzando le strutture esistenti perché un esempio è quello dei famosi cappotti che sono più o meno finanziati al 50% dello Stato penso che si possano contare sulle ditta di vabbè facciamo tre mani quanti cappotti sono stati rifatti a Pordenone nonostante praticamente lo Stato ti dia il 50% dei contributi ma certamente anzi guarda questo perché questo perché bisogna bisogna avere gli strumenti per poter intervenire bisogna utilizzare tutte le risorse disponibili tutti i progetti che ci sono per poter abbassare i costi di costruzione utilizzando la tecnologia esistente ci sono notevoli progetti da parte dell'Unione Europea magari avendo avuto un parlamentare europeo in grado di girare a voi informazioni magari avreste avuto anche qualche come scusa dicevo avendo avuto un parlamentare europeo in grado di girare le informazioni su quanto avveniva a Bruxelles probabilmente sareste stato anche in grado di ricevere qualche informazione utile a fini di poter utilizzare tutte le progettazioni e gli studi che ci sono nell'Unione Europea ma evidentemente era occupata a fare altro e quindi non avete avuto tutte queste informazioni poi sempre per quanto riguarda il grado di apertura mentale ora lungi da me il condividere o meno tutte le idee che possono essere lanciate dal collega Giannelli ma qua veramente si tratta che ogni qualsiasi idea che viene da una persona che non fa parte di questa maggioranza viene assolutamente bocciato perché ora questa maggioranza non ha fatto assolutamente niente in questi anni che non fosse l'ordinaria amministrazione e faccio un esempio le caserme le caserme a Spilimbergo hanno dimostrato che non ci si muove soltanto se si riceve un finanziamento regionale se interviene qualche finanziaria regionale a dare dei contributi se si ha un progetto che funziona i soldi si trovano magari anche tra le proprie casse e non per forza che devono essere quelle degli altri e si porta avanti un progetto a Spilimbergo dove tra l'altro hanno già riutilizzato quattro caserme nel territorio di Spilimbergo l'ultima è una caserma la caserma dei Gasperi che acquisita dal comune gara fatta per costruire un parco fotovoltaico nel giro di due anni è stato realizzato tutto quanto senza finanziamenti di enti esterni al comune di Spilimbergo e a partire da quest'anno inizia a dare 115 mila euro all'anno per 25 anni come scusi dateci l'hanno comprata loro l'hanno comprata la caserma il comune di Pordenone deve andare oltre il comune di Pordenone deve andare oltre no vedete effettivamente siete veramente un po' un po' coi paraocchi era per dire no no signor sindaco signor sindaco guardi eh l'esempio era per dire andate oltre a quelle che sono l'ordinaria amministrazione compiuta di questi anni perché ci sono tante possibilità questa amministrazione le ha perse tutte non è mai andata oltre al discorso del eh ma non ci arrivano i soldi della regione eh ma il PISUS è fermo per colpa di quello eh ma la provincia non ci dà i soldi per fare le casette dell'acqua eh però guardate che siamo limitati per quando c'è un progetto serio e si individua la possibilità di avere 115 mila euro all'anno per 25 anni magari si può anche pensare di spendere qualche soldo adesso per avere degli introiti dopo ma è qua sono sono d'accordo con quanto detto dal collega Pasutto ogni tanto forse un po' di fantasia manca e non è la fantasia al potere sessantottina che era per dire facciamo quello che ci pare poi quello che succede succede no è semplicemente dire è un momento di difficoltà ma io no tu forse si però i danni li abbiamo visti per quanto riguarda per quanto riguarda il discorso che stavo facendo era per cercare di andare oltre quella che l'ordinario amministrazione e dire conosco la macchina la macchina del comune faccio in modo di sfruttare le leve che ci sono per poter avere delle entrate e senza ogni volta dire tutto dipende dalla regione dalla provincia dall'Unione Europea dallo Stato perché altrimenti così non andremo da nessuna parte quindi cerchiamo di essere un attimino un po' aperti di vedute e soprattutto cercare anche di ascoltare quelli che possono essere suggerimenti utili perché altrimenti dimostrate veramente di essere tetragoni come diceva il collega Dalmas detto questo sapendo che onore di urbanizzazione il totale tra l'altro degli onori di urbanizzazione incassati dal 2001 al 2013 sono 27 milioni di euro mica noccioline soldi che mancheranno e che sicuramente si sentiranno quindi cerchiamo assessore sindaco e maggioranza di veramente dare seguito a quando dite noi siamo ricettivi ascoltiamo tutti siamo disponibili ad accettare suggerimenti cerchiamo di farlo seriamente perché sono state fatte anche delle proposte serie però sono state scartate anche questa volta siccome mi dicono che il percorso da qua all'adozione del piano regolatore sarà di nove mesi penso che in nove mesi si possa accertare anche un'idea che proviene da qualcuno diverso da voi e magari farla propria grazie grazie consigliere Lopafido consigliere De Bortoli prego se i cari colleghi io non avevo dubbi che la la sestora di Toffolo facesse un bel lavoro nella linea guida del piano regolatore generale del comune anche perché abbiamo messo a disposizione una struttura da 10 milioni di euro per fare tutte le sue cose in centro a Pordenone e non poteva che scatturire un documento così importante in buona sostanza sì Palazzo Badini lei l'ha fatto lì tutte le sue cose per il regolatore non si ricorda ma l'abbiamo dedicato l'abbiamo comprato anche per queste cose d'altra parte se non facessimo queste cose quel palazzo si farebbe altro poco sarebbe chiuso o quant'altro insomma se non verrebbe utilizzato sì ma lo vediamo Pordenone diventa peggio di Firenze proprio tra musei strutture e via dice ma non è un problema non è un problema tanto lo pagano i cittadini questo servizio qua non si preoccupi non si preoccupi ma non si preoccupi di questo non si preoccupi il suo bel documento è buono fino al 17esimo foglio come diceva no? però dopo il 18esimo 19esimo ha dato una sentenza ha dato la sentenza che questa città è fallita negli ultimi 20 anni è fallita perché con le norme di salvaguardia lei ha sancito il fallimento di questa città chiaro su questo cosa ha detto? ha detto che questa città è andata oltre ha costruito troppo ma chi è che faceva queste cose qua? noi della minoranza noi suggerivamo noi suggerivamo guardate che non si può continuare a dare costruzioni l'ultima è quella dei congafi quando Pasini ha fatto via selvatico il pirolotto in mezzo alle villette e il nostro vicepresidente della giunta regionale con noi che all'opposizione eravamo di Pasini corremmo là a difendere quelli che abitavano attorno a quel pirolotto e voi in lì nella rotonda del bistrò avete fatto la stessa cosa c'era un piccolo faccioletto di terra avete mandato su un quattro piani bellissimo poi chiederò dove sono i parcheggi già di quelli che ci lavorano voglio vedere dove parcheggiano le macchine o quelli che ci andranno ma bellissimo perché Bordenone non aveva sufficienti volumi da poter ospitare una simile funzione di un ente che poteva essere chiamato in comune e dire amico mio perché devi costruire abbiamo volumi vuote a Iosa acquisto un piano dei nostri meravigliosi palazzi che abbiamo in centro e fai lì i tuoi uffici no abbiamo potuto cedere anche lì non più tardi di 4 o 5 mesi fa 6 mesi dove io votai contro ma tutta la maggioranza votò a favore naturalmente a costruire proprio in quella zona così nella rotonda in modo che così sia tolto anche un giorno di intervenire in quella meravigliosa piazzetta che c'è guardate dove è costruito ci sono le transene nei margini dopo nel sedimento stradale addirittura adesso quando lo smonteramo smonteramo vedremo questa bellissima struttura tra le villette oscurate anche qua ma ognuno deve lasciare il suo segno in questa città evidentemente non su questo ecco per dire poi che questa città insomma abbiamo un bellissimo meraviglioso dolcese veneziano che doveva essere l'archeologia industriale di Pordenone e guardate che in situazioni sarà sono sicuro che sarà ancora in piedi questa archeologia industriale una zona strategica come l'olcese veneziano lì abbandonata perché non serve a Pordenone quella meravigliosa struttura ristrutturata c'erano mille progetti no non serve è passata di mano in mano ma l'amministrazione comunale nulla ha proposto anche se era in mano a privati ma noi gestiamo il territorio come stiamo dimostrando adesso ma nulla ha proposto a me che stia così ratti topi cani randaggi va benissimo in centro Pordenone l'area strategica come l'area strategica che fece Pasini a nord adesso lei blocca tutto io voglio vedere ci c'era qualcuno il grano turco parlava prima di grano turco la zona strategica di via Slavons abbiamo un condominio lì delle vilette a schiera lì campi di grano deserto terreno incolto ma adesso lei blocca e lì cosa succede cioè dove sono i servizi di quella zona lì che era un'area strategica a nord e non ci sono esondazioni non ci sono fiumi lì non so speriamo che costruiranno ancora perché altrimenti avremo queste piccole cattedrali nel deserto senza servizi sparsi in quella zona bellissima no questo per dirle in buona sostanza che c'è oggi sotto gli occhi di tutti il fallimento di questa città inutile che qua si dice che ci metteremo a correre fra poco certo guardi che spingono per venire a Pordenone c'è un sacco di gente che viene ogni giorno e dovrà riempire i parcheggi come qualcuno ha detto ma per far cosa se non c'erano più neanche i negozi ormai anche i negozi tradizionali stanno sparendo per quella meravigliosa vostra visione di aver fatto la cintura a Pordenone di tutti i centri commerciali tutti dallo Smart fino al centro Meduna bellissimo tutto fuori da Pordenone adesso avremo i nostri anziani dei viaggere che prima mattina prenderanno la macchina prendersi pane e latte andranno la coppa andranno prendere la macchina e quando non potranno saranno i figli a fare questo lavoro ma è questo il risultato via le Trento via le Marconi io sono sicuro che nel prossimo futuro con questo meraviglioso piano ci sarà gente che correrà a Pordenone aprire attività di tutti i tipi anzi saremmo anche in difficoltà dovremmo fare altri parcheggi in questa città qua come diceva Giannelli scavare Piazza della Motta e buttare giù il Bronx tutte queste bellissime meravigliose cose invece io sono convinto che Pordenone non decolle e lo dimostra ma scusate ma come mai Pordenone rimane a 50.000 abitanti mentre Porcia Roverede sono aumentati molto ma perché si vive meglio lì o si vive meglio a Pordenone chissà come mai qualcuno emigra sui comuni limitrofi se domani non dovessi ripartire l'occupazione e lassano via i 5-6 mila una parte non dico tutti emigrati noi diventeremo una città di 44 mila abitanti perché abbiamo 16% di extracomunitari qua che hanno la facoltà di emigrare loro a differenza di noi che siamo più stanziali dunque se domani mattina non riparte il lavoro questa città potrebbe rimanere una città di 44 mila abitanti altro che scatole mentre Porcia va oltre 15.000 e Roverede sta andando veramente molto forte Cordenone è arrivato a 20.000 ma si vede che noi siamo sfigati come si dice Cordenone scappano vanno nei paesi limitrofi mentre noi qua siamo meravigliosi ho sentito qui fare gli elogi di questi 20 anni di amministrazione abbiamo azzeccato tutto anzi adesso che ci metteremo a correre ci sarà una preoccupazione che tutti quelli sbotteranno i paesi vicini cioè arrivano tutti quanti qua e allora ecco che noi cresceremmo arriveremo a 60-70.000 abitanti mentre Porcia Cordenone diminuiranno troviamo anche lì un sacco di case sfitte e invendute questo è l'obiettivo bene ma a meno che non so forse avete qualche ricetta che noi non comprendiamo però e volevo dirvi anche adesso caro assessore Zille anche per gli alpini io avrei arredato tutti questi volumi vuoti che abbiamo in centro a fare foresterie per gli alpini avremmo risolto un sacco di problemi invece di mandarli a Oderso a Bibione qui c'è guardi se lei guarda i volumi vuoti che abbiamo sa quanti alpini potremmo aver ospitato in centro a Pordenone un'infinità mi creda un'infinità senza mandarli in giro perché basta vedere no? c'è affitti dappertutto guardi ha chiuso anche il bistro ha chiuso Mingotte ma noi fra poco ci metteranno poi abbiamo fatto anche questo grande progetto la meravigliosa via Capucini tanto due anni fa qua lavori commissioni un disastro di idee e vedete che bellissima via Capucini io passo vado lì a Panificio ogni tanto è bellissima è frifatta nuova proprio è modificato da tre anni che avete preso in mano questa amministrazione poi ci rammaggiamo perché qualcuno decede su una rotonda in centro città ma non è che fa un incidente con un autovettore no no un autobus un tir cioè nel senso che noi abbiamo un centro cittadino che passano i tir cioè qui basta vedere e lo ribadisco via le rigoletti perché non è stata un'autovettura questa che ha ucciso un ragazzo c'è stato un tir un grande camion che l'ha preso sotto le ruote ma si vede che noi abbiamo proprio una buona cultura che il camion io le farei passare anche in piazza di sorgimento in piazza 20 settembre perché è giusto che possano filtrare tutta la città di attraversamento magari così tanto è vero che li vediamo vengono a città di macinazione i tir fanno un sacco di fatica a entrare che se noi facessimo quelle manovre prenderemo la multa invece per loro alcune volte mettiamo addirittura dei vigili per permettere i tir di entrare in città di macinazione ma è giusto che in centro a Pordenone ci sia un bel silo di sua immacinazione perché c'era un vecchio progetto di quelli che c'erano molti ma molti anni fa dove prevedevano la grande Pordenone ma adesso si fa un po' a metà si fa una stazione delle Corriere ma alla mattina si aspetta tre ore per attraversare perché tutti quelli che scendono dal treno naturalmente bloccano via Oberda perché passano uno alla volta e tu non si mette un semaforo non si trova una soluzione lì lì assolutamente aspettiamo che magari uno la mattina con un po' di fretta metta sotto qualcuno che scenda dal treno per arrivare in centro perché questo è un problema tangibile basta vederlo sostisce pedonali due doppie stazione delle Corriere stazione ferroviaria ma lì alla mattina nulla è stato cambiato parcheggi sono stati tolti adesso si deve imparcheggiare di andare in via Candiani dietro ma sperando che non sia una partita perché se si va a vedere la partita via Candiani è gratuito se invece si parcheggia per arrivare a Pordenone si paga il ticket ma va bene così cioè queste sono le avanguardie che facciamo a Pordenone evidentemente ma io non voglio andare proprio tanto avanti perché sono vecchio anche come l'amico Rossetto e come lui resistiamo anche alle due in Consiglio Comunale siamo arrivati anche alle cinque in Consiglio Comunale io e Elio quando di là c'era Pasini che tanto abbiamo criticato vero Elio? ecco benissimo come vedete quelli che insomma hanno a cuore la città stanno anche ma non per gli altri ma perché effettivamente anch'io penso che un documento così importante a mio avviso deve essere coinvolto a mezza città e non discusso così dopo 30 anni 28 anni da 86 l'ultimo facciamo un piano regolatore le linee guida di un piano regolatore e cominciamo così e cosa lo facciamo? alle due di mattina con i vigili qualche buon cristiano che è qua ad ascoltarci magari ma dico questo è il modo di fare cioè non era meglio forse convocare un Consiglio Comunale 3 visto che c'era tutta questa importanza tanto i consiglieri comunali sono a disposizione tutto il giorno perché convocare le 6? no? i consiglieri comunali si possono convocare anche le 3 perché quella giornata sono dedicati visto che si candidano al Consiglio Comunale potrebbero dedicare la mattina alle 9 per una cosa così importante che si porta dopo 30 anni in Consiglio Comunale non è che ogni giorno qui o una volta l'anno arriva il piano regolatore o le linee guida di un piano regolatore arriva dopo dall'86 adesso dunque magari forse si poteva anche fare un Consiglio Comunale permettendo la gente porderonese a venire ad ascoltare queste bellissime innovazioni che l'assessore Toffolo ci ha preparato invece no è una cosa che rimane chiusa qui domani mattina avremo i giornali che scriveranno le solite cose a favore della maggioranza perché ormai è così di fatto non fanno comunicazione fanno fanno elogi su questo si propaganda bravo bravissimo hai indovinato proprio quello che è il termine esatto di questo propaganda allora per dire in sostanza che quando si fa un documento quando si comincia un piano regolatore è una aspettativa è un volano di economia e invece noi cosa facciamo lo facciamo è un volano di economia fino al 17 foglio 18-19 blocchiamo tutto ma è il mercato che poi decide ma io non ho capito questo si danno le guide come diceva Giannelli prima la qualità delle strutture che dovranno essere migliori di quelle abbandonate si va a risulturare tutto ciò che ci deve risulturare è vero tanto è vero che abbiamo in via Montareale la casa dei generali l'ha abbandonata da 25 anni di roccata che potevano anche essere ristrutturate e fatte case popolari che ce n'è tanto bisogno in questo periodo ma no ma abbiamo strutture in giro abbastanza abbandonate qua di fronte in via dove sono le lì però dove ha fatto la struttura la corte c'è una struttura provinciale lì abbandonata non so se serve da parcheggio sì ex vigile dei fuoco lì ma vabbè ci sono strutture da fare vediamo quello che si riesce da fare però io dico un piano regolatore generale del comune dovrebbe essere un volano economico per le forze che agiscono nella città e invece questo qui è una depressione una cosa che non porterà a mio avviso nulla a nessuno anzi si bloccherà e si cercherà di recuperare gli errori fatti in tutto il periodo perché assessore lei nel momento che con due pagine blocca tutto vuol dire che è stato fatto un grande errore che ha gestito questa città e sicuramente questa città non l'abbiamo gestita noi dell'opposizione ma l'avete gestita voi e grazie a Dio non abbiamo capri spiatori che potete dire ma c'era prima questo c'era prima quello perché 13 anni siete qua voi che la fate e se c'è qualcosa che non avete fatto non dovete dare colpa a nessuno e se avete fatto qualcosa dove ci hanno portato a lei a prendere provvedimenti oggi come ha preso in conclusione del suo piano di indirizzo evidentemente qualcuno prima di lei o lei stessa ha fatto qualche errore nello sviluppo di Pordenone e spero che questa volta ci pensiate bene prima di portare avanti quello che portate avanti in questi 8-9 mesi in buona sostanza perché queste sono soltanto le linee guida adesso vediamo se sono linee guida per rendere flessibile le vostre scelte oppure se varranno per tutti le vostre scelte le osserveremo bene questo su questo su questo su questo su questo fatto qua io comunque dico soltanto questo Pordenone potrebbe essere veramente il traino capologo della provincia oggi invece siamo qui che annaspiamo e cediamo terreno ai comuni che sono confinanti a noi anche il fatto di diventare grande città di 100.000 abitanti insomma da 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 qualche pensiero perché dovrei dovremmo diventare noi come Pordenone una città di 60.000 abitanti piuttosto senza andare a rodere i limitrofi no perché altrimenti va bene che adesso con la provincia abbiamo il nostro sindaco che farà il sindaco di Pordenone il coordinatore delle province il senatore a Roma cioè qua sembra che ormai non conta più un granché d'altra parte cosa vuole siamo uno Stato che ha cambiato tre governi senza mai dare le votazioni dunque la democrazia è un pochino a rischio mi avviso lo vedremo poi quando aboliremo anche le circoscrizioni e venderemo le associazioni sportive qua metteremo le associazioni culturali e sportive a gestire il territorio mentre il comune non so forse ci potrebbe anche abolire il consiglio comunale vedete e poi così tedioso lungo fino alle due di mattina io eliminerei anche il consiglio comunale ormai che siamo dietro se voi parlate con Renzi potreste che abbia una bella idea anche di eliminare il consiglio comunale magari così non abbiamo neanche queste piccole spese e però dico alla democrazia cosa volete che conta oggi ormai il capo dello Stato nomina 21 senatori gli altri li prendiamo così dove capita leviamo leviamo il senato li mandiamo una volta al mese a Roma una volta al settimana tanto non costa niente aerei treni tutte quelle cose che succederanno le vedremo poi sotto l'aspetto del bilancio ma per dire questo caro Assessore la ringrazio per il lavoro che ha fatto come le ho spiegato è piaciuto e l'ha spiegato molto bene però dubito che con quello che poi lei ha concluso possiamo fare veramente un gran bene a questa nostra città e a coloro che operano in questa grossa città grazie grazie non vedo nessun iscritto perciò passiamo al secondo intervento nessun iscritto di chi consigliere prego la simpatica osservazione del collega Emanuele Loperfido mi ha fatto ricordare una cosa che volevo citare prima e che cito adesso nel secondo intervento l'avevo sottolineato l'assessore Toffolo prima così quando ci siamo scambiati due battute è vero ci sono se leggete al punto 6.3 queste linee dichiarano che la città di Pordenone dovrà preoccuparsi dovrà occuparsi anche di rivalorizzare il commercio di promiscuità che significa rivalorizzare i negoziati del centro perché non c'è non c'è scambio commerciale scusa scusate sì prossimità la stanchezza la stanchezza volevo dire prossimità volevo dire prossimità ed è lo stesso assessore che ha promosso il raddoppio del del centro Meduna che propone queste cose ora io credo che solo i paracarri non cambiano idea e non si accorgono del mondo che cambia e allora non voglio polemizzare con il consigliere Loperfido perché sarebbe proprio come no tirarsi da soli però è vero c'è un'amministrazione anche in piena contraddizione rispetto alle nuove necessità di questo paese allora lei probabilmente non mi ha ascoltato bene io credo che questa città abbia nuove necessità delle quali noi ci dobbiamo occupare è un po' come è un po' come il corpo quando uno a un certo punto vede che è in metastasi e il medico dice che è necessario fare la chemioterapia si deve fare la chemioterapia appunto non ci sono discussioni se c'ero io prima se c'era quell'altro prima si devono fare delle scelte impopolari contraddittorie rispetto a questo ma si deve avere il coraggio di andare avanti e questa amministrazione ha fatto qualche cosa adesso ma adesso è un po' tardi perché siamo al terzo anno di amministrazione passano i nove mesi di queste riflessioni che poi sono cose in realtà questo è uno strumento che andrà in mano alla prossima amministrazione non a questa non si riuscirà a fare assolutamente niente non siamo neanche riusciti a provare una viabilità in messa in sicurezza di via Capuccini grazie Walter che mi ricordi questa roba qua ma solo provare solo sperimentare con quattro pacchetti di plastica per vedere se messa in maniera diversa poteva funzionare e mettere in sicurezza la gente che va sotto i mezzi che fa incidenti tutti i giorni ora uno slancio uno slancio uno slancio una fantasia qualche cosa dovete inventarvi qualche cosa questo è un lavoro discreto fatto dal suo punto di vista fatto bene però è assente di 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 diverse di mancano mancano elementi importanti per un cambio significativo della città di Pordenone grazie grazie consigliere Piccinato prego grazie presidente cosa aggiungere i consiglieri di prima i consiglieri che mi hanno preceduto hanno ben parlato praticamente su tutto mi piacerebbe fare solo una breve divagazione sui riflessi che ci possono essere con i comuni limitrofi di questo piano regolatore io spero che si possa effettivamente andare incontro anche alle esigenze comuni dei territori per poter essere più efficienti in qualsiasi ottica si possa andare sia di conurbamento che di fusione di continuazione così che quello che si vuole in maniera tale che si riesca a fare un lavoro più concordato possibile quindi auspico che poi ci possa essere un discorso di quel tipo e sicuramente poi ci terrete aggiornati anche su questo grazie grazie consigliere vicinato bene dichiaro chiusa la discussione prima di passare dichiarazioni di voto do la parola all'amministrazione prego grazie presidente sono stati fatti molti interventi ringrazio i consiglieri per quanto ha portato alla discussione sento di voler specificare alcune alcune questioni in modo molto rapido innanzitutto terremo conto di quanto proposto dal consigliere franchin perché effettivamente il documento che lui citava è un documento interessante per la città è un documento che nasce a seguito di un percorso lungo e che dà delle indicazioni importanti sulle modalità di vita che noi vogliamo definire di conseguenza verrà tenuto in seria considerazione nella stesura per quanto riguarda la questione sollevata delle salvaguardie voglio ritornare su questo per essere nuovamente chiara non è che le salvaguardie hanno dato l'amazzata l'amazzata al settore dell'edilizia l'ha data il mercato e la crisi che stiamo vivendo dal 2008 a oggi un mercato che noi abbiamo vissuto l'ha ben chiarito il consigliere Loperfido nel momento in cui ha letto i valori degli oneri di urbanizzazione che ha indicato anche però già uno spostamento perché quegli oneri si sono formati non tanto nelle nuove costruzioni ma in tutta una serie di azioni di riqualificazioni che sono nate in città e che si stanno sviluppando allora la questione non è tanto quella del dire vogliamo deprimere ulteriormente un settore siamo convinti che però quello che ad oggi è il modello di sviluppo del settore edilizio sia un modello che va ripensato va integrato va rimesso in discussione e questo lo si fa anche pensando di sospendere delle possibilità di intervento in zone che ad oggi risultano di potenziale possibilità di rimessa in discussione di un disegno complessivo ed è solo con questa azione che noi abbiamo finalizzato il nostro intervento sapendo e controllando con estrema attenzione e serietà quello che andavamo a fare cercando di capirne i pesi ma soprattutto auspicando che da parte delle categorie di settore ci sia la volontà di ragionare su quelle che sono le azioni per rimettere in moto quello che è uno dei volani maggiori della nostra edilizia e della nostra economia e che è il settore dell'edilizia il settore dell'edilizia avrà l'intenzione di trovare non tanto quelli che sono modalità di investimento finalizzato all'immobiliarismo l'edilizia è trasformazione del territorio ma è trasformazione messa in sicurezza dello stesso è azione di rivisitazione del patrimonio esistente l'edilizia e l'indotto che si tira dietro nella riqualificazione delle case che determinano il nostro territorio non è solo nuove costruzioni forse da ridiscutere come allocazione ed è con questa logica che noi ci stiamo ponendo ed è per questo che nel momento in cui la lettera dell'ANCE si focalizza sul problema del credito in fondo si sta concentrando su uno degli aspetti della complessità del mondo delle costruzioni e dell'edilizia che invece noi speriamo di mettere seriamente in movimento con un'altra modalità di azione e a questo noi speriamo che il settore ANCE sia disponibile a sedersi con noi ad un tavolo e a ragionare perché le imprese le piccole imprese lavorano proprio sul tessuto minuto lavorano sulla capacità di trasformazione sugli interventi di riqualificazione sulla capacità adattativa della nostra città alle esigenze e questo può essere un volano che parte proprio radicato alla nostra economia e al nostro territorio tirandosi dietro anche il settore del mobile e tutto quello che è l'indotto che gravita intorno a questa parte produttiva ed è con questo che noi appunto pensiamo di agire ed è questa la strada che vorremmo percorrere le direttive sono un primo passo sono come diceva giustamente Dario Zanut sono un primo passo da percorrere per arrivare a costruire un'idea è stato molto ironico il consigliere De Bortoli però io mi auguro che al di là dell'ironia le nostre azioni abbiano la finalità di modificare qualche cosa e di modificarla per le persone che verranno per i giovani per i nostri figli i miei figli e di fronte a questo io l'ironia non riesco a sostanziarla più di tanto e quindi lavoriamo seriamente per cercare di modificare e di rendere attuale rispetto alle aspettative di oggi la nostra città grazie è l'ordine del giorno l'emendamento Giannelli in pratica chiede la cercando l'emendamento Giannelli eccolo ci avevo scritto sì ecco perché l'emendamento Giannelli dice anche delle cose cioè amplia addirittura le salvaguardie ad ambiti che non sono neanche interessanti alle salvaguardie perché dice tutte le aree oggetto e distanza volte all'ottenimento del relativo titolo abilitativo come si diceva all'inizio della discussione tutte le zone bi ad attuazione diretta non sono neanche prese in considerazione per il resto noi siamo convinti che quelle poche aree identificate siano quelle necessarie per mettere in gioco delle altre dinamiche non per penalizzare ma per attivare delle modalità e siamo disposti come amministrazione a essere attenti e solleciti nei confronti di ogni istanza che ance o più che ance il settore degli immobiliaristi vorrà presentarci come problematicità l'emendamento in sé andrebbe a negare una delle scelte che è quella del rimettere in conto una parte del territorio per quanto riguarda l'ordine del giorno mi sembra che la richiesta del correga del consigliere Pasuto sia quello di inserire nel dibattito futuro il contenuto allora io faccio presente che noi abbiamo già programmato per il lunedì prossimo il 14 una nuova puntata di Pordenone più facile per dire ai cittadini raccontare ai cittadini quello che stasera ci siamo detti e presentare le linee guida e da lì inizieremo a riattivare i percorsi sulla costruzione appunto della seconda fase partecipativi e quindi naturalmente questo farà parte di quel dibattito se vuole trasformarlo in raccomandazione il modo che il verrà anche analizzate verranno analizzate e valutate anche queste non si mette lo accetto come raccomandazione allora i contenuti espressi che ho espresso con l'ordine del giorno si riassumono nella parte conclusiva dove si dice che il cammino di queste linee considerino quello che abbiamo detto qui dentro insomma che ci siano delle scelte anche di rinnovamento di nuova strutturazione della città importanti insomma che non si facciano soltanto azioni di macchiaggio insomma ma che ci siano scelte importanti di riqualificazione della città grazie adesso la parola al signor sindaco prego volevo concludere condividendo con voi ma immagino non abbiate già lette le notizie riguardo a Electrolux che sono arrivate da Roma che sottolineano due cose uno che di fatto gli stabilimenti italiani rimarranno tutti aperti che anzi nel caso degli altri tre quindi non di Porcia c'è a volte addirittura un rafforzamento dei volumi per quanto riguarda Porcia l'azienda ha ribadito quel piano di compressione della produzione diciamo quindi i famosi 750.000 pezzi di cui avevo parlato credo all'inizio del nostro dibattito ma sottolineando anche che non ci saranno esuberi fino al 2017 questa notizia ho ricevuto anche dei messaggi e delle telefonate piuttosto brevi questa notizia secondo me deve essere sarà per quanto riguarda Porcia circostanziata capita meglio nei prossimi giorni perché comunque quello che si diceva di questa trattativa più locale quella che viene definita di secondo livello all'interno dei singoli stabilimenti accadrà e si capirà bene quindi le modalità di utilizzo dei contratti di solidarietà e le altre formule che possono essere utilizzate come si si svolgeranno quindi c'è una certa soddisfazione ma nel caso di Porcia come è stato già sottolineato nelle dichiarazioni con grande prudenza e anche per capire meglio effettivamente dopo il 2017 che ci aspetta perché ho voluto partire nel concludere con questa con questa informazione perché io sostengo che noi abbiamo davanti questi tre anni il fatto dell'Electrolux è uno degli ingredienti della ricetta per capire dal punto di vista proprio del rilancio della programmazione della città che cosa vogliamo fare e il fatto che in contemporanea ci siano il piano regolatore il piano della mobilità il piano energetico le zonizzazioni acustiche sono nella linea che il tempo che abbiamo davanti deve essere proprio utilizzato per essere pronti negli anni a venire più rapidamente possibile ad avere una forma diversa per affrontare il mondo che saremo capaci dal punto di vista economico di creare dei rilanciati io concludo questa parte dicendo che mi sembra che alla fine i contenuti delle direttive di per sé certo le critiche e i miglioramenti per carità però alla fine sono stati condivisi e sono stati condivisi anche dall'associazione nazionale dei costruttori dai rappresentanti locali vuol dire che l'idea che io ho sintetizzato nove mesi per riusare i cubi per usare proprio una formula ultrasintetica e alla fine qualche cosa che tutti abbiamo in questi anni di dibattiti sul tema abbiamo fatto proprio le salvaguardie sono state e sono probabilmente il terreno dello scontro l'unico terreno su cui non c'è convergenza io penso che il fatto di averle disegnate configurate e svolte come sono state illustrate non siano una penalizzazione siano semplicemente il fatto di rafforzare la linea politica che noi vogliamo portare avanti e sono insisto transitorie quindi non debbono essere viste come uno strumento che improvvisamente con un golpe ha cambiato la configurazione dell'edificabilità o dell'utilizzo delle aree e non è quindi quello che noi abbiamo presentato un qualche cosa di contro chi soprattutto lavora nella parte edile costruttiva in generale ma un piano per perché o noi riusciamo a introdurre delle accetto l'osservazione della sfida che è stata fatta delle regole che consentano delle norme reali per aiutare questa riconversione energetica degli edifici quindi un grande riutilizzo del patrimonio che abbiamo è evidente che anche per chi si occupa della parte immobiliare il residuo che presenta la città dal punto di vista operativo pratico non è che abbia un grandissimo respiro noi ci dobbiamo reinventare tutti un modello e loro stessi devono partecipare con noi ed aiutarci in nove mesi ad arrivare in fondo perché è non dico soprattutto ma sicuramente anche nel loro interesse vedere questo processo di trasformazione della città ultimato e provato noi saremo se seguiamo quello che abbiamo detto sicuramente all'avanguardia per quanto riguarda il futuro della nostra città e l'assetto che questa città presenterà dopo appunto questi tre anni di moratoria che abbiamo dal punto di vista tra virgolette del lavoro non so se ho sottolineato abbastanza a questo punto grazie per l'attenzione grazie per la presenza fino a quest'ora grazie signor sindaco passiamo alla dichiarazione di voto consiglio appiccinato prego grazie presidente due considerazioni ho apprezzato comunque la profondità del lavoro dell'assessore e di tutti coloro che hanno partecipato a queste linee di indirizzo come ho già detto tante delle questioni le condivido a livello personale e sono sicuro anche i colleghi del mio gruppo ci sono dei punti che sono da chiarire dove vorremmo approfondire meglio il discorso per questo motivo daremo comunque un darò un giudizio di estensione benevola per valutare poi il lavoro che verrà fatto grazie consigliere nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiusa la dichiarazione di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione metterò in votazione prima l'emendamento e dopo la deliberazione pertanto allora pongo in votazione l'emendamento alla delibera alla proposta di delibera numero 13 del 2014 presentata dai consiglieri dal gruppo di Forza Italia il consigliere Valtade Bortoli Andrea Cabibbo Franco Dalmas Francesco Giannelli dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuso le votazioni l'esito della votazione seguente presenti 27 votanti 27 maggioranza 14 favorevoli 2 contrari 24 astenuti 1 l'emendamento viene respinto bene pongo ora in votazione la deliberazione pongo in votazione la proposta numero 13 2014 approvazione documento piano regolatore generale comunale le energie della città direttive strategie politiche per il governo del territorio ai sensi dell'articolo 63 bis coma 8 la legge regionale numero 5 2007 e successive modifiche di integrazioni dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione seguente presenti 27 votanti 27 maggioranza 14 favorevoli 23 contrari nessuno astenuti 4 la delibera è stata approvata pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito della votazione seguente prese un attimo signori un attimo devo leggere scusate un attimo abbiamo finito L'esito della votazione è la seguente. Presenti 27, votanti 27, maggioranza 21, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti 4. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Bene, signori, dichiaro chiuse le operazioni, i lavori del Consiglio. Il Consiglio verrà riconvocato a domicilio. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie.